La Locanda della Tormenta presenta Le Indie Nere di Jules Verne Buon ascolto! Se James Starr vuole recarsi domani alle miniere di carbon fossile di Aberfoyle, Fossa Dockhart, Pozzo Yarrow, gli sarà fatta una comunicazione che sicuramente lo interesserà. Il signor James Starr sarà atteso tutta la giornata alla stazione di Callender, Derry Ford, figlio del vecchio Overman Simon Ford. Si prega di tenere segreto quest'invito. Tale fu la lettera che James Starr ricevette con il primo corriere, in data 3 dicembre 1800, lettera che portava il bollo dell'ufficio postale di Aberfoyle, Contea di Stirling, Scozia. L'ingegnere si incuriosì vivacemente e non gli passò nemmeno per il capo l'idea che la lettera potesse contenere una mistificazione. Conosceva da molto Simon Ford, uno dei più anziani sorveglianti delle miniere di Aberfoyle, di cui egli, James Starr, era stato per vent'anni il direttore, o come dicono nelle miniere inglesi, il viewer. James Starr era un uomo robusto e i suoi 55 anni non gli pesavano più che se ne avesse avuti 40. Apparteneva una vecchia famiglia di Edimburgo, di cui era una delle persone più in vista. I suoi lavori facevano onore alla rispettabile corporazione degli ingegneri che divorano a poco a poco i substrati carboniferi del suolo del Regno Unito, a Cardiff e a Newcastle, come nelle basse contee della Scozia. Il nome di Starr si era guadagnato la stima generale, soprattutto in fondo le misteriose miniere di Aberfoyle, che confinano con quelle di Alloa e che occupano parte della contea di Stirling. Lì era trascorsa quasi tutta la sua esistenza. Inoltre, James Starr era presidente della Società degli Antiquari Scozzesi e faceva parte della Royal Institution, come uno dei membri più attivi. La rivista di Edimburgo pubblicava di frequente notevoli articoli con il suo nome. Era, come si vede, uno di quegli scienziati pratici ai quali è dovuta la prosperità dell'Inghilterra e che occupava una posizione di rilievo nella vecchia capitale scozzese, che non solo per la sua configurazione, ma anche moralmente, ha potuto meritare il nome di Atene del Nord. Si sa che gli inglesi hanno dato all'insieme delle loro vaste miniere un nome molto espressivo, poiché giustamente le chiamano le Indie Nere, e queste Indie hanno forse contribuito, più che non le orientali, ad accrescere la sorprendente ricchezza del Regno Unito. Tutto un popolo di minatori lavora in quelle miniere giorno e notte per estrarre dal suolo britannico il carbone, prezioso combustibile, indispensabile elemento della vita industriale. A quel tempo gli esperti ritenevano che l'esaurimento delle miniere fosse ancora molto lontano, perciò non si temeva che il carbone scarseggiasse da un momento all'altro. I giacimenti carboniferi dei due mondi erano ancora da sfruttare ampiamente. Le fabbriche, attrezzate per tanti usi diversi, le locomotive, le locomobili, gli steamers, le officine che funzionavano a gas, ecc., non erano minacciate di mancare di combustibile. Ma il consumo era aumentato a tal punto negli ultimi anni che certi strati erano stati esauriti fin nei più magri filoni. Ormai abbandonate, queste miniere foravano e solcavano inutilmente il suolo con i loro pozzi trascurati e con le loro gallerie deserte. Tale, appunto, era la situazione delle miniere carbonifere di Aberfoyle. Dieci anni prima, l'ultimo vagoncino aveva trasportato l'ultima tonnellata di carbon fossile del giacimento. Il materiale del fondo, le macchine destinate al trasporto delle rotaie della galleria, le berline dei treni sotterranei, le vie ferrate sotterranee, le gabbie di servizio dei pozzi di estrazione, i tubi d'aria compressa per azionare le porforatrici e, in una parola, tutte le attrezzature erano state tolte dal fondo e abbandonate alla superficie del suolo. La miniera, esaurita, era come il cadavere di un mastodonte di straordinaria grandezza, al quale siano stati tolti gli organi vitali, lasciando solo l'ossatura. Di tutto il materiale erano rimaste soltanto le lunghe scale di legno che conducevano nella profondità delle miniere per il pozzo Yarrow, l'unico che desse ormai accesso alle gallerie inferiori della fossa Dockhart dopo la cessazione dei lavori. All'esterno, gli edifizi che un tempo servivano di riparo agli operai addetti ai lavori dell'aperto indicavano ancora il posto dove erano stati scavati i pozzi di quella fossa, tutta abbandonata come le altre fosse che complessivamente formavano le miniere carbonifere da barfoil. Fu un triste giorno quando per l'ultima volta i minatori lasciarono la miniera dove avevano vissuto tanti anni. L'ingegnere James Starr aveva radunato le poche migliaia di operai che componevano la laboriosa e ardita popolazione della miniera. Picconieri, carriolanti, assistenti, colmatori di fossati, legnaioli, cantonieri, operai che avevano il compito di ricevere e di controllare il materiale. Fabbri, carpentieri, tutti insomma, donne, vecchi, fanciulli, minatori del fondo e della fossa, aperto, erano radunati nell'immenso cortile della fossa d'Ockart, un tempo in gombra di quanto avanzava nella miniera. Quelle brave persone che i bisogni dell'esistenza stavano per separare, dopo che per lunghi anni si erano succedute di padre in figlio nella vecchia barfoil, aspettavano, prima di lasciarla per sempre, gli ultimi addi dell'ingegnere. La compagnia aveva fatto distribuire, come gratifica, gli utili dell'anno in corso, poca cosa in realtà, perché i filoni avevano reso un guadagno molto scarso, oltre alla copertura delle spese. Questa gratifica doveva, se non altro, permettere agli operai di trovare un impiego in qualche miniera vicina o nelle fattorie o nelle officine della contea. James Starr se ne stava in piedi davanti all'ampia tettoia, sotto la quale avevano per tanto tempo lavorato le poderose macchine a vapore del pozzo di estrazione. Intorno a lui c'erano Simon Ford, l'overman della fossa d'Ockart, allora sui 55 anni, e pochi altri direttori dei lavori. James Starr si tolse il cappello e i minatori, anche loro a capo scoperto, serbavano un profondo silenzio. Quella scena di Addie aveva un carattere commovente, non privo di grandezza. Amici miei, il momento di separarci è venuto. Le miniere di Aberfoyle, che da tanti anni ci riunivano in un comune lavoro, sono ormai esaurite. Le nostre ricerche non hanno potuto portarci alla scoperta di un nuovo filone, e l'ultimo pezzo di carbon fossile è stato estratto orora dalla fossa d'Ockart. Per avvalorare le sue affermazioni, James Starr mostrava ai minatori un pezzo di carbone, che si trovava in fondo a un vagoncino. Questo pezzo di carbone, amici miei, è come l'ultimo globulo del sangue che circola nelle vene della miniera. Noi lo conserveremo, come abbiamo conservato il primo frammento di carbone estratto 150 anni or sono dai giacimenti di Aberfoyle. Fra questi due pezzi, molte generazioni di operai si sono succedute nelle nostre fosse. Ma ora tutto è finito. Le ultime parole che vi rivolge il vostro ingegnere sono parole da Dio. Voi avete vissuto della miniera che si è consumata sotto le vostre mani. Il lavoro è stato duro, ma non senza profitto per voi. La nostra gran famiglia si disperderà, ed è molto improbabile che in avvenire possa di nuovo riunirsi. Non dimenticate tuttavia che noi abbiamo vissuto a lungo insieme, e che per i minatori di Aberfoyle è un dovere aiutarsi a vicenda. I vostri capi di un tempo non lo dimenticheranno neppure loro. Quando si è lavorato insieme, non si è mai estranei gli uni agli altri. Noi veglieremo su di voi, e dovunque andrete, comportandovi onestamente, vi seguiranno le nostre raccomandazioni. Addio dunque, amici miei, e che il cielo vi assista. Detto questo, James Starr strinse fra le braccia l'operaio più anziano della miniera, che aveva gli occhi bagnati di lacrime. Poi gli overman delle diverse fosse vennero a stringere la mano dell'ingegnere, mentre i minatori agitavano il cappello e gridavano «Addio, James Starr! Nostro capo e nostro amico!» Quegli addii dovevano lasciare un ricordo indistruttibile in tutti quei cuori generosi. Ma a poco a poco, la folla si allontanò malinconecamente dall'ampio cortile, lasciando il vuoto intorno a James Starr. Il terreno scuro dei sentieri che conducevano la fossa d'Ockhart risonò un'ultima volta sotto il passo dei minatori, e il silenzio succedette alla vita chiassosa che fino ad allora aveva animato le miniere di Aberfoyle. Solamente un uomo rimase presso a James Starr. Era l'overman Simon Ford. Accanto a lui se ne stava un giovane sui 15 anni, suo figlio Harry, che già da alcuni anni era impiegato nei lavori del fondo. James Starr e Simon Ford si conoscevano, si stimavano l'un l'altro. «Addio, Simon!» «Addio, signor James!» «O meglio, lasciatemi dire arrivederci!» «Sì, arrivederci, Simon!» «Voi sapete che sarò sempre felice di rivedervi per parlare con voi del passato della nostra vecchia Aberfoyle!» «Non so, signor James! La mia casa è di Edimburgo ed è aperta per voi!» «Edimburgo è lontano!» «Sì, è molto lontano dalla fossa Dockard!» «Lontano, Simon! Ma dove fate conto di andare ad abitare?» «Quì, signor James! Noi non abbandoneremo la miniera, la nostra vecchia nutrice, ora che non ha più latte!» «Mia moglie, mio figlio ed io troveremo una sistemazione che ci consenta di rimanerle fedeli!» «Allora addio, Simon!» «No, vi ripeto, arrivederci, signor James!» «E non addio! Parola di Simon Ford! Aberfoyle vi rivedrà!» L'ingegnere non voleva togliere quest'ultima illusione all'Hoverman e abbracciò il giovane Harry che lo guardava con i suoi grandi occhi commossi. Strinse un'ultima volta la mano di Simon Ford e lasciò la miniera. Questo era accaduto dieci anni prima, ma nonostante il desiderio espresso dall'Hoverman di rivederlo un giorno all'altro, James Starr non aveva più sentito parlare di lui. Ora, dopo dieci anni di separazione, riceveva questa lettera di Simon Ford che lo invitava a ripigliare senza indugio la via delle vecchie miniere di Aberfoyle. Una comunicazione che l'avrebbe sicuramente interessato. E che cosa poteva essere? La fossa Dockhardt, il Pozzo Yarrow. Quanti ricordi risvegliavano quei nomi! Sì, erano belli quegli anni di lavoro, della lotta, gli anni migliori della sua vita di ingegnere. James Starr rileggeva quindi la lettera, la voltava in tutti i sensi e si doleva sinceramente che Simon Ford non avesse aggiunto una riga di più. Non sapeva perdonargli di essere stato così laconico. Era mai possibile che il vecchio Overman avesse scoperto qualche nuovo filone? No, James Starr ricordava con quanta cura minuziosa le miniere di Aberfoyle erano state esplorate prima di cessare definitivamente l'attività. Egli stesso aveva effettuato le ultime ricerche senza trovare nessun nuovo giacimento in quel suolo rovinato dall'eccessivo sfruttamento. Si era persino tentato di trovare il terreno carbonifero al di sotto degli strati sottostanti al filone, cioè all'arenaria rossa devoniana, ma senza frutto. James Starr aveva perciò abbandonato la miniera, decisamente convinto che non ci fosse più un solo pezzo di combustibile. No, no, non è ammissibile che Simon Ford abbia scoperto qualcosa che era sfuggito alle mie ricerche. Eppure il vecchio Overman lo sa bene che una sola cosa al mondo mi può interessare. E questo invito segreto di recarmi alla fossa d'Hokard? James Starr tornava sempre su quel punto. D'altra parte l'ingegnere conosceva Simon Ford come un abile minatore, particolarmente dotato dall'istinto del mestiere. Non l'aveva più riveduto da quando i lavori di Aberfoyle erano stati abbandonati. Ignorava persino che cosa fosse accaduto dal vecchio Overman. Non avrebbe saputo dire che mestiere facesse, e neppure dove abitasse con sua moglie e con suo figlio. Sapeva solo che l'appuntamento era il Pozzo Yarrow, che Harry, il figlio di Simon Ford, doveva aspettarlo alla stazione di Callender per tutto il giorno seguente. Si trattava dunque di visitare la fossa d'Hokard. Ci andrò, ci andrò, disse James Starr sempre più impaziente man mano che l'ora si avvicinava. In realtà il bravo ingegnere apparteneva a quella categoria di persone appassionate che hanno sempre il cervello in ebollizione come una pentola sulla fiamma. E di queste pentole ce ne sono alcune che cuociono le idee a forti bollori, e altre invece che le cuociono lentamente. Quel giorno le idee di James Starr bollivano forte. Ma avvenne un incidente molto imprevedibile, che come una goccia d'acqua fredda doveva per un attimo condensare tutti i vapori del suo cervello. Infatti verso le sei del pomeriggio, con il terzo corriere, arrivò una seconda lettera, che il domestico di James Starr consegnò immediatamente. Questa era chiusa in una busta grossolana, con l'indirizzo scritto da una mano poco pratica nel maneggiare la penna. James Starr lacerò la busta, e trovò soltanto un pezzo di carta ingiallita dal tempo, che pareva strappata da qualche vecchio tacquino fuori uso. Su quel foglio si leggeva un'unica frase, così concepita. È inutile che l'ingegnere James Starr si disturbi, perché la lettera di Simon Ford ormai non ha nessun scopo. Non vi era nessuna sottoscrizione. Il corso delle idee di James Starr fu troncato bruscamente, quando egli ebbe letto la seconda lettera che contraddiceva la prima. «Che cosa significa?» esclamò, e riprese la busta semilacerata. Portava come l'altra il bollo postale di Aberfoyle. Era dunque partita da quel medesimo punto della Contea di Stirling. Certamente non l'aveva scritto al vecchio minatore, ma era evidente che anche l'autore di questa seconda lettera conosceva il segreto dell'Hoverman, poiché annullava l'invito fatto all'ingegnere di recarsi al Pozzo Yarrow. Era poi vero che la prima lettera ormai non avesse alcun scopo? Si voleva impedire a James Starr di disturbarsi inutilmente o utilmente? Non si nascondeva, forse, l'intenzione malevola di contrastare i disegni di Simon Ford? Questo almeno temeva James Starr, dopo averci pensato molto. La contraddizione delle due lettere risvegliò in lui un desiderio ancora più vivo di recarsi alla fossa d'Hockhart. D'altra parte, se tutto ciò era semplicemente una mistificazione, conveniva accertarsene. James Starr pensava che bisognasse credere alla prima lettera, piuttosto che alla seconda, vale a dire alla richiesta di un uomo come Simon Ford e non all'avviso del suo contraddittore anonimo. Se cerca di influenzare la mia decisione, è segno che la comunicazione di Simon Ford deve essere di estrema importanza. Io domani sarò all'appuntamento, nel luogo indicato e all'ora convenuta. James Starr fece preparativi della partenza. Poteva darsi che la sua assenza durasse alcuni giorni, perciò avvertì con una lettera Sir W. Elphinstone, presidente della Royal Institution, che non avrebbe assistito alla prossima riunione della società. Sbrigò due o tre faccende che erano da risolvere in settimana e dopo aver dato ordine al servitore di preparargli una valigia, si coricò più preoccupato di quanto la questione forse non meritasse. Il giorno successivo alle 5, James Starr balzava fuori del letto, si vestiva, coprendosi ben bene perché cadeva una pioggia fredda, e lasciava la sua casa di Canongate per andare a prendere a Granton Pier lo Steamboat che in tre ore risale il 4th fino a Sterling. Per la prima volta, forse, James Starr attraversò la Canongate senza voltarsi a guardare Holyrood House, il palazzo degli antichi sovrani della Scozia. Non vide davanti alla sua postierla le sentinelle con l'antico costume scozzese, gondellino di stoffa verde, scialle a scacchi e borsa di pelle di capra, con il pelo lungo che ricade sulla coscia. Per quanto ammiratore fanatico di Walter Scott, come ogni vero figlio della vecchia Caledonia, l'ingegnere non diede nemmeno un'occhiata all'albergo dove Waverly alloggiò e dove il sarto gli portò quella famosa divisa scozzese di guerra che la vedova Flockhart ammirava con tanta ingenuità. Non salutò neppure la piazzetta in cui i montanari scaricarono i loro fucili dopo la vittoria del pretendente, a rischio di ammazzare Flora McIvor. L'orologio della prigione mostrava in mezzo alla via il suo quadrante desolato. Egli lo guardò di sfuggita, solo per accertarsi che non avrebbe perso il battello. Bisogna confessare che non vide in Eleanor Bow la casa del gran riformatore John Knox, l'unico uomo che non si lasciò sedurre dai sorrisi di Maria Stuarda. Proseguendo poi per High Street, la via popolare descritta minuziosamente nel romanzo L'Abate, egli si diresse con passo veloce verso il ponte gigantesco di Bridge Street che congiunge le tre colline di Edimburgo. Alcuni minuti dopo, James Starr giungeva alla General Railway Station e in mezz'ora il treno lo portava a New Haven, grazioso villaggio di pescatori a un miglio da Leith, che forma il porto di Edimburgo. L'alta marea ricopriva allora la spiaggia nerastra e rocciosa del litorale. I primi flutti bagnavano una pescaia, specie di gettata sorretta da catene. A sinistra, uno di quei battelli che fanno servizio sul Forth, Fra Edimburgo e Sterling, era ormeggiato al molo di Granton. In quel momento il camino del principe di Galles emanava turbini di fumo nero e la caldaia russava sordamente. Al suono della campana, che diede solo alcuni tocchi, i viaggiatori in ritardo si affrettarono ad accorrere. Si vedeva una folla di mercanti, di fattori, di ministri. Questi ultimi erano riconoscibili per i calzoni corti, i lunghi pastrani e il sottile collaretto bianco. James Starr non fu l'ultimo a imbarcarsi. Balzò rapido sul ponte del principe di Galles. La pioggia cadeva con violenza, ma nessuno dei passeggeri pensava di ripararsi nel salotto dello Steamboat. Tutti se ne stavano immobili, avviluppati nelle loro coperte da viaggio, e qualcuno ogni tanto cercava di rianimarsi sorseggiando gin o whisky dalle proprie bottiglie, abitudini che da quelle parti si chiama vestirsi all'interno. Si udì un ultimo segnale della campana. Furono tolti gli ormeggi, e il principe di Galles iniziò le manovre per uscire dal piccolo bacino, che lo riparava dalle onde del mare del nord. Il Firth of Forth, come si chiama il golfo scavato fra le rive della contea di Fife al nord e quelle della contea di Lilithow e di Edinburgh e di Haddington al sud, forma l'estuario del Forth, fiume poco importante, specie di Tamigi o di Marseille delle acque profonde, che nasce dal versante ovest del Ben Lomond e si getta in mare a Kinkardine. Sarebbe una traversata breve, quella da Granton Pier all'estremità del golfo, se la necessità di fermarsi alle diverse stazioni delle due rive non obbligasse a numerose manovre. Città, villaggi e cottages si schierano sulle sponde del Forth fra gli alberi di una campagna fertile. James Starr, riparato dall'ampia passarella gettata fra i tamburi, non si curava del paesaggio, allora striato dalla pioggia. Piuttosto sembrava preoccupato di non attrarre l'attenzione di qualche passeggero. Forse l'anonimo scrittore della seconda lettera si trovava sul battello in quel momento. Ma l'ingegnere non poteva notare nessuno sguardo sospetto. Il principe di Galles, lasciando Granton Pier, si diresse verso lo stretto che separa South Queensferry da North Queensferry, oltre il quale il fort forma una specie di lago dove possono navigare navi di cento tonnellate. In mezzo alle nebbie sullo sfondo apparivano di tanto in tanto le vette nevosi dei monti grampiani. Ben presto lo steambot perse la vista al villaggio di Haderborn, Hinkholm, con rovine di un monastero del XII secolo e resti del castello di Barnbugle, poi Donny Bristle, dove fu assassinato il genero del reggente Murray, e alla fine Inkshargiv, un isolotto fortificato. Valicò lo stretto di Queensferry, superando a sinistra il castello di Roseth, dove risiedeva un tempo un ramo degli Stuart a cui era alleato la madre di Cromwell. Passò Bracknell's Castle, sempre fortificato, secondo uno degli articoli del Trattato dell'Unione, e costeggiò le rive del piccolo porto di Charleston, dove si esporta la calce delle miniere di Lord Eggin. Finalmente la campana del principe di Galles segnalò la stazione di Comby Point. Il tempo era ancora molto cattivo. La pioggia sospinta dal vento impetuoso sembrava polverizzarsi in mezzo alle raffiche che passavano come trombe. James Tarr era alquanto inquieto. Il figlio di Simon Ford sarebbe andato all'appuntamento. Lo sapeva per esperienza. I minatori, avvezzi alla profonda calma delle miniere, sfidano di malavoglia le forti perturbazioni atmosferiche. Da Callander alla Fossa Dockhart e al Pozzo Yarrow c'era una distanza di 4 miglia. Tutte queste ragioni potevano in qualche modo far ritardare il figlio del vecchio Overman. Ma la preoccupazione maggiore dell'ingegnere era quella a seconda lettera che disdiceva l'appuntamento fissato dalla prima. In ogni modo, se Henry Ford non si fosse trovato alla stazione di Callander, James Tarr era deciso a recarsi da solo alla Fossa Dockhart e, se necessario, fino al villaggio di Aberfoyle. Là avrebbe avuto senza dubbio notizie di Simon Ford e avrebbe appreso dove abitava ora il vecchio Overman. Nel frattempo il principe di Galles continuava a sollevare grosse ondate sotto la spinta delle sue ruote. Non si vedeva assolutamente nulla delle due rive del fiume e neppure del villaggio di Crombie, di Toriborne, di Torrey House, di New Mills, di Carriden House, di Kirkgrange, di Saltpence sulla destra. Il piccolo porto di Bones, il porto di Grangemouth, che si apriva alla foce del canale della Clyde, sparivano nella nebbia umida. Cool Ross, il vecchio borgo dove le rovine di un'abbazia cistercense, King Cardine e i suoi cantieri dove lo Steambot fece scalo, il castello di Aerth con la torre quadrata del XIII secolo, Cluckmannan e il suo castello, costruito da Robert Bures, non erano nemmeno visibili attraverso la pioggia. Il principe di Galles si fermò al molo di Alloa per sbarcare alcuni passeggeri. James Starr si sentì stringere il cuore, passando, dopo dieci anni, vicino a quella piccola città, importante centro minerario, dove viveva una popolazione numerosa di operai. Con l'immaginazione percorreva gli strati sotterranei che il piccone dei minatori scavava ancora con gran profitto. Le miniere di Alloa, quasi contigue a quelle di Aberfoyle, continuavano ad arricchire la contea, mentre nei giacimenti vicini, esauriti da tanti anni, non c'era più un solo operaio. Lo Steambot, lasciando Alloa, seguì numerosi meandri del Fort, per un tratto 19 miglia. Procedeva rapidamente fra i grandi alberi delle due rive. Un momento si apriva una radura con le rovine dell'abbazia di Cambus Kenneth, che risale al XII secolo. Poi compariva il castello di Stirling e il borgo reale omonimo, dove il Forth, attraversato da due ponti, non è più navigabile per le navi di alta alberatura. Appena il principe di Galles ebbe accostato, l'ingegnere balzò agilmente sulla riva. Cinque minuti dopo giungeva alla stazione di Stirling e un'ora più tardi smontava dal treno a Callender, grosso villaggio che sorge sulla riva sinistra del Teeth. Davanti alla stazione c'era un giovanotto, che si fece subito incontro all'ingegnere. Era Harry, il figlio di Simon Ford. Capitolo 3 Il sottosuolo del Regno Unito Per meglio comprendere questo racconto, conviene ricordare in poche parole l'origine del carbon fossile. Durante le epoche geologiche, lo sferoide terrestre, ancora in formazione, era circondato da una fitta atmosfera, satura di vapori acquei e contenente acido carbonico in abbondanza. A poco a poco questi vapori si condensarono in piogge torrenziali, che cadevano come se fossero versate dal cannello di parecchi milioni di miliardi di bottiglie di Seltz. Il liquido, infatti, era carico d'acido carbonico e si riversava a torrenti sopra un terreno pastoso mal consolidato, soggetto a brusche e olente deformazioni, e trattenuto in stato semifluido tanto dal calore del sole come da quello della massa interna. Il calore interno non si era ancora raccolto al centro del globo, perciò la crosta terrestre, poco spessa e non ben indurita, lo lasciava sfuggire attraverso i suoi pori. Per questo la vegetazione cresceva in maniera straordinaria, come indubbiamente accadde ora alla superficie dei pianeti inferiori, come Venere o Mercurio, che sono più vicini della Terra all'astro radioso. Il suolo dei continenti, non ancora assestato definitivamente, era ricoperto di immense foreste. L'acido carbonico, che tanto favorisce lo sviluppo del regno vegetale, abbondava. Così i vegetali si svilupparono in forma arborea. Non c'era una sola pianta erbacea, dovunque sorgevano alberi senza fiori, senza frutti, di aspetto monotono, che non sarebbero bastati a nutrire nessun essere vivente. La Terra non era ancora pronta per la comparsa del regno animale. Ecco com'erano composte le foreste antidiluviane. Predominava la classe delle crittogame vascolari. Le calamitali, varietà di equiseti arborei. Le lapidodendrali, specie di licopodi giganteschi alti 25-30 metri e larghi un metro alla base. Le asterofille, le felci, le sigillane di proporzioni gigantesche di cui furono ritrovate le impronte nelle miniere di Saint-Etienne. Tutte piante enormi allora, con le quali oggi hanno analogia soltanto alcuni fra i più umili esemplari della terra abitabile. Erano questi, poco variati nella specie ma enormi nello sviluppo, i vegetali che componevano esclusivamente la foresta di quel tempo. Quegli alberi affondavano le loro radici in una specie di immensa laguna, resa profondamente umida dalla mescolanza di acque dolci con acque marine. Assimilavano avvidamente il carbonio, sottraendolo a poco a poco all'atmosfera, ancora disadattata alle funzioni della vita. E si può dire che fosse loro compito raccoglierlo per conservarlo sotto forma di carbon fossile nelle viscere del globo. Era quella l'epoca dei terremoti, dovuti alle rivoluzioni interne e ai fenomeni plutonici, che modificarono all'improvviso i lineamenti ancora incerti della superficie terrestre. I cumuli diventavano montagne e si formavano abissi che dovevano poi essere colmati dagli oceani o dai mari. Allora foreste intere sprofondarono nella crosta terrestre attraverso gli strati mobili, fino a che non trovarono un punto di appoggio come il suolo primitivo delle rocce granitiche, oppure non formarono pigiandosi un tutto resistente. Infatti l'edificio geologico si presenta con quest'ordine nelle viscere del globo. Il suolo primitivo che sormonta il suolo di riporto, composto di terreni primari, poi i terreni secondari che nella parte inferiore comprendono i giacimenti carboniferi, e poi i terreni terziari e al di sopra i terreni delle alluvioni antiche e moderne. A quell'epoca le acque, non trattenute ancora da nessun letto e generate dalla condensazione su tutti i punti del globo, precipitavano staccando dalle rupi appena formate gli elementi con cui comporre gli schisti, le arenarie e i calcari. Si riversavano sopra le foreste torbose deponendo gli elementi dei terreni che si sarebbero sovrapposti agli strati carboniferi. Con il tempo, milioni d'anni si intende, quei terreni si indurirono, si stratificarono e chiusero sotto una grossa crosta di puddinghe, schisti, arenarie compatte o friabili, sabbia, ciotoli e tutta la massa delle foreste sprofondate. Che cosa avvenne nel gigantesco crogiolo dove si accumulavano i vegetali a profondità variabili? Un processo chimico vero e proprio, una specie di distillazione. Tutto il carbonio assorbito dai vegetali si agglomerava, trasformandosi lentamente in carbon fossile, per effetto della pressione enorme e dell'alta temperatura prodotta dai fuochi interni circostanti. In tal modo, un regno si sostituiva all'altro, in quella lenta ma irresistibile reazione. Il vegetale si trasformava in minerale. Tutte quelle piante che avevano vissuto una vita vegetativa, alimentate dalla rinfattiva dei primi giorni, si impietrivano. Alcune delle sostanze racchiuse in quel vasto erbario trasformate solo in parte lasciavano la loro impronta alle altre che si erano mineralizzate più rapidamente e le premevano come avrebbe potuto fare un torchio idraulico di una potenza incalcolabile. Nello stesso tempo, conchiglie, zoofiti, come le stelle marine, le spirifere, i polipi e perfino i pesci e le lucertole, trascinati dalle acque, lasciavano sul carbone ancora tenero la loro impronta netta. La pressione sembra aver avuto grande parte nella formazione dei giacimenti carboniferi. Infatti, le diverse specie di carbone usate nell'industria sono dovute soltanto all'intensità variabile della pressione. Così, negli strati più bassi del terreno carbonifero, si incontra l'antracite, che è quasi completamente priva di sostanze allo stato gassoso e contiene carbonio in quantità maggiori. Negli strati più alti si trovano, al contrario, la lignite e il legno fossile, sostanze nelle quali la quantità di carbonio è infinitamente minore. Fra questi due strati, secondo il grado di pressione subito, si incontrano i filoni di graffiti e i carboni grassi o magri. Si può anzi affermare che solo in mancanza di una sufficiente pressione lo strato degli acquitrini torbosi non si è mutato interamente. L'origine delle miniere di carbone, in qualsiasi punto del globo, siano state scoperte, è dunque questa. Sprofondamento nella costa terrestre delle grandi foreste dell'epoca geologica, poi mineralizzazione dei vegetali dovuta al tempo e influenzata dalla pressione, dal calore e dall'azione dell'acido carbonico. Eppure la natura, per lo più così prodiga, non ha sepolte tante foreste da bastare allo sfruttamento di parecchie migliaia d'anni. Il carbon fossile un giorno verrà a mancare, questo è certo. Le macchine di tutto il mondo saranno costrette all'inattività se qualche nuovo combustibile non succederà al carbone. In un tempo più o meno lontano non ci saranno più giacimenti carboniferi all'infuori di quelli della Groenlandia, vicino al mare di Baffin, che essendo ricoperti da un eterno strato di ghiaccio sono pressoché inutilizzabili. È inevitabile. I bacini carboniferi dell'America oggi sono straordinariamente ricchi, quelli del Lago Salato, dell'Oregon, della California, un giorno però non renderanno più abbastanza. Lo stesso accadrà delle miniere di carbone di Capo Breton e di Saint Laurent, dei giacimenti delle Allegheny, della Pennsylvania, della Virginia, dell'Illinois, dell'Indiana e del Missouri. Benché gli strati carboniferi dell'America del Nord siano dieci volte più abbondanti di tutti i giacimenti del mondo non trascorreranno cento secoli senza che il mostro delle mille gole, l'industria, abbia divorato l'ultimo pezzo di carbon fossile. Naturalmente questa mancanza si farà sentire prima nel mondo antico. Esistono molti strati di minerale combustibile in Abissinia, a Natal, nel territorio dello Zambesi, a Mozambico, nel Madagascar, ma al loro sfruttamento regolare si oppongono le più gravi difficoltà. Le miniere della Birmania, della Cina, della Cocincina, del Giappone, dell'Asia centrale saranno presto esaurite. Gli inglesi avranno certamente consumato i prodotti carboniferi sepolti in abbondanza nel suolo australiano prima che il carbone venga a mancare nel Regno Unito. A quel tempo i filoni carboniferi dell'Europa, esauriti fin nelle ultime vene, saranno già stati abbandonati. Alcune cifre possono dare un'idea di quanto il carbon fossile sia stato consumato dalla scoperta dei primi giacimenti. I bacini carboniferi della Russia, della Sassonia e della Baviera comprendono 600.000 ettari. Quelli della Spagna 150.000, quelli della Bohemia e dell'Austria 150.000. I bacini del Belgio lunghi 140 km circa e larghi 13 comprendono inoltre 150.000 ettari che si stendono sotto i territori di Liegi, di Namur, di Mons e di Charleroi. in Francia il bacino situato fra la Loira e il Rodano, Rive-Legere, Saint-Etienne, Givaud, Epinac, Blanzy, Le Cresau, gli sfruttamenti di Gard, Aizé, la Grande Combe, quelli dell'Averion e Aubaine, i giacimenti di Cormeau, di Bassac e di Grassessac e nel nord Anzène, Valessianzienne, L'Ese, Betun, coprono un'estensione di circa 150.000 ettari. Il paese più ricco di carbone è senza dubbio il Regno Unito. Se si esclude l'Irlanda che manca quasi assolutamente di minerale combustibile esso possiede enormi ricchezze carbonifere ma esauribili come qualsiasi altra ricchezza. Il più importante di questi bacini quello di Newcastle nel sottosuolo della contea di Northumberland produce ogni anno fino a 30 milioni di tonnellate vale a dire un terzo circa del consumo inglese e oltre il doppio della produzione francese. Il bacino del Galles paese dove si concentra tutta la popolazione di minatori a Cardiff a Swansea e a Newport rende annualmente 10 milioni di tonnellate di quel carbone ricercato che porta il suo nome. Al centro vengono sfruttati i bacini delle contea di York di Lancaster di Derby di Stafford che sono meno produttivi ma ancora di notevole rendimento. Finalmente in quella parte della Scozia situata fra Edimburgo e Glasgow fra i due mari che si addentrano profondamente nel territorio si stende uno dei più vasti giacimenti carboniferi del Regno Unito. L'insieme di questi diversi bacini non comprende meno di 600.000 ettari e produce ogni anno fino a 100 milioni di tonnellate del nero combustibile. Ma che importa? Il consumo presto diventerà tale per i bisogni dell'industria e del commercio che queste ricchezze si esauriranno e prima che si compia il terzo millennio dell'era cristiana le mani del minatore avranno vuotato in Europa quei magazzini dove secondo una giusta immagine si è concentrato il calore solare dei primi giorni. Ora appunto al tempo in cui avviene la nostra storia una delle più importanti miniere del bacino scozzese si era esaurita per uno sfruttamento troppo intenso. Nel territorio Fredimburgo e Glasgow che si estende in larghezza per circa 150 o 180 km si trova la nostra miniera di Aberfoyle dove l'ingegnere James Tarr era stato per tanto tempo il direttore. Da dieci anni queste miniere avevano dovuto essere abbandonate non si erano potuti scoprire strati nuovi nonostante si fossero fatti sondaggi fino a una profondità di 450 ed anche di 600 metri e James Tarr ritirandosi era certo che ogni minimo filone fosse stato vuotato interamente. Evidentemente in simili condizioni la scoperta di un nuovo bacino carbonifero nella profondità del suolo inglese sarebbe stato un avvenimento importante. Le notizie promesse da Simon Ford si riferivano forse a un fatto di tale natura? Questo si chiedeva a James Tarr e questo si augurava. In una parola l'avevano chiamato perché conquistasse un altro cartuccio delle ricche indiene nere e questo voleva crederlo. La seconda lettera aveva sviato per un istante le sue idee in proposito ma ormai non ne teneva più conto. D'altra parte il figlio del vecchio Overman era là e lo aspettava nel luogo indicato. La lettera anonima non aveva dunque più alcun valore. Non appena l'ingegnere mise piede sul marciapiede il giovanotto gli si fece incontro. Tu sei Henry Ford? Sì signor Starr non ti avrei riconosciuto caro giovanotto in dieci anni ti sei fatto un vero uomo io invece vi ho riconosciuto subito non siete cambiato per nulla signore siete proprio la stessa persona che mi abbracciò il giorno degli addi alla fossa d'Occart queste cose non si dimenticano rimettiti pure il berretto figliolo piove a dirotto e la cortesia non deve portarti alla costipazione volete che ci mettiamo al coperto signor Starr no no tanto pioverà tutta la giornata e io ho fretta partiamo ai vostri ordini dimmi Harry il babbo sta bene benissimo signor Starr e la mamma anche la mamma è tuo padre che mi ha scritto per fissarmi un appuntamento al pozzogliarro no signore sono stato io ma allora Simon Ford mi ha scritto un'altra lettera per annullare l'invito no signor Starr bene sai dirmi che cosa vuole da me il signor Simon signor Starr mio padre vuole dirvelo lui stesso ma tu lo sai sì lo so ebbene Harry non ti chiedo altro su andiamo perché non vedo l'ora di parlare con Simon Ford a proposito e dove abita nella miniera signor Starr come? nella fossa d'Occar ti intendi? sì signor Starr la tua famiglia non ha lasciato la miniera dopo che i lavori sono cessati? nemmeno per un giorno signor Starr voi conoscete il babbo là è nato e là conta di morire comprendo Harry comprendo la miniera dove è nato non l'ha voluta abbandonare e vi trovate bene? sì signor Starr perché ci vogliamo bene e abbiamo poche esigenze e allora andiamo Harry e James Starr seguendo il giovanotto si diresse attraverso le vie di Callander dieci minuti dopo entrambi avevano lasciato la città capitolo 4 la fossa d'Occar Harry Ford era un giovane alto sui 25 anni forte e ben piantato i suoi lineamenti un po' severi e l'espressione abitualmente pensosa l'avevano fin dall'infanzia messo in luce fra i camerati della miniera i suoi lineamenti regolari gli occhi profondi e dolci i capelli piuttosto ruvidi più castani che biondi il fascino naturale di tutta la sua persona facevano di lui il tipo perfetto dell'Owlander vale a dire un magnifico esemplare di scozzese delle pianure meridionali indurito quasi dall'infanzia nel lavoro della miniera era un erergico operaio e aveva un'indole buona sotto la guida del padre e stimolato dal proprio istinto aveva lavorato e si era istruito precocemente così che nell'età in cui di solito si è solo apprendisti era riuscito a essere qualcosa di meglio uno dei primi della sua condizione in un paese che conta pochi ignoranti perché fa di tutto per sopprimere l'ignoranza nonostante nei primi anni dell'adolescenza Henry Ford non lasciasse mai il piccone il giovane minatore non tardò ad acquisire le cognizioni sufficienti per avanzare nella gerarchia della miniera e sarebbe certamente succeduto a suo padre nelle funzioni di Overman della fossa Dockhart se la miniera non fosse stata abbandonata James Tarr era ancora un buon camminatore eppure non avrebbe seguito facilmente il suo compagno se costui non avesse moderato il passo la pioggia cadeva allora meno impetuosa i goccioloni si polverizzavano ancora prima di toccare il suolo erano piuttosto raffiche umide che correvano nell'aria sollevate da un fresco venticello Harry Ford e James Tarr il giovane carico del leggero bagaglio dell'ingegnere seguirono le rive del fiume per circa un miglio dopo aver rasentato la sponda sinuosa presero una via che vi si addentrava in mezzo a grandi alberi gocciolanti basti pascoli si stendevano da una parte e dall'altra intorno a fattorie isolate alcuni greggi pascolavano tranquillamente l'erba sempre verde di quelle praterie della bassa Scozia erano vacche senza corna o piccoli montoni dalla lana morbida come seta che facevano pensare agli agnellini delle filastrocche infantili non si vedeva il pastore che se ne stava senza dubbio riparato in qualche cavo d'albero ma il cane proprio di questa regione del Regno Unito e rinomato per la sua vigilanza il collei gironzolava intorno al pascolo il pozzo Yarrow si trovava a 4 miglia circa da Callander James Tarr mentre camminava era impressionato non rivedeva il paese dal giorno in cui l'ultima tonnellata della miniera di Aberfoil era stata versata nei vagoni delle ferrovie di Glasgow la vita agricola si era succeduta alla vita industriale sempre più chiassosa il contrasto era tanto più singolare in quanto durante l'inverno i lavori dei campi sono soggetti a un certo riposo ma un tempo in ogni stagione i minatori animavano quel territorio sopra e sotto la superficie grossi carri di carbone passavano giorno e notte le rotaie ora sepolte sulle loro traverse imputridite stridevano sotto il peso dei vagoni strade di sasso e di terra stavano ormai sostituendo gli antichi tramways a James Tarr pareva di attraversare un deserto l'ingegnere si guardava intorno mestamente fermandosi di tanto in tanto a ripigliar fiato ascoltava l'aria non si riempieva più di fischi lontani e del frastuono ansimante delle macchine all'orizzonte non si vedevano i vapori nerastri che l'industriale ama ritrovare fra misti alle grandi nuvole nessun alto camino cilindrico o prismatico eruttava fumo dopo essersi alimentato le viscere del fuoco nessuna valvola si sfiatava a soffiare vapore bianco il suolo un tempo sudicio di polvere di carbone aveva una nettezza a cui gli occhi di James Tarr non erano più avvezzi quando l'ingegnere si arrestava anche Henry Ford si arrestava il giovane minatore aspettava in silenzio sentiva bene ciò che accadeva nell'animo del suo compagno e partecipava di questa impressione lui figlio delle miniere che aveva passato la vita nelle profondità di quel suolo si Henry tutto è mutato ma a forza di attingere bisognava pure che quei tesori di carbone si esaurissero un giorno tu rimpiangi quel tempo si signor star il lavoro era duro ma interessante come qualsiasi lotta certo caro figliolo la lotta di ogni istante il pericolo delle frane degli incendi delle inondazioni degli scoppi di gas che colpiscono come la folgore e bisognava provvedere a tutto hai ragione era una lotta quella e perciò una vita emozionante i minatori di Alloa sono stati più favoriti dei minatori di Aberfoyle signor star eh sì Henry peccato che tutto il globo terrestre non sia fatto soltanto di carbone ce ne sarebbe stato almeno per milioni di anni senza dubbio Henry ma bisogna ammettere che la natura si è mostrata previdente formando il nostro sferoide più che altro di arenaria di calcari di granito e sostanze che il fuoco non può consumare volete forse dire signor star che gli uomini avrebbero finito col bruciare la terra oh sì l'avrebbero bruciata tutta giovanotto la terra sarebbe passata fino all'ultimo boccone nei fornelli delle locomotive delle locomobili degli steamers nelle officine di gas è certamente così che il nostro mondo sarebbe finito un bel giorno questo non è più da temere signor star ma d'altra parte le miniere di carbone si esauriranno più rapidamente di quel che affermano le statistiche questo è vero Henry e secondo me l'Inghilterra ha forse torto di barattare il suo combustibile con l'oro delle altre nazioni è vero so bene che l'idraulica e l'elettricità non hanno ancora detto l'ultima parola e che un giorno queste due forze saranno sfruttate meglio ma non conta il carbone è di uso molto pratico e si presta facilmente ai bisogni dell'industria disgraziatamente gli uomini non lo possono produrre a piacimento se le foreste esterne crescono di continuo sotto l'influenza del calore e dell'acqua le foreste interne invece non si riproducono e la terra non si troverà mai più nelle condizioni necessarie per rifarle James Tarr e la sua guida così parlando avevano ripreso ad andare con passo rapido e un'ora dopo aver lasciato Callander giugevano alla fossa d'Ockard anche una persona indifferente sarebbe rimasta colpita dal triste aspetto dello stabilimento abbandonato sembrava lo scheletro di ciò che un tempo era stato pieno di vita per un ampio spiazzo bordato da pochi alberi esili il suolo spariva ancora sotto la nera polvere del minerale combustibile ma non si vedevano più né resti né pezzi né frammenti di carbon fossile tutto era stato raccolto e consumato da un pezzo sopra una bassa collina si stagliava il profilo di un'enorme struttura di legno lentamente corrosa dal sole e dalla pioggia la struttura sosteneva un'ampia macina o ruota di ferro e al di sotto si vedevano grossi tamburi dove un tempo venivano avvolte le corde che tiravano le gabbie alla superficie del suolo al piano inferiore si riconosceva in pessimo stato la camera delle macchine lucenti nelle parti del meccanismo fatte da acciaio o di rame certe ali di muro erano crollate in mezzo a travicelli rotti o ammuffiti dall'umidità avanzi di bilanceri ai quali si attaccava l'asta delle trombe di asciugamento peducci rotti o insudiciati rocchetti sdentati congegni rovesciati pioli fissi ai puntelli che sembravano formare enormi spine di pesci preistorici rotaia appoggiata a qualche traversa rotta e sorrette ancora da due o tre piloni barcollanti tramways che non avrebbero resistito al peso di un vagoncino vuoto questo era l'aspetto desolato della fossa d'Occard la sponda dei pozzi delle pietre corrose spariva sotto fitti muschi qui si riconoscevano le tracce di una gabbia là i resti di un deposito di carbone dove il minerale veniva separato secondo la qualità e la grossezza finalmente si vedevano avanzi di botti dalle quali pendeva un pezzo di catena frammenti di cavalletti giganteschi caldaie sventrate stantuffi contorti lunghi bilancieri che si curvavano sotto l'apertura dei pozzi di trombe passarelle che oscillavano al vento ponticelli scricchiolanti a ogni passo muri screpolati tetti mezzi sfondati su cui si rizzavano fumaioli dai mattoni sconnessi simili a quei cannoni moderni con la culatta munita di ghiere cilindriche tutto ciò dava una viva impressione di abbandono di miseria di tristezza come non la danno le rovine dei vecchi castelli di sasso nei resti di una fortezza smantellata è una desolazione Harry disse James rivolto al giovane che non rispose entrambi passarono sotto la tettoia che ricopriva l'apertura del pozzo Yarrow le cui scale davano ancora accesso alle gallerie inferiori della fossa l'ingegnere si curvò sull'orifizio di là usciva un tempo il soffio impetuoso dell'aria aspirata dai ventilatori ora non era altro che un abisso silenzioso pareva di essere affacciati sul cratere di qualche vulcano spento James Tarr e Harry raggiunsero il primo pianerottolo quando la miniera funzionava ingegnosi strumenti facevano servizio per certi pozzi delle miniere di Aberfoil che da questo lato erano fornite a meraviglia cabbie con paracadute automatici scale oscillanti chiamate engine man che con un semplice movimento di oscillazione permettevano ai minatori di discendere senza pericolo e di risalire senza fatica ma questi apparecchi perfezionati erano stati tolti dopo la cessazione dei lavori e al pozzo Yarrow rimaneva solo una lunga successione di scale separate da stretti pianerottoli ogni 15 metri circa 30 di queste scale così disposte l'una dopo l'altra permettevano di scendere fino alla scarpa della galleria inferiore e a una profondità di 450 metri era la sola via di comunicazione che esistesse fra il fondo della fossa dockart e la superficie l'aria penetrava nel pozzo Yarrow che per mezzo di gallerie comunicava con un altro pozzo il cui orifizio si apriva a un livello inferiore perciò l'aria calda si scaricava naturalmente attraverso questa specie di sifone rovesciato ti seguo giovanotto ai vostri ordini signor star hai la lampada con te sì e magari fosse ancora la lampada di sicurezza di cui ci servivamo un tempo eh infatti gli scoppi del gas ormai non sono più da temere Harry accese lo stoppino della lampada d'olio che aveva in mano nella miniera vuota di carbone non c'era più pericolo di incontrare gas idrogeno protocarbonato perciò non si dovevano temere scoppi di sorta e non c'era più bisogno di frapporre tra la fiamma e l'aria circostante quella tela metallica che impedisce al gas di accendersi all'esterno la lampada di Davy allora tanto perfezionata era diventata inutile in quel luogo ma se non esisteva il pericolo è perché ne era scomparsa la causa e insieme con essa il combustibile che a un tempo faceva la ricchezza della fossa d'Ockard Harry scese i primi scalini della scala superiore James Tarr lo seguì ed entrambi si ritrovarono immersi in una profonda oscurità rotta solo dal bagliore della lampada che il giovane sollevava sopra il suo capo per meglio rischiarare il suo compagno l'ingegnere e la sua guida discesero una dozzina di scale con il passo misurato proprio del minatore le scale erano ancora in buono stato James Tarr osservava incuriosito tutto ciò che l'inciarto lume lasciava intravedere lungo le pareti del pozzo tenebroso fasciato ancora da un'armatura di legno mezzo imputridita giunti al quindicesimo pianerottolo cioè a metà strada essi si fermarono alcuni istanti decisamente giovanotto le mie gambe non valgono quanto le tue ma pure mi portano ancora siete un uomo robusto signor star e vuol dire qualcosa vedete aver vissuto a lungo in miniera hai ragione Harry un tempo quando avevo vent'anni sarei disceso d'un fiato ah basta dai proseguiamo ma mentre tutti e due stavano per lasciare il pianerottolo una voce lontana si fece udire nella profondità del pozzo giungeva come un'onda sonora che si gonfi man mano e diventava sempre più distinta chi è là? non ve lo potrei dire non è il tuo vecchio padre? lui signor star no e allora qualche vicino? non abbiamo vicini in fondo alla fossa siamo soli proprio soli bene lasciamo passare questo intruso tocca a quelli che scendono cedere il passo a coloro che salgono e attesero entrambi la voce echeggiava in quel mentre con straordinaria sonorità come se fosse stata diffusa da un potente amplificatore e poco dopo alcune parole di una canzone scozzese giunsero agli orecchi del giovane minatore la canzone dei laghi sarei molto stupito se non fosse Jack Ryan a cantarla e chi è questo Jack Ryan che canta tanto bene? un vecchio compagno della miniera ehi Jack sei tu Harry aspetta mi vengo e la canzone ricominciò meglio di prima alcuni istanti dopo un giovanotto grande e grosso sui 25 anni dalla faccia allegra e dagli occhi sorridenti con una bocca gioconda capelli biondo acceso appariva in fondo al cono luminoso proiettato dalla sua lanterna e metteva piede sul pianerottolo della quindicesima scala il suo primo impulso fu di stringere vigorosamente la mano che Harry gli porgeva sono felicissimo di incontrarti ma San Mungo mi protegga se avessi saputo che tornavi a terra oggi mi sarei risparmiato questa discesa al pozzo Yarrow il signor James Starr mio caro Jack disse allora Harry voltando la lampada verso l'ingegnere che era rimasto nell'ombra il signor Starr ah signor ingegnere non vi avrei mai riconosciuto da quando ho lasciato la fossa i miei occhi non sono più avvezzi come un tempo a vedere nel buio ah Jack Ryan e io ora mi ricordo d'un birichino che cantava sempre sono passati dieci anni giovanotto sei tu quel ragazzino proprio io signor Starr e cambiando mestiere ho cambiato umore come vedete ridere e cantare è meglio che piangere e lamentarsi mi pare senza dubbio Jack Ryan e che cosa fai da quando hai lasciato la miniera lavoro nella fattoria di Merrose presso Irvine nella contea di Renfrew a circa 60 chilometri da qui ah non è già come le vostre miniere di Aberfoyle il piccone mi stava meglio in mano della zappa e del pungolo e poi nella vecchia fossa c'erano angoli sonori ed echi giocondi che ripetevano le nostre allegre canzoni mentre lassù ma voi dunque andate a far visita al vecchio Simon signor Starr si Jack ah allora non voglio trattenervi dimmi Jack come mai sei qui chiese Harry volevo vederti amico mio e invitarti alla festa del clan di Irvine sai bene che io sono il Piper e si canterà e si faranno quattro salti grazie Jack ma mi è impossibile come impossibile si la visita del signor Starr può prolungarsi e io devo ricondurlo a Callender ma la festa del clan di Irvine è fra otto giorni Harry allora il signor Starr se ne sarà già andato immagino e nulla ti tratterrà più in casa è vero Harry ti conviene approfittare dell'invito del tuo compagno rispose James Starr ebbene accetto allora Jack fra otto giorni ci troveremo alla festa di Irvine fra otto giorni siamo d'accordo addio Harry signor Starr servitor vostro sono contentissimo di avervi riveduto potrò dare vostre notizie agli amici nessuno vi ha dimenticato signore ingegnere e io non ho dimenticato nessuno Jack grazie per tutti signore addio Jack disse Harry stringendo un'ultima volta la mano del compagno e Jack Ryan riprendendo a cantare scomparve poco dopo nella parte superiore del pozzo rischiarato dalla luce incerta della sua lampada un quarto d'ora più tardi James Starr e Harry scendevano l'ultima scala e raggiungevano l'ultimo piano della fossa intorno allo spiazzo che formava il fondo del pozzo Yarrow si aprivano diverse gallerie che erano servite allo sfruttamento dell'ultimo filone carbonifero della miniera esse si addentravano fra gli schisti e la renaria puntellate le une da trapezzi di grosse tavole squadrate appena le altre rafforzate con uno spesso rivestimento di pietre dovunque i rinterri colmavano le vene ormai completamente svuotate i pilastri artificiali erano fatti di pietre tolte da cave vicine e avevano la funzione di sostenere il suolo soprastante cioè lo strato doppio dei terreni terziari e quaternari che un tempo poggiavano su quel giacimento l'oscurità riempiva allora la galleria un tempo rischiarata dalla lampada del minatore o dalla luce elettrica che negli ultimi anni era stata introdotta anche nelle fosse ma per le buie gallerie non si sentiva più lo stridere dei vagoncini che scorrevano sulle rotaie e neppure il rumore delle porte d'aria che si chiudevano un tratto né le voci degli operai o il nitrito dei cavalli e dei muli i colpi di piccone e gli scoppi di mine che spaccavano il macigno volete riposarvi un momento signor star no no Harry non vedo l'ora di essere presso il vecchio Simon seguitemi dunque vi guiderò io sebbene sia sicuro che trovereste benissimo la strada in questo scuro dedalo di gallerie oh sì certo ho ancora in mente tutta la pianta della vecchia fossa Harry seguito dall'ingegnere e sollevando la lampada per far meglio luce si cacciò in un'altra galleria simile a una navata di cattedrale i loro piedi urtavano nelle traverse di legno che quando la miniera era in piena attività sostenevano le rotaie ma avevano appena fatto 50 passi che un'enorme pietra venne a cadere ai piedi di James star badate signor star una pietra Harry ah le vecchie volte non sono più tanto solide vero signor star mi pare che la pietra sia stata gettata e gettata dalle mani di un uomo gettata che cosa vuoi dire Harry nulla nulla signor star continuiamo la nostra strada pigliate il mio braccio ve ne prego e non abbiate timore di fare un passo falso e così rispose evasivamente Harry guardandosi intorno con l'espressione improvvisamente cupa come se volesse trapassare la grossa muraglia con gli occhi ed entrambi si avanzarono mentre Harry guardava indietro e gettava la luce della sua lampada nella profondità della galleria manca molto ad arrivare Harry dieci minuti al massimo oh bene ma la cosa è ben strana è la prima volta che mi accade quella pietra doveva proprio cadere mentre passavamo noi Harry questo è un caso credimi un caso sì dai è un caso che cosa c'è Harry mi è parso di udire dei passi dietro di noi no no mi sarò ingannato ebbene appoggiatevi bene al mio braccio signor star servitevi di me come di un bastone un bastone solido Harry non ce ne può essere uno migliore di un bravo giovane come te entrambi proseguirono in silenzio attraverso la buia navata spesso Harry evidentemente inquieto si voltava cercando di sorprendere un rumore o una luce lontana ma dietro e davanti a lui tutto era silenzio e tenebre capitolo 5 la famiglia Ford 10 minuti dopo James Tarr e Harry uscivano finalmente dalla galleria principale il giovane minatore e il suo compagno erano giunti in fondo a una radura seppur questa parola può servire a designare una cavità ampia e oscura peraltro questo spiazzo non era del tutto privo di luce alcuni raggi vi giungevano dall'apertura di un pozzo abbandonato che era stato scavato nei piani superiori da questo stesso condotto l'aria fresca penetrava nella fossa d'Ockard e quella calda dall'interno fuoriusciva grazie alla sua minore densità così nello stesso tempo un po' di aria e un po' di luce penetravano attraverso la grossa volta di schisto fino alla radura Simon Ford abitava da dieci anni con la sua famiglia in quella specie di casa sotterranea scavata nel masso schistoso proprio dove un tempo funzionavano le poderose macchine addetta alla trazione meccanica della fossa d'Ockard quella era l'abitazione del vecchio Overman che volentieri egli chiamava con il nome di Cottage grazie a una certa agiatezza conquistata con una lunga vita di lavoro Simon Ford avrebbe potuto vivere alla luce del sole in mezzo agli alberi in qualsiasi città del regno ma la sua famiglia e lui stesso avevano preferito non lasciare la miniera dove vivevano felici avevano le medesime idee e i medesimi gusti si piaceva loro questo cottage sepolto a 450 metri sotto il suolo scozzese fra gli altri vantaggi non c'era da temere che gli agenti del fisco gli Stent Meters incaricati di fare accertamenti venissero mai accogliervi i suoi ospiti a quel tempo Simon Ford l'anziano Overman della fossa Dockard portava ancora molto bene i suoi 65 anni alto robusto ben piantato sarebbe stato considerato uno dei più notevoli Sowney della regione che fornisce tanti begli uomini al reggimento degli Islanders Simon Ford discendeva da un'antica famiglia di minatori che risaliva ai primi tempi dello sfruttamento dei giacimenti carboniferi in Scozia senza fare ricerche archeologiche per stabilire se i Greci e i Romani conoscessero l'uso del carbon fossile o i Cinesi sfruttassero le miniere di carbone molto prima dell'era cristiana senza discutere se veramente quel minerabile combustibile debba il suo nome francese Ouille al Maniscalco Ouillos che viveva nel Belgio nel XII secolo si può affermare che i bacini della Gran Bretagna furono i primi ad essere sfruttati regolarmente fin dall'XI secolo Guglielmo il Conquistatore spartiva fra i suoi compagni d'armi i prodotti del bacino di Newcastle nel XIII secolo una licenza per l'estrazione del carbone marino veniva concesso da Enrico III finalmente verso la fine di quello stesso secolo è fatta menzione dei giacimenti della Scozia e del Galles fu pressa poco allora che gli antenati di Simon Ford penetrarono nelle viscere del suolo caledoniano per non uscirne più di padre in figlio non erano che semplici operai e lavoravano come forzati per estrarne il prezioso combustibile è probabile anzi che i carbonai minatori come i salinai di quel tempo fossero allora dei veri schiavi infatti nel XVIII secolo questa opinione era in Scozia così salda che durante la guerra del pretendente si poté temere l'insurrezione di 20.000 minatori di Newcastle per la conquista di una libertà che non credevano d'avere in ogni caso Simon Ford era fiero di appartenere a questa famiglia di minatori scozzesi aveva lavorato con le proprie mani proprio là dove i suoi antenati avevano maneggiato il piccone e la zappa a 30 anni l'avevano già fatto Overman della Fossa Dockard la più importante delle miniere di Aberfoil egli amava con passione il suo mestiere per lunghi anni esercitò con zelo le proprie funzioni con l'unico cruccio di assistere all'impoverimento progressivo dello strato e di prevedere l'ora vicina in cui il giacimento si sarebbe esaurito definitivamente proprio allora si era dato alla ricerca di nuovi filoni in tutte le fosse di Aberfoil comunicanti nel sottosuolo e aveva avuto la fortuna di scoprirne alcuni nell'ultimo periodo di attività della miniera il suo istinto di minatore lo guidava a meraviglia e l'ingegnere James Starr lo apprezzava molto si sarebbe detto che Simon Ford indovinasse i giacimenti nelle viscere della miniera come un rabdomante indovina le sorgenti sotterranee ma venne il momento come si è detto in cui alla miniera mancò del tutto il combustibile i sondaggi non diedero più nessun risultato e fu evidente che lo strato carbonifero era consumato definitivamente lo sfruttamento della miniera cessò i minatori si ritirarono chi lo crederebbe per la maggior parte degli operai questa fu una disperazione sapendo quanto l'uomo in fondo ami la sua pena non c'è da farsene meraviglia Simon Ford fu senza dubbio il più afflitto era il tipo del vero minatore per il quale la propria esistenza è indissolubilmente congiunta a quella della sua miniera fin dalla nascita non aveva cessato di abitarla e quando i lavori furono abbandonati volle abitarvi ancora perciò rimase Harry suo figlio aveva l'incarico di rifornire l'abitazione sotterranea ma quanto a lui in dieci anni non era risalito che dieci volte alla superficie del suolo andar lassù perché mai ripeteva e non lasciava il suo nero dominio in quell'ambiente sanissimo a una temperatura media il vecchio Overman non conosceva né il calore dell'estate né il freddo dell'inverno i suoi stavano benissimo che cosa poteva desiderare di più nel suo intimo era tuttavia molto rattristato rimpiangeva la vita il movimento di una volta nella fossa così laboriosamente sfruttata ma lo sorreggeva un'idea fissa no no la miniera non è esaurita e gli ripeteva e si sarebbe buscato una brutta risposta che avesse messo in dubbio davanti a Simon Ford che un giorno l'antica Aberfoil sarebbe risuscitata il vecchio non aveva dunque mai abbandonato la speranza di scoprire qualche nuovo strato che ridonasse alla miniera il suo splendore passato sì se fosse stato necessario avrebbe volentieri ripreso il piccone del minatore e le sue vecchie braccia ancora salde avrebbero lottato vigorosamente con la roccia camminava per le oscure gallerie ora solo ora con suo figlio osservando cercando e ogni giorno ritornava a casa stanco ma non disperato la degna compagna di Simon Ford era Madge alta e robusta la good wife la buona donna secondo l'espressione scozzese come il marito Madge non avrebbe voluto lasciare la fossa d'Ogard e nutriva le sue stesse speranze e i suoi stessi rammarichi perciò lo incoraggiava lo spingeva e gli parlava con una specie di gravità che scaldava il cuore del vecchio Overman Aberfoyle è semplicemente addormentata Simon tu hai ragione questo è solo un momento di riposo non può essere la morte anche Madge sapeva fare a meno del mondo esterno e concentrare la felicità di un'esistenza a tre in quell'abitazione finalmente James Darr giunse a destinazione ed era aspettato Simon Ford ritto sulla soglia di casa non appena la lampada di Harry gli annunciò da lontano l'arrivo del suo antico viewer gli si fece incontro siate il benvenuto signor James siate il benvenuto nel cottage del vecchio Overman per quanto sepolta sottoterra l'abitazione della famiglia Ford è sempre ospitale come state caro Simon benissimo signor star e non potrebbe essere altrimenti al riparo da ogni intemperie le vostre ladies che se ne vanno a respirare l'aria buona a New Haven o a Portobello d'estate farebbero meglio a passare qualche mese nella miniera di Aberfoil qui non rischierebbero di buscarsi qualche costipazione come nelle vie umide della vecchia capitale ah non sono certo io che dirò il contrario caro Simon in verità mi domando perché non cambio la mia casa nel Canon Gate con qualche cottage vicino al vostro consideratemi a vostra disposizione signor star conosco un vostro vecchio minatore che sarebbe ben contento di non avere fra voi e lui soltanto che un muro divisorio e mage Simon come sta la buona donna sta anche meglio di me se è possibile per lei è una festa avervi alla sua mensa credo che avrà fatto miracoli per accogliervi bene vedremo Simon vedremo disse l'ingegnere che l'annuncio di un buon pranzo non poteva lasciare indifferente dopo una passeggiata così lunga avete fame signor star direi proprio di sì Simon il viaggio mi ha stimolato l'appetito sono venuto anche con un tempo orribile ah piove lassù sì Simon e le acque del Forth oggi sono agitate come quelle di un mare ebbene signor James qui invece non piove mai ma non sta a me vantarvi le mie miniere che voi del resto conoscete benissimo eccovi arrivato al cottage questa è la cosa principale e ve lo ripeto voi siete il benvenuto Simon Ford seguito da Harry fece entrare in casa James Tarr che si trovò in un'ampia sala illuminata da molte lampade una delle quali sospesa i travi colorati del soffitto la tavola coperta da una tovaglia di vari colori non aspettava altro che i commensali per i quali erano state preparate quattro sedie ricoperte di vecchio cuoio buongiorno Mudge buongiorno signor James vi rivedo con piacere Mudge e avete ragione signor James perché fa sempre piacere ritrovare le persone con le quali si è sempre stati buoni la zuppa aspetta cara moglie e non bisogna farla aspettare e neppure il signor James ha una fame da minatore e vedrà che il nostro figliolo non ci lascia mancar nulla nel nostro cottage a proposito Harry Jack Ryan è venuto a trovarti lo so babbo l'abbiamo incontrato nel pozzo Yarrow è un compagno buono e allegro ma sembra trovarsi bene lassù non aveva vero sangue da minatore nelle vene a tavola signor James e mangiamo in abbondanza perché può darsi che si torni tardi per cena mentre l'ingegnere e gli ospiti stavano per accomodarsi James Tarr disse un momento Simon volete che mangi con buon appetito sarà il massimo onore che ci potrete fare signor Star allora bisogna che non abbia inquietudini di sorta ho due domande da farti dite pure signor James la vostra lettera mi parla di una comunicazione che sicuramente mi avrebbe molto interessato infatti è molto interessante per voi per voi e per me signor James ma preferisco non farvela se non quando avrete mangiato è sul posto altrimenti non mi credereste Simon guardatemi bene in faccia una comunicazione interessante si va bene non vi chiedo altro Simon e la seconda domanda signor Star sapete immaginare chi sia la persona che mi ha scritto questo biglietto rispose l'ingegnere porgendo la lettera anonima che aveva ricevuto Simon Simon Ford prese il foglio e lo lesse attentamente e poi lo mostrò al figlio conosci questa scrittura Harry no babbo e questa lettera portava il bollo dell'ufficio postale di Aberfoyle signor Star sì come la vostra che cosa ne pensi Harry secondo me babbo qualcuno aveva interesse a impedire che il signor Star venisse all'appuntamento da te fissato ma chi chi può essere penetrato nel segreto dei miei pensieri e Simon Ford presa a fantasticare in silenzio finché la voce di Madge non lo distrasse sediamoci signor Star la zuppa si raffredda per ora non pensiamo più a quella lettera e all'invito della vecchia ciascuno si accomodò a mensa James Star di fronte a Madge per farle onore il padre e il figlio ai rimanenti posti fu un buon pasto alla scozzese per primo si mangiò l'hoch poch una zuppa speciale con la carne che nuotava in un brodo eccellente secondo il vecchio Simon la sua compagna non conosceva rivali nell'arte di preparare l'hoch poch del resto fu lo stesso con il cochi leaky specie di ragù di gallo con porri che non meritava altro che elogi il tutto venne innaffiato con una birra eccellente proveniente dalle migliori fabbriche di edimburgo ma il piatto principale era l'aggis il budino nazionale fatto di carne e di farina d'orzo questo cibo squisito che ispirò al poeta Burns una delle sue odi migliori ebbe la sorte riservata alle belle cose di questo mondo passò come un sogno mage ricevette i complimenti sinceri del suo ospite il pranzo finì con il formaggio e cakes specie di ciambelle di avena preparate con molta arte e accompagnate da un bicchierino di eccellente acquavita di grano che aveva proprio l'età di Harry ovvero 25 anni il pasto durò un'ora buona James Tarr e Simon Ford non solo avevano mangiato bene ma avevano anche chiacchierato bene soprattutto dai vecchi tempi della miniera di Aberfoyle Harry invece era rimasto piuttosto silenzioso per due volte si era alzato da tavola ed era perfino uscito di casa evidentemente provava una certa inquietudine dopo l'incidente della pietra e voleva osservare i dintorni del cottage la lettera anonima poi non lo rassicurava di certo approfittando di una di queste uscite l'ingegnere disse a Simon Ford e a Mudge amici miei devo dirvi che quello è un bravo ragazzo sì signor James Harry è buono e affezionato e si trova bene con voi al cottage non vorrebbe lasciarci però penserete ad ammogliarlo prima o poi ammogliare Harry e a chi a una ragazza di lassù smaniosa di feste e di danze che preferirebbe il suo clan alla nostra miniera Harry non ne vorrebbe sapere Simon non pretenderai spero che il nostro Harry non prenda mai moglie io non pretendo niente Mudge ma la cosa non mi pare urgente chissà che non si possa trovargli Harry rientrava proprio allora e Simon Ford tacque quando Mudge si levò da tavola tutti la imitarono e andarono a sedersi un momento sulla porta di casa ebbene Simon ora vi ascolto signor James non ho bisogno dei vostri orecchi ma delle vostre gambe siete riposato abbastanza? riposato e ristorato Simon sono pronto ad accompagnarvi dove volete Harry accendi la lampada di sicurezza prendete lampade di sicurezza? si signor James per prudenza non vorrete anche propormi di indossare l'abito da minatore mio bravo Simon non ancora signor James non ancora Harry che era rientrato in casa ne uscì quasi subito con tre lampade di sicurezza ne consegnò una all'ingegnere l'altra a suo padre e tenne per sé la terza sospesa alla mano sinistra mentre prendeva nella destra un lungo bastone andiamo disse Simon Ford afferrando un robusto piccone che si trovava sulla porta di casa andiamo arrivederci mage dio vi assista mi raccomando mia cara preparo una buona cena intesi al ritorno avremo fame e le faremo senza dubbio onore capitolo 6 alcuni fenomeni inesplicabili si sa che cosa siano le credenze superstiziose nelle alte e basse terre della Scozia in certi clan i fittavoli riuniti a veglia amano ripetere storie ispirate al repertorio della mitologia nordica l'istruzione sebbene largamente e liberamente diffusa nel paese non è riuscita ancora a rendere finzioni queste leggende che sembrano inerenti al suolo stesso della vecchia caledonia è sempre il paese degli spiriti dei fantasmi delle fate e dei folletti dove compare prima o poi qualche genio malefico che non si allontana se non pagato oppure il seer degli islanders che per un dono di seconda vista predice le morti prossime o il mei mullac che appare sotto forma di una giovane dalle braccia pelose per avvertire le famiglie delle disgrazie incombenti o ancora la fata Branshee foriera di avvenimenti funesti e le Brownies custodi dei mobili di casa e infine l'Urisk che frequenta soprattutto le gole selvagge del lago Katrin e tanti altri naturalmente la gente delle miniere doveva fornire leggende e favole proprie a questo repertorio mitologico se le montagne delle islands sono popolate di esseri chimerici buoni e cattivi tanto più devono esserlo le miniere tenebrose fino nelle ultime profondità chi fa tremare il terreno nelle notti di uragano chi mette sulle tracce del filone ancora nascosto chi produce gli scoppi tremendi di gas se non qualche genio della miniera era questa almeno l'opinione comunemente diffusa fra quei superstiziosi scozzesi la maggior parte dei minatori credeva volentieri ai fantasmi quando si trattava semplicemente di fenomeni fisici e si sarebbe solo perso tempo a volerli disilludere la credulità dove mai poteva svilupparsi più liberamente se non in fondo a quegli abissi le miniere di Aberfoyle scavate nel paese delle leggende si prestavano naturalmente più di altre a tutti gli incidenti del soprannaturale le leggende perciò vi abbondavano d'altra parte certi fenomeni fino allora inesplicabili potevano soltanto alimentare la credulità della gente fra i più superstiziosi della fossa d'Ockard c'era Jack Ryan il compagno di Harry nessuno più di lui credeva nel soprannaturale tutte queste storie fantastiche egli le trasformava in canzoni e gli fruttavano un bel successo nelle veglie invernali ma Jack Ryan non era il solo mostrarsi credulo i suoi compagni affermavano non meno convinti che le fosse d'Aberfoyle erano visitate da spiriti perché certi esseri incorporei vi apparivano spesso come nelle Highlands a sentir loro sarebbe anzi stato straordinario se non fosse stato così c'è forse il luogo più adatto di una buia e profonda miniera per gli spassi dei geni dei folletti e degli altri attori dei drammi fantastici la scena era bella e pronta perché non avrebbero dovuto esserci personaggi soprannaturali a rappresentare lì la loro parte così ragionavano Jack Ryan e i suoi compagni delle miniere di Aberfoyle come abbiamo detto le diverse fosse comunicavano per mezzo di lunghe gallerie sotterranee aperte tra i filoni sotto la contea di Stirling c'era persino un enorme massiccio solcato da gallerie scavato da antri e forato da pozzi una specie di ipogeo di labirinto sotterraneo che aveva l'aspetto di un vasto formicaio i minatori dei diversi fondi si incontravano dunque spesso sia quando si recavano al lavoro sia quando ne ritornavano perciò era sempre possibile scambiare quattro chiacchiere e divulgare da una fossa all'altra storielle sulla miniera i racconti si diffondevano con meravigliosa rapidità passando di bocca in bocca sempre più esagerati come in genere accade sempre due uomini tuttavia più istruiti e di temperamento più positivo degli altri avevano sempre resistito a questa tendenza e non ammettevano per nulla l'intervento dei folletti dei geni o delle fate questi erano Simon Ford e suo figlio e ne diedero prova andando ad abitare in quella buia caverna dopo che la fossa d'Occard fu abbandonata forse la buona Mudge si sentiva abbastanza attirata dal soprannaturale come ogni donna scozzese delle Highlands ma era costretta a raccontarle a se stessa queste storie di apparizioni e lo faceva coscienziosamente per non perdere le vecchie tradizioni Simon Harry Ford seppure ci avessero creduto come i loro compagni non avrebbero mai abbandonato la miniera ai geni o alle fate per la speranza di scoprire un nuovo filone avrebbero addirittura sfidato tutta la fantastica corte dei folletti su un punto solamente erano creduli non potevano ammettere che il giacimento carbonifero di Aberfoyle fosse del tutto esaurito si può anzi dire che Simon Ford e suo figlio avevano in proposito una fede cieca come la fede in Dio che nulla può smuovere così da dieci anni senza mancare un sol giorno ostinati immutabili nelle loro convinzioni padre e figlio pigliavano il piccone e il bastone e la lampada e se ne andavano tutti e due cercando tastando la roccia con colpi secchi e ascoltando se per caso questa desse un suono favorevole finché i sondaggi non fossero arrivati al granito del terreno primario Simon e Harry Ford erano d'accordo che le ricerche oggi inutili potevano dimostrarsi utili in seguito perciò bisognava continuarle avrebbero passato tutta la vita per tentare di ridare alla miniera di Eberfoil la sua antica prosperità se il padre fosse venuto meno prima di riuscirvi il figlio avrebbe ripreso quel compito da solo al medesimo tempo questi due custodi innamorati della miniera la visitavano per badare alla sua conservazione si assicuravano della solidità dei rinterri e delle volte controllavano se ci fosse qualche frana da temere o se si dovesse chiudere con urgenza qualche parte della fossa esaminavano le tracce di infiltramento delle acque superiori e le incanalavano per mandarle in qualche pozzo insomma erano diventati volontariamente i protettori e i conservatori di quel dominio improduttivo dal quale erano uscite tante ricchezze oramai ridotte letteralmente in fumo durante alcune di queste escursioni capitò soprattutto a Harry di essere colpito da certi fenomeni che non riusciva a spiegare molte volte percorrendo qualche stretta contro galleria gli era parso di udire rumori simili a violenti colpi di piccone picchiati sulla parete Harry che non temeva i fenomeni soprannaturali più di quelli naturali affrettava il passo per rendersi conto di cosa stava succedendo il tunnel era sempre deserto alla luce della lampada il giovane minatore non vedeva tracce recenti di piccone sulle pareti Harry si domandava se quella non fosse un'illusione acustica qualche eco bizzarra o fantastica altre volte gettando improvvisamente la luce su una fessura sospetta aveva creduto di vedere passare un'ombra e si era slanciato nulla benché nessuna uscita potesse permettere a una creatura umana di fuggire due volte in un mese Harry visitando la parte ovest della fossa udì distintamente detonazioni lontane come se qualche minatore avesse fatto scoppiare la dinamite l'ultima volta dopo minuziose ricerche aveva scoperto che un pilastro era stato sventrato da uno scoppio di mina alla luce della lampada Harry esaminò attentamente la parete danneggiata dalla mina non si trattava di una semplice rinterro di pietre ma di uno strato di schisto penetrato profondamente fino al livello del giacimento carbonifero facendo scoppiare quella mina si era forse voluto scoprire un nuovo filone oppure soltanto far crollare quella parte della miniera Harry se lo domandava e ne parlò con suo padre ma il vecchio Overman non riuscì meglio di lui a trovare una risposta soddisfacente è strano la presenza nella miniera di un individuo sconosciuto sembra impossibile eppure non può essere messa in dubbio allora qualcun altro sta cercando bene non ancora sfruttate ma forse costui vuole semplicemente distruggere gli ultimi resti delle miniere di Aberfoil ma a che scopo? beh io lo saprò dovesse costarmi la vita due settimane prima del giorno in cui Harry Ford faceva da guida dall'ingegnere attraverso il dedalo della fossa d'Ockhart egli si era visto lì lì per raggiungere lo scopo delle sue ricerche percorreva le estremità sud-ovest della miniera con in mano un potente fanale a un tratto gli parve che una luce si spegnesse a una cinquantina di metri davanti a sé in fondo a una stretta gola che tagliava obliquamente la roccia si precipitò allora verso la luce sospetta ma non scoprì nulla Harry non ammetteva per le cose fisiche alcuna spiegazione soprannaturale perciò si convinse che certamente un essere sconosciuto gironzolava per la fossa qualunque cosa facesse cercando con la massima cura scrutando ogni minimo vano della galleria il giovane ci rimise la fatica senza poter stabilire nulla di certo Harry si affidò dunque al caso per risolvere quel mistero di tanto in tanto vedeva apparire strani bagliori che volteggiavano da un punto all'altro come fuochi di Sant'Elmo ma la loro comparsa aveva la durata di un baleno e non fu possibile scoprirne la causa se Jack Ryan e gli altri superstiziosi della miniera avessero veduto quelle fiamme fantastiche non avrebbero certamente tralasciato di gridare al miracolo o al soprannaturale Harry invece non ci pensava neppure e il vecchio Simon meno ancora insieme discorrevano talora di questi fenomeni dovuti evidentemente a una causa fisica e il vecchio Overman concludeva dicendo aspettiamo ragazzo un giorno o l'altro si spiegherà ogni cosa conviene inoltre osservare che fino ad allora Harry e suo padre non erano mai stati oggetto di nessun atto di violenza se la pietra caduta ai piedi di James Starr la mattina stessa del suo arrivo era stata lanciata da qualche malintenzionato quello era il primo atto criminoso del genere secondo l'ingegnere quella pietra si era staccata da una volta della galleria ma Harry non si accontentò di una spiegazione così semplice a parer suo la pietra non era caduta ma era stata lanciata a meno che fosse rimbalzata non avrebbe mai descritto quella traiettoria se non l'avesse mossa una spinta qualsiasi Harry interpretava il fatto come un tentativo ostile contro di lui e contro suo padre e forse anche contro l'ingegnere dopo quanto sappiamo si converrà facilmente che aveva ragione di crederlo capitolo 7 un esperimento di Simon Ford suonava mezzogiorno al vecchio orologio di legno della sala quando James Tarr e i suoi due compagni lasciarono il cottage la luce penetrando attraverso il pozzo che lasciava passare l'aria rischiarava appena lo spiazzo sotterraneo la lampada di Harry al momento sembrava inutile ma non doveva tardare a servire perché il vecchio Overman intendeva condurre l'ingegnere verso l'estremità della fossa Dockard dopo aver seguito per circa 3 km la galleria principale i tre esploratori come vedremo si trattava ormai proprio di un'esplorazione giunsero all'apertura ad una stretta galleria sembrava una contronavata con la volta appoggiata sopra una travatura tappezzata di muschio bianchiccio e seguiva pressapoco la linea tracciata dall'alto corso del fort 450 metri più sopra pensando forse che James Tarr avesse meno dimestichezza di un tempo con il dedalo della fossa Dockard Simon Ford gli ricordava i tracciati della pianta generale paragonandoli al disegno geografico del suolo James Tarr e Simon Ford camminavano dunque conversando Harry li precedeva rischiarando la strada e ogni tanto faceva bruscamente luce nei vani bui per scoprire qualche ombra sospetta Dobbiamo andare ancora molto lontano vecchio Simon ancora 7-800 metri signor James un tempo avremmo fatto quella strada in berlina sul tramway o trazione meccanica ma quanto è lontano ormai quel tempo ci stiamo dirigendo verso le estremità dell'ultimo filone si vede che conoscete ancora bene la miniera sarebbe difficile andare oltre se non sbaglio è vero signor James è là che i nostri picconi hanno strappato l'ultimo pezzo di carbone me lo ricordo come se fosse ora quell'ultimo colpo fu io a darlo lo sento ancora risuonare nel mio petto più forte che sulla roccia intorno a noi non si vedeva che era in aria o schisto e quando il vagoncino rotolò verso il pozzo di estrazione io lo seguì con il cuore commosso come si segue un funerale di povera gente mi sembrava che se ne andasse con esso l'anima della miniera la gravità con cui Loverman pronunciò queste parole impressionò l'ingegnere che provava gli stessi sentimenti quelli del marinaio che abbandona la nave disalberata quelli del laird che vede attarrare la casa dai suoi antenati James Tarr aveva stretto la mano di Simon Ford ma a sua volta costui aveva preso la mano dell'ingegnere e la stringeva forte quel giorno ci eravamo ingannati tutti no la vecchia miniera non era morta non era un cadavere quello che i minatori dovevano abbandonare e oso affermare signor James che il suo cuore batte ancora spiegatevi Simon Ford avete allora scoperto davvero un nuovo filone io lo sapevo la vostra lettera non poteva significare altro una comunicazione da farmi dalla fossa d'Occard e quale altra scoperta se non quella di uno strato carbonifero avrebbero potuto starmi a cuore signor James non ho voluto avvertire nessun altro e avete fatto bene Simon ma ditemi come con quali sondaggi l'avete accertato ascoltatemi signor James in verità io non ho trovato un giacimento e che cosa avete trovato dunque solamente la prova materiale che un giacimento esiste potete voi ammettere che si sprigioni gas dalle viscere della terra se non c'è carbone per produrlo certo che no Simon se non c'è carbone non può esserci gas infiammabile non esistono effetti senza cause come non c'è fumo senza fuoco e voi avete notato ancora una volta la presenza dell'idrogeno protocarbonato un vecchio minatore non si può ingannare ho riconosciuto il nostro vecchio nemico il gas ma se fosse un altro gas l'idrogeno a protocarbonato è quasi in odore senza colore soltanto al momento dello scoppio rivela veramente la sua presenza signor James lasciate che vi racconti ciò che ho fatto e come l'ho fatto a modo mio e scusate le lungaggini James Tarr conosceva il vecchio Overman e sapeva che era meglio lasciarlo dire signor James in dieci anni non è passato giorno senza che Harry ed io pensassimo di ridare alla miniera la prosperità di un tempo non un solo giorno se ancora esisteva qualche giacimento eravamo decisi a scoprirlo ma con quali mezzi? gli scandagli? non era possibile però noi avevamo l'istinto del minatore e spesso si va più dritto alla meta con l'istinto che con la ragione almeno io la penso così e io non vi contraddico ora ecco ciò che Harry aveva osservato uno o due volte nelle sue escursioni a ovest della miniera apparivano talvolta attraverso lo schisto e i rinterri delle gallerie estreme strani fuochi che improvvisamente si spegnevano come mai questi fuochi si accendevano? non avrei saputo spiegarlo e ho ancora oggi io non lo so ma in sostanza questi fuochi erano evidentemente dovuti alla presenza del gas e per me il gas era il filone di carbon fossile questi fuochi non producevano nessuno scoppio? si piccoli scoppi parziali e ne provocai io stesso quando voglio accertare la presenza del grisù vi ricordate in che modo una volta si cercava di prevenire gli scoppi di gas nelle miniere prima che il nostro buon genio Humphrey Davy avesse inventato la lampada di sicurezza? oh si volete parlare del penitente? ma io non l'ho mai visto in azione infatti signor James voi siete troppo giovane nonostante i vostri 55 anni ma io ho dieci anni più di voi e ho potuto vedere in azione l'ultimo penitente della miniera lo si chiamava così perché portava una gran veste monacale il suo vero nome era Fireman l'uomo del fuoco a quel tempo non c'era altro modo per distruggere i gas nocivi se non quello di decomporli con piccoli scoppi prima che per la loro estrema leggerezza si raccogliessero in quantità eccessive nella parte alta delle gallerie perciò il penitente con la faccia mascherata e la testa coperta dal soffitto cappuccio il corpo stretto nella veste di bigello se ne andava strisciando per terra respirava sul fondo della galleria dove l'aria era pura e il braccio teso agitava sollevandola sopra il capo una torcia accesa quando nell'aria c'era gas sufficiente da formare una miscela esplosiva lo scoppio avveniva senza gravi conseguenze e ripetendo spesso quest'operazione si riusciva a prevenire la catastrofe talvolta il penitente colpito dallo scoppio moriva e veniva sostituito con un altro si è sempre fatto così finché la lampada dei Davi non fu introdotta in tutte le miniere io conoscevo il vecchio sistema e me ne sono servito per riconoscere la presenza del gas perciò quella di un nuovo giacimento carbonifero nella fossa d'Ockard tutto ciò che il vecchio Overman aveva raccontato del penitente era rigorosamente esatto un tempo si faceva proprio così nelle miniere per purificare l'aria delle gallerie l'idrogeno protocarbonato gas dei pantani in colore quasi in odore poco illuminato è assolutamente inadatto alla respirazione il minatore non potrebbe vivere in un luogo saturo di quel gas malefico come non potrebbe vivere in un gasometro pieno di gas illuminante inoltre come quest'ultimo che è idrogeno bicarbonato quel gas forma una miscela esplosiva non appena si combina con l'aria nella proporzione di 8 e forse anche di 5% se questa miscela si infiamma per una causa qualsiasi si produce un'esplosione che comporta quasi sempre spaventose catastrofi l'apparecchio di Davy scongiurò appunto tale pericolo isolando la fiamma della lampada in un tubo di fitta rete metallica all'interno del quale il gas brucia senza che la fiamma possa propagarsi al di fuori questa lampada di sicurezza fu perfezionata in 20 miniere se per caso si spezza si spegne subito e si spegne anche quando il minatore cerca di aprirla nonostante sia severamente proibito perché dunque avvengono ancora gli scoppi perché nulla può rimediare all'imprudenza di un operaio che voglia ad ogni costo accendere la pipa o all'urto di un piccone che può produrre una scintilla non tutte le miniere sono infette dal gas in quelle dove non c'è si può usare la lampada normale questo accade fra l'altro nella fossa tiers nella miniere di Hansin ma quando il carbon fossile del giacimento è grasso contiene una certa quantità di sostanze gassose che possono sprigionarsi in grande abbondanza la lampada di sicurezza soltanto è fatta in modo da impedire scoppi tanto più terribili in quanto i minatori non direttamente colpiti dal gas corrono il rischio di rimanere istantaneamente asfissiati nelle gallerie impregnate dell'altro gas dell'eterio che si forma dopo l'accensione cioè dall'acido carbonico mentre i due camminavano Simon Ford raccontava l'ingegnere come aveva fatto per riuscire al suo intento e in che modo aveva accertato che il gas si sprigionava in fondo all'estrema galleria della fossa dalla parte occidentale e il metodo usato per provocare alla superficie delle lamelle di schisto alcuni scoppi parziali o per meglio dire certe accensioni che non lasciavano alcun dubbio sulla natura del gas il quale si sprigionava in piccole dosi ma costantemente un'ora dopo aver lasciato il cottage James Starr e suoi due compagni avevano percorso una distanza di circa 6 km l'ingegnere spinto dal desiderio e dalla speranza aveva fatto quella camminata senza pensare alla fatica meditava su tutto quanto gli diceva il vecchio minatore ripensava fra sé agli argomenti che costui portava in favore della sua tesi era anche lui convinto che l'emanazione di idrogeno protocarbonato indicasse con certezza l'esistenza di qualche filone importante se si fosse trattato semplicemente di una piccola cavità piena di gas come se ne trovano a volte fra una lamella e l'altra si sarebbe ben presto svuotata e il fenomeno avrebbe cessato di prodursi ma stando alle parole di Simon Ford l'idrogeno si sprigionava incessantemente perciò si poteva credere alla presenza di qualche filone importante in tal caso le ricchezze della fossa d'Ockard non erano forse esaurite del tutto tuttavia che possibilità di sfruttamento si potevano prevedere quel giacimento era limitato oppure occupava un largo spazio del terreno carbonifero qui stava veramente il problema Harry che precedeva suo padre l'ingegnere adesso si era fermato eccoci giunti finalmente grazie a Dio voi siete qua signor James e sapremo la voce solitamente ferma del vecchio Overman tremava un poco mio bravo Simon calmatevi sono commosso quanto voi ma non bisogna perder tempo in quel punto l'ultima galleria della fossa formava una specie di caverna oscura nessun pozzo era stato scavato da quella parte e la galleria che si addentrava profondamente nelle viscere del suolo non aveva comunicazione diretta con la superficie della contea di Sterling James Tarr vivamente impressionato esaminava con occhio grave il luogo dove si trovava sulla parete terminale della caverna si vedevano ancora le tracce degli ultimi colpi di piccone e anche alcuni fori prodotti dalle mine fatte scoppiare quando ormai l'attività della miniera avvolgeva al termine la materia schistosa era durissima e non era stato necessario rafforzare con rinterri le parti del landrone dove i lavori avevano dovuto arrestarsi in quel punto infatti veniva a morire il filone carbonifero fra gli schisti e le arenarie del terreno terziario lì era stato estratto l'ultimo pezzo di combustibile della fossa d'Ockard è qui signor James proprio qui bisogna lavorare perché dietro a questa parete a una profondità che non saprei definire si trova il nuovo filone di cui vi ho parlato è alla superficie di queste rocce che avete notato la presenza del gas sì appunto signor James ho potuto accenderlo soltanto avvicinando la lampada alle pareti Harry ha fatto come me a che altezza? a dieci piedi da terra James Tarr si era seduto sopra una sporgenza della roccia ci sarebbe detto che dopo aver fiutato l'aria della caverna egli guardasse i due minatori dubitando quasi delle loro parole per quanto affermative l'idrogeno protocarbonato infatti non è del tutto in odore e l'ingegnere era meravigliato che il suo olfatto finissimo non gli avesse rivelato la presenza del gas esplosivo in ogni modo se quel gas era misto all'aria doveva esserlo in dosi piccolissime perciò non c'erano esplosioni da temere e si poteva senza pericolo aprire la lampada di sicurezza per tentare l'esperimento come già aveva fatto il vecchio minatore ciò che inquietava James Starr in quel momento non era dunque che vi fosse troppo gas nell'aria ma che non ce ne fosse abbastanza o forse per nulla che si siano ingannati no sono uomini che se ne intendono eppure e aspettava dunque non senza ansietà che il fenomeno segnalato da Simon Ford avvenisse in sua presenza ma allora parve che quanto aveva osservato vale a dire la mancanza dell'odore proprio del gas fosse stata notata anche da Harry perché costui con voce affannosa disse papà mi sembra che il gas non sfugga più attraverso le lamelle di schisto non sfugge più esclamò il vecchio minatore e Simon Ford dopo aver chiuso ermeticamente le labbra aspirò forte con il naso più volte poi ad un tratto con un movimento brusco dammi la tua lampada Harry Simon Ford prese la lampada con mano tremante tolse il rivestimento di rete metallica che circondava lo stoppino e la fiamma arse libera nell'aria come previsto non seguì alcuno scoppio ma cosa ancora più grave non si avvertì nemmeno quel leggero stridio che indica la presenza del gas in piccolissime dosi Simon Ford prese il bastone di Harry legò la lampada alle sue estremità e poi lo sollevò negli strati superiori dell'aria dove il gas per la sua leggerezza avrebbe dovuto accendersi per quanto fosse in minima quantità la fiamma della lampada dritta e bianca non svelò alcuna traccia di idrogeno protocarbonato alla parete sì disse Simon accostando la lampada alla parete dove insieme con il figlio aveva notato l'uscita del gas il giorno prima il braccio del vecchio minatore tremava mentre cercava di portare la lampada alle fessure dello schisto fallo tu Harry Harry prese il bastone e avvicinò successivamente la lampada ai diversi punti delle pareti dove le lamelle sembravano staccarsi ma ogni volta scoteva il capo non udendo quel leggero stridio proprio del gas che sfugge l'accensione non avvenne era dunque evidente che dalla parete non usciva nessuna molecola di gas nulla esclamò Simon Ford stringendo il pugno per la collera più che per lo sconforto un grido sfuggì allora dalla bocca di Harry che hai? le fessure dello schisto sono state turate sei sicuro Harry? certo guarda papà Harry non si era ingannato l'otturamento delle fessure si vedeva benissimo alla luce della lampada un intonaco fatto di recente con la calce lasciava intravedere una lunga traccia bianchissima mal dissimulata sotto uno strato di polvere di carbone lui lui non può essere che lui lui si quell'essere misterioso che si aggira nel nostro dominio signor star l'individuo che ho spiato cento volte senza mai riuscire a coglierlo la persona ormai ne sono certo che con quella lettera voleva impedirvi di venire all'appuntamento fissatovi da mio padre signor star è lo stesso che ci ha gettato un sasso nella galleria del pozzo Yarrow ah ormai non c'è più dubbio in tutto questo c'entra la mano di un uomo Harry aveva parlato con tanta energia che la sua convinzione si trasmise immediatamente all'ingegnere quanto al vecchio overman non c'era bisogno di convincerlo d'altra parte avevano di fronte un fatto incontestabile l'otturamento delle fessure attraverso le quali il gas sfuggiva liberamente il giorno prima prendi tu il piccone Harry montami sulla spalla sono robusto abbastanza da reggerti Harry comprese suo padre si appoggiò alla parete e Harry li montò sulle spalle in modo da arrivare con il piccone alla traccia più visibile dell'intonaco poi a furia di colpi intaccò la roccia schistosa ricoperta da quell'intonaco subito si udì un crepitio simile a quello che fa lo champagne quando sfugge da una bottiglia crepitio che nelle miniere inglesi è conosciuto con il nome onomatopeico di puff Harry presa allora la sua lampada e la costò alla fessura si udì un leggero scoppio e una piccola fiamma rossa contornata da un alone azzurrognolo volteggiò sulla parete come avrebbe fatto un fuoco di Sant'Elmo Harry balzò subito a terra e il vecchio overman non potendo frenare la sua gioia prese le mani dell'ingegnere esclamando evviva evviva signor James il gas arde dunque il filone c'è capitolo 8 uno scoppio di dinamite l'esperimento annunciato dal vecchio overman era riuscito l'idrogeno protocarbonato si sa si sviluppa solamente nei giacimenti carboniferi dunque non si poteva dubitare dell'esistenza di un filone del prezioso combustibile ma di quale importanza e di quale qualità era questo si sarebbe stabilito più tardi queste furono le conclusioni che l'ingegnere dedusse dal fenomeno osservato ed erano conformi in tutto a quanto aveva sostenuto Simon Ford fino a quel momento si dietro questa parete Simon si stende uno strato carbonifero che i nostri scandagli non hanno potuto scoprire è un peccato perché tutti gli attrezzi della miniera abbandonato ormai da dieci anni sono ormai da rifare ma non importa abbiamo ritrovato la vena che si credeva esaurita e questa volta la sfrutteremo fino all'ultimo ebbene signor James che ve ne pare della nostra scoperta ho avuto ragione di incomodarvi vi dispiace di aver fatto un'ultima visita alla fossa d'Occard no no mio vecchio compagno non abbiamo perduto il nostro tempo ma lo perderemo ora se non tornassimo immediatamente al cottage domani ritorneremo qui e romperemo la parete a colpi di dinamite metteremo in luce il nuovo filone e dopo una serie di sondaggi se lo strato sembra importante io ricostituirò una società della new haberfoil con grande soddisfazione degli antichi azionisti fra tre mesi saranno estratti dal nuovo giacimento i primi vagoncini di carbone ben detto signor James la vecchia miniera tornerà giovane come una vedova che si rimariti ricomincerà la vita di un tempo con i colpi di zappa e di piccone con gli scoppi delle mine il rotolare dei vagoni il nitrire dei cavalli lo stridere dei carri e il brontolio delle macchine finalmente potrò rivedere questo spero signor James che non mi troverete troppo vecchio e che potrò riprendere le mie funzioni di overman no bravo Simon no certo voi siete rimasto più giovani di me il mio vecchio camerata San Mungo ci protegga voi sarete ancora il nostro viewer auguriamoci che la nostra attività della miniera possa durare lunghi anni e voglia il cielo che io abbia la consolazione di morire senza averne visto la fine la gioia del vecchio minatore traboccava James Starr ne era partecipe ma lasciava che Simon Ford andasse in estasi per due Harry soltanto se ne stava pensoso gli ritornavano alla mente le circostanze singolari inesplicabili in mezzo alle quali si era compiuta la scoperta del nuovo giacimento e naturalmente si sentiva inquieto per il futuro un'ora dopo James Starr tra i suoi due compagni erano di ritorno al cottage l'ingegnere cenò con grande appetito approvando con cenni del capo tutti i discorsi che veniva facendo il vecchio Overman e se non fosse stato impaziente di essere al giorno dopo non avrebbe mai dormito meglio che in quella calma assoluta del cottage la mattina seguente dopo una colazione sostanziosa James Starr Simon Ford Harry e la stessa Madge riprendevano la via percorsa alla vigilia camminavano da veri minatori portando diversi attrezzi e alcune cartucce di dinamite destinata a far saltare la parete terminale Harry oltre a un potente fanale prese una grossa lampada di sicurezza che poteva ardere 12 ore era più che sufficiente per il viaggio di andata e di ritorno comprese le soste necessarie all'esplorazione se questa fosse stata possibile all'opera disse Simon quando arrivò con i suoi compagni in fondo alla galleria e la sua mano afferrò un piccone pesante e lo brandì vigorosamente un momento un momento Simon osserviamo se è avvenuto qualche mutamento e se il gas sfugge sempre attraverso le fessure della parete avete ragione signor star non è escluso che abbia noturato di nuovo la parete rispose Harry Madge seduta sopra una sporgenza della roccia osservava attentamente la muraglia che si trattava di sventrare nulla era mutato da quando se ne erano andati il giorno prima le fessure delle lamelle non erano state alterate l'idrogeno protocarbonato trapelava in pochissima quantità e questo senza dubbio perché dalla vigilia aveva libero sfogo peraltro le esalazioni erano così minime che non dovevano formare con l'aria interna una miscela esplosiva James Tarr e i suoi compagni potevano dunque fare i loro esperimenti con la massima sicurezza d'altra parte l'aria si sarebbe purificata poco a poco passando agli strati superiori della fossa Dockard e il gas diffuso in tutta quell'atmosfera non avrebbe prodotto alcuno scoppio all'opera dunque e poco dopo sotto i colpi robusti del piccone e dell'overman la roccia si frantumò il macigno si componeva specialmente di pudding frapposta all'arenaria e allo schisto come se ne incontrano il più delle volte all'inizio dei filoni carboniferi James Tarr raccoglieva i pezzi che il piccone faceva cadere e li esaminava attentamente sperando di scoprirvi qualche indizio di carbone questo primo lavoro durò circa un'ora e alla fine si era formato un vano abbastanza profondo nella parete terminale James Tarr scelse allora i punti dove bisognava aprire i fori delle mine lavoro che fu compiuto rapidamente da Harry con il trapano e la mazzuola cariche di dinamite furono introdotte nei fori si applicò la lunga miccia incatramata in un razzo di sicurezza collegata a una capsula di fulminato e la si accese rasente il suolo James Tarr e i suoi compagni si trassero in disparte ah signor James mai prima d'ora no mai il mio vecchio cuore ha battuto così forte vorrei già essere arrivato al filone pazienza mio caro Simon non pretenderete spero di trovare dietro questa parete una galleria già aperta ah scusatemi signor James ho tutte le pretese possibili se c'è stata fortuna nel modo in cui io e Harry abbiamo scoperto questo giacimento perché la buona sorte non dovrebbe ancora favorirci fino alla fine quando finalmente la dinamite scoppiò un brontolio sordo si propagò attraverso la rete delle gallerie sotterranee James Tarr Mudge Harry e Simon Ford tornarono in fretta verso la parete della caverna signor James signor James vedete la porta è sfondata questo paragone di Simon Ford era giustificato dalla comparsa di una cavità di cui non si poteva valutare la profondità Harry stava già per slanciarsi in quel vano l'ingegnere estremamente meravigliato di trovarsi di fronte a quella caverna trattenne il giovane minatore Harry lascia il tempo all'aria di purificarsi si Harry guardati dalle moffette esclamò Simon Ford passò un quarto d'ora di attesa ansiosa il fanale legato in cima a un bastone fu allora introdotto nel cavo e continuò ad ardere con inalterabile splendore va avanti se vuoi Harry noi ti seguiremo il vano prodotto dalla dinamite era più che sufficiente perché un uomo potesse passarvi James Tarr Simon Ford e Mudge immobili aspettavano Harry con la lampada in mano si avanzò senza esitazione e disparve nel buio passò un minuto che sembrò loro un secolo Harry non ricompariva e non chiamava neppure avvicinandosi all'apertura James Tarr non vide neppure il bagliore della lampada che avrebbe dovuto rischiarare quella cavità tenebrosa forse il suolo era venuto meno a un tratto sotto i piedi di Harry il giovane minatore era caduto in qualche strapiombo la sua voce non poteva giungere ai suoi compagni il vecchio overman senza ascoltare i consigli dei compagni stava per varcare a sua volta l'apertura della caverna quando apparve una luce prima fioca poi man mano più intensa e Harry fece udire queste parole venite signor star vieni papà la via è libera nella nuova Aberfoil capitolo 9 la nuova Aberfoil se per qualche sovrumana potenza gli ingegneri avessero potuto togliere d'un sol colpo e per uno spessore di 300 metri tutta la parte della crosta terrestre che sorregge l'insieme di laghi di fiumi di golfi e di territori rivieraschi della contea di Sterling di Dumbarton e di Renfrew essi avrebbero trovato sotto quell'enorme coperchio una cavità immensa paragonabile alla celebre grotta di Mammoth nel Kentucky questa cavità si componeva di molte centinaia di vani di ogni forma e di ogni grandezza l'avreste detto un alveare con i suoi molteplici piani di cellule capricciosamente disposte ma un alveare costruito in grande che invece di api avrebbe potuto alloggiare tutti gli itiosauri i megatteri e i pterodattili dell'epoca geologica un labirinto di gallerie alcune più alte delle più alte volte delle cattedrali altre simili a valli ristrette tortuose che si aprivano orizzontalmente oppure risalivano scendevano in linea obliqua per ogni verso collegando fra loro le numerose cavità i pilastri di sostegno delle volte formate da curve che ammettevano tutti gli stili le grosse muraglie saldamente piantate fra le diverse gallerie le navate stesse in questo strato di terreni secondari erano fatti di arenaria e di rocce schistose ma fra queste falde inutili correvano meravigliose vene di carbone come se il sangue nero della singolare miniera circolasse attraverso la loro rete inestricabile questi giacimenti si stendevano per circa 60 chilometri da nord a sud e arrivavano fin sotto il canale del nord per valutare l'importanza di quel bacino ci volevano gli scandagli ma certamente doveva essere più ricco dei giacimenti carboniferi di Cardiff nel Galles o di Newcastle nella contea di Northumberland conviene aggiungere inoltre che lo sfruttamento di questa miniera sarebbe stato singolarmente facile perché per una bizzarra disposizione dei terreni secondari per un'inesplicabile ritirarsi della sostanza minerale durante la solidificazione del massiccio all'epoca geologica la natura aveva già moltiplicato le gallerie della nuova Berfoil sì la natura soltanto si sarebbe potuto credere da principio alla scoperta di qualche miniera abbandonata da secoli e invece no non si abbandonano tante ricchezze le termiti umane non avevano mai eroso questa parte del sottosuolo della Scozia ed era la natura che aveva fatto le cose in quel modo ma ripetiamolo nessun ipogeo dell'epoca egiziana nessuna catacomba dell'epoca romana si potevano paragonare a quella miniera un confronto era possibile solo con le celebri grotte di Mammoth lunghe oltre 30 chilometri con 226 viali 11 laghi 7 fiumi 8 cateratte 32 pozzi profondi e 57 volte alcune sospese a oltre 130 metri di altezza come queste grotte la nuova Berfoil era opera non degli uomini ma del creatore ecco qual era il nuovo dominio di incomparabile ricchezza che il vecchio Overman aveva scoperto 10 anni di soggiorno nella vecchia miniera una costanza rara nelle ricerche una fiducia assoluta sorretta da un meraviglioso istinto di minatore tutte queste condizioni gli erano servite per riuscire dove tanti altri sarebbero falliti perché gli scandagli fatti sotto la direzione di James Starr negli ultimi anni di attività si erano arrestati proprio a quel punto alle soglie della nuova miniera beh ciò era dovuto al caso che ha tanta parte nelle ricerche di quel genere in ogni modo nel sottosuolo scozzese c'è sempre una specie di contea sotterranea che per essere abitabile mancava unicamente dei raggi del sole o almeno della luce di qualche astro speciale l'acqua si raccoglieva in certe depressioni che formavano ampi stagni o anche laghi più vasti del lago Caterine situato proprio al di sopra naturalmente quei laghi non avevano moto ondoso correnti oppure risacca non riflettevano i profili di nessun castello gotico sulle loro rive non si curvavano betulle né querce le montagne non allungavano le proprie ombre alla superficie delle acque dove non si vedevano steamboz e neppure luci riflesse nessun mostro marino popolava le sue acque il sole non le abbracciava con i suoi raggi abbaglianti né sorgeva la luna sul loro orizzonte eppure quei laghi profondi che nessuna brezza mai increspava sarebbero parsi suggestivi alla luce di qualche astro elettrico collegati fra loro da una rete di canali avrebbero ben completato la geografia di quel dominio singolare sebbene inadatto a produrre vegetali in quel sottosuolo avrebbe potuto abitare un'intera popolazione e chi sa se in questi luoghi dalla temperatura costante in fondo le miniere di Aberfoyle come in quelle di Newcastle da Loa o di Cardiff chissà che la classe povera del Regno Unito non trovi un giorno asilo quando i giacimenti saranno esauriti capitolo 10 andata e ritorno al richiamo di Harry James Tarr Mudge e Simon Ford erano penetrati attraverso l'apertura angusta che metteva in comunicazione la fossa Dockard con la nuova miniera essi si trovavano allora al principio di una galleria abbastanza larga si sarebbe potuto credere che fosse stata trasformata dalla mano dell'uomo che il piccone e la zappa l'avessero scavata cercando un nuovo giacimento gli esploratori si domandavano se per qualche strano caso non fossero finiti in un'antica miniera sconosciuta persino ai più vecchi minatori della contea ma no erano gli strati geologici che avevano risparmiato questa galleria durante l'assestamento dei terreni secondari forse un tempo era percorsa da qualche torrente quando le acque superiori andavano a mescolarsi con i vegetali sommersi ma ormai era asciutta come se fosse stata scavata alcune migliaia di metri sotto la superficie terrestre nello stato delle rocce granitiche l'aria circolava perfettamente e questo indicava che la galleria era in comunicazione con l'atmosfera esterna per mezzo di ventilatori naturali questa osservazione fatta dall'ingegnere era giusta e si sentiva che la reazione avveniva facilmente nella nuova miniera quanto al gas che trapelava poco prima attraverso gli schisti della parete ormai doveva essersi sprigionato da qualche piccola cavità vuota perché l'atmosfera della galleria non ne conservava la minima traccia per precauzione tuttavia Harry aveva portato con sé solamente la lampada di sicurezza che gli assicurava la luce per 12 ore James Tarr e i suoi compagni traboccavano di gioia avevano finalmente raggiunto una completa soddisfazione dei loro desideri intorno a loro non c'era altro che carbone una profonda commozione li rendeva muti lo stesso Simon Ford si tratteneva la sua gioia si manifestava semplicemente con brevi interiezioni forse non era prudente inoltrarsi tanto nella cripta ma che essi non pensavano nemmeno al ritorno la galleria era praticabile poco tortuosa non si notavano crepacci che sbarrassero il cammino e neppure esalazioni nocive non avevano nessun motivo dunque per fermarsi e per un'ora intera James Tarr Mudge Harry e Simon Ford proseguirono senza che nulla potesse loro indicare l'esatta direzione di quella galleria sconosciuta e sarebbero andati senza dubbio ancora più lontani se non fossero improvvisamente arrivati in fondo alla via che seguivano dal loro ingresso nella miniera la galleria faceva capo una caverna enorme di cui non si poteva giudicare né l'ampiezza né la profondità che altezza poteva avere la volta e dove sorgeva la parete opposta di quella cavità le tenebre impedivano di stabilirlo ma al che errore della lampada gli esploratori poterono notare che la cupola ricopriva una vasta distesa di acqua stagnante dalle rive pittoresche fra stagliate rocciose che si perdevano nell'oscurità fermi un passo di più e rotolavamo forse in qualche bisso riposiamoci amici bisognerà anche decidersi a ritornare al cottage la lampada può ardere altre dieci ore signor star ebbene riposiamoci lo stesso Harry confesso che le mie gambe ne hanno bisogno e voi Madge non vi sentite stanca dopo una camminata così lunga non tanto signor James noi avevamo l'abitudine di esplorare per giornate intere le vecchie miniere di Aberfoyle perbacco Madge se necessario farebbe dieci volte quella strada ma scusate se insisto signor James valeva la pena che vi scomodassi con quella lettera forse provatevi un po' a dire di no signor James provatevi a dire di no eh mio vecchio camerata da un pezzo non provo tanta gioia per quel poco che abbiamo esplorato Simon questa meravigliosa miniera sembrerebbe immensa almeno in lunghezza e anche in larghezza e in profondità signor James è quello che scopriremo più tardi Simon ne sono sicuro fidatevi del mio istinto di vecchio minatore non mi ha mai ingannato io voglio credervi Simon ma in ogni modo a giudicarne da questa breve esplorazione ci sono possibilità di sfruttamento per almeno dei secoli per secoli lo credo bene signor James passeranno mille anni anche più prima che si è estratto l'ultimo pezzo di carbone dalla nostra nuova miniera che iddio vi ascolti Simon quanto alla qualità del carbone che ci offre questa parete stupenda signor James stupenda guardate voi stesso e così dicendo staccò con un colpo di piccone un frammento di roccia nera guardate guardate la superficie di questo pezzo di carbone è lucida avremo carbone grasso ricco di materie bituminose e vedrete come si frantumera bene senza far polvere ah signor James ecco un giacimento che vent'anni or sono avrebbe fatto una forte concorrenza a quello di Swansea e quello di Cardiff ebbene i fochisti se lo contenderanno ancora e se anche l'estrazione costerà poco non si menderà meno caro che al di fuori infatti è proprio carbone di buona qualità signor James portatelo al cottage voglio che questo primo pezzo di carbone bruci sotto la nostra pentola ben detto moglie mia e vedrai che non mi sono ingannato signor Star avete idea di come sia orientata questa lunga galleria eh no no Harry con una bussola avrei forse potuto stabilirlo senza bussola mi sento come un vecchio marinaio in alto mare in mezzo alle nebbie quando per la mancanza del sole non sa dove si trovi senza dubbio signor James ma non mi pare il caso di paragonare la nostra situazione a quella di un marinaio quello ha sempre dovunque l'abisso sotto i piedi mentre noi siamo in terraferma e non c'è pericolo che veniamo sommersi non vi darò questo dispiacere mio vecchio Simon non intendevo far torto alla nuova miniera di Aberfoyle con un paragone ingiusto tutt'altro volevo semplicemente dire una cosa cioè che non sappiamo dove siamo siamo nel sottosuolo della contà di Sterling signor James e lo affermo come se ascoltate disse Harry interrompendo il vecchio Overman tutti si posero in ascolto con la stessa attenzione del giovane minatore il suo orecchio esercitato aveva avvertito un rumore sordo una specie di mormorio lontano James Starr Mudge e Simon Ford non tardarono a sentirlo anche loro proveniva dagli strati superiori del massiccio e sembrava qualcosa di rotolante si distingueva benissimo il crescendo e il successivo decrescendo benché fosse debole per alcuni minuti restarono tutti e quattro con l'orecchio teso senza dir verbo poi a un tratto Simon Ford esclamò ah per San Mungo sta a vedere che i vagoncini corrono già sulle rotaie della nuova Berfoil papà a me pare un rumore di acque che scorrono lungo il litorale ma noi non siamo sotto il mare Harry no Harry ma non è escluso Simon che ci troviamo sotto il lago Catherine la volta della caverna dovrebbe allora essere di spessore limitato se si sente così bene il rumore delle acque non è molto spessa infatti Simon per questo appunto la cavità è tanto ampia probabilmente avete ragione signor star inoltre fuori c'è brutto tempo e le acque del lago devono essere agitate come quelle del golfo di Forth ebbene che importa lo strato carbonifero non sarà peggiore se si sviluppa al di sotto di un lago non è la prima volta che si va a cercare il carbone fin sotto il letto dell'oceano se anche dovessimo esplorare tutti i fondi del canale del nord che male ci sarebbe ben detto Simon spingiamoci fin sotto le acque del mare fuoriamo come una schiumarola il letto dell'atlantico andiamo a raggiungere a colpi di piccone i nostri fratelli degli stati uniti attraverso il sottosuolo dell'oceano inoltriamoci se occorre fino al centro del globo per strappargli il suo ultimo pezzo di carbone vi piace scherzare eh signor James andare al centro della terra e chi ci riuscirebbe io scherzare vecchio Simon no ma voi siete talmente acceso di entusiasmo che trascinate anche me sulla via dell'impossibile e poi ho sentito dire che al centro della terra potrebbero benesserci di queste cavità enormi ritorniamo però alla realtà che è già abbastanza bella lasciamo qui i nostri picconi li ritroveremo un altro giorno e incamminiamoci verso il vostro cottage non c'era altro da fare per il momento più tardi l'ingegnere accompagnato da un gruppo di minatori e munito delle lampade e degli attrezzi necessari avrebbe ripreso esplorare a Berfoil ma intanto bisognava tornare subito alla fossa d'Occard la strada era facile la galleria correva quasi diritta nella roccia fino all'imboccatura aperta dalla dinamite dunque non c'era pericolo di smarrirsi ma nel momento in cui James Tarsi dirigeva verso la galleria Simon Ford lo arrestò signor James vedete questa caverna immensa e il lago sotterraneo che ricopre questi greti bagnati dalle acque ebbene è qui che io voglio trasportare la mia dimora qui mi voglio costruire un nuovo cottage e se alcuni bravi compagni vorranno seguire il mio esempio entro un anno si conterà una borgata di più nelle viscere della nostra vecchia Inghilterra James Tarr approvando con un sorriso i progetti di Simon Ford gli strinse la mano e tutti e tre precedendo Madge imboccarono la galleria per tornare alla fossa d'Occard per oltre un chilometro non ci furono incidenti di sorta Harry andava avanti tenendo la lampada alzata al di sopra della testa seguiva diligentemente la galleria principale senza mai fuorviare nelle gallerie strette che si aprivano a destra e a sinistra sembrava dunque che il ritorno si dovesse compiere con la stessa facilità finché però non accadde una spiacevole complicazione che aggravò notevolmente la situazione degli esploratori mentre Harry procedeva con la lampada alzata ci fu un brusco spostamento d'aria che sembrava prodotto dallo sbattere di ali invisibili la lampada colpita di striscio sfuggì dalle mani di Harry cadde sul suolo roccioso della galleria e si ruppe James Tarr e i suoi compagni furono avvolti immediatamente da un'oscurità assoluta la lampada era diventata inservibile perché si era versato tutto l'olio allora Harry vuoi proprio che ci rompiamo il collo prima di arrivare a casa Harry non rispose stava riflettendo anche quell'ultimo incidente si doveva attribuire alla mano di quell'essere misterioso dunque esisteva un nemico lì sotto e il suo inesplicabile antagonismo avrebbe potuto un giorno creare difficoltà gravissime c'era forse qualcuno che aveva interesse a difendere il nuovo giacimento carbonifero contro ogni tentativo di sfruttamento la cosa sembrava assurda ma i fatti d'altro canto parlavano chiaro e si accavallavano al punto da mutare le semplici supposizioni incertezze intanto gli esploratori si trovavano in una situazione piuttosto grave dovevano seguire per oltre 7 km la galleria che conduceva la fossa d'Ockard e questo nell'oscurità più profonda poi di là avevano ancora da percorrere un chilometro e mezzo per giungere al cottage proseguiamo non abbiamo un momento da perdere cammineremo tentoni come ciechi è impossibile che ci perdiamo le gallerie che si aprono lungo la via non sono molto più che passaggi di talpe seguendo la galleria principale arriveremo l'apertura per la quale siamo passati dopo c'è la vecchia miniera e noi la conosciamo bene non è la prima volta che Harry ed io la percorriamo al buio dal resto la ritroveremo le lampade che abbiamo lasciato e andiamo dunque Harry tu va avanti signor James voi seguitelo tu cara Madge vagli dietro io verrò in coda a tutti e badiamo bene a non separarci bisognava stare alle istruzioni del vecchio Overman come aveva detto andando tentoni non si poteva sbagliare strada bastava sostituire agli occhi le mani e fidarsi di quell'istinto che in Simon Ford e in suo figlio era diventato una seconda natura dunque James Ford e i suoi compagni camminavano nell'ordine indicato non parlavano ma pensavano evidentemente avevano un avversario ma chi era e come difendersi dai suoi attacchi così imprevedibili queste idee inquietanti si affollavano nel loro cervello ma non era quello il momento di scoraggiarsi Harry avanzava con passo sicuro a braccia tese si spostava continuamente da una parete all'altra della galleria e quando incontrava un vano un'apertura laterale capiva testandoli che non bisognava penetrarvi perché la fessura era poco profonda oppure l'imboccatura troppo stretta si manteneva sempre così sulla strada giusta quel difficile ritorno durò circa due ore e mezzo a un'oscurità alla quale gli occhi non potevano abituarsi perché era assoluta calcolando il tempo trascorso e tenendo conto del fatto che i movimenti non avevano potuto essere rapidi James Starr riteneva di dover essere con i suoi compagni molto vicino all'uscita infatti quasi subito Harry si arrestò siamo finalmente giunti all'estremità della galleria si papà bene ora troverai l'apertura che mette in comunicazione con la nuova Berfoil con la fossa d'Occard no papà disse Harry perché per quanto tastasse le sue mani incontravano solo la superficie piena di una parete il vecchio Overman avanzò di alcuni passi per tastare lui stesso la roccia schistosa e si lasciò sfuggire un grido nel ritorno gli esploratori si erano smarriti oppure la stretta imboccatura scavata nella parete della dinamite era stata turata di recente in ogni modo James Starr e i suoi compagni erano imprigionati nella nuova Berfoil capitolo 11 le due dame di fuoco otto giorni dopo questo avvenimento gli amici di James Starr erano molto inquieti l'ingegnere era scomparso in maniera apparentemente inspiegabile si era saputo interrogando il suo servitore che si era imbarcato a Grantham Pier e si sapeva dal capitano dello steamboat principe di Galles che era sbarcato a Sterling ma da quell'istante mancavano del tutto le tracce di James Starr nella sua lettera Simon Ford gli aveva raccomandato il segreto perciò egli non aveva parlato con nessuno della sua partenza per Berfoil a Edimburgo si parlava unicamente dell'assenza dell'ingegnere Sir W. Elphinstone presidente della Royal Institution lesse ai colleghi la lettera inviatagli da James Starr per scusarsi di non poter assistere alla prossima riunione della società due o tre altre persone mostrarono lettere analoghe ma se quei documenti provavano che James Starr si era allontanato da Edimburgo fatto dal resto ben noto nulla lasciava intendere che cosa ne fosse di lui ora in un uomo simile questa assenza contraria alle sue abitudini poteva prima meravigliare poi inquietare e questo tutto prolungandosi nel tempo nessuno dei suoi amici avrebbe potuto immaginare che l'ingegnere si era recato alle miniere di Berfoil si sapeva che non desiderava affatto rivedere i luoghi del suo lavoro di un tempo dove non aveva rimesso piede dal giorno in cui l'ultimo vagoncino di carbone era stato portato alla superficie del suolo tuttavia poiché lo steambot lo aveva deposto al molo di sterling si fecero ricerche anche da quelle parti ma le ricerche non portarono a nulla nessuno ricordava di aver visto l'ingegnere in paese Jack Ryan soltanto che l'aveva incontrato in compagnia di Harry al pozzo Yarrow avrebbe potuto soddisfare la pubblica curiosità ma l'allegro giovanotto come sappiamo lavorava nella fattoria di Melrose 60 chilometri a sud ovest della contea di Renfrew e non sospettava neppure che si fosse tanto inquieti per la scomparsa di James Tarr così otto giorni dopo la sua visita al cottage Jack Ryan avrebbe continuato a cantare più allegro che mai per tutta la veglia del clan di Irving se non fosse stato anche lui inquieto per una ragione della quale parleremo ben presto James Tarr era uomo troppo considerevole e troppo considerato non solamente in città ma in tutta la Scozia perché un fatto che lo riguardasse potesse passare inosservato il capo della polizia primo magistrato di Edimburgo il sindaco e i consiglieri nella maggior parte amici dell'ingegnere diedero ordine di cominciare le ricerche fu mobilitato uno stuolo di agenti ma senza alcun frutto si dovette quindi pubblicare sui principali giornali del Regno Unito una nota sull'ingegner James Tarr nella quale erano descritti i suoi connotati e si indicava il giorno in cui aveva lasciato Edimburgo poi non restò che aspettare e con grande ansietà il mondo scientifico inglese non era lontano dal credere di aver perduto uno dei suoi personaggi più eminenti mentre si era tanto in pensiero per James Tarr la persona di Harry era argomento di inquietudini non meno vive solo che invece di preoccupare l'opinione pubblica il figlio del vecchio Overman turbava unicamente il buon umore del suo amico Jack Ryan conviene ricordare che quando si erano incontrati nel Pozzo Yarrow Jack Ryan aveva invitato Harry ad andare otto giorni dopo alla festa del clan di Irving Harry aveva accettato e promesso formalmente di assistere alla riunione e Jack Ryan sapeva per averlo sperimentato in molte occasioni che il suo compagno era un uomo di parola con lui una cosa promessa si poteva dire fatta ora alla festa di Irving non era mancato nulla né canti né danze né divertimenti di ogni sorta nulla tranne Harry Ford Jack Ryan in un primo momento si indispettì perché l'assenza dell'amico gli imbuastava il buon umore perdette perfino la memoria sul più bello di una canzone e per la prima volta sbagliò il tempo di una giga che di solito suscitava vivi applausi è opportuno adesso sottolineare che l'articolo su James Tarr pubblicato nei giornali non era caduto sotto gli occhi di Jack Ryan il bravo giovane non si preoccupava quindi dell'assenza di Harry accontentandosi di pensare che solo un grave motivo aveva potuto impedirgli di mantenere la promessa perciò il giorno successivo alla festa di Irving Jack Ryan si proponeva di prendere il treno di Glasgow per recarsi alla fossa d'Hogard e l'avrebbe fatto se non gli fosse capitato un incidente che per poco non gli costò la vita ecco ciò che gli accadde la notte del 12 dicembre in verità il fatto era tale da dar ragione a tutti i fautori del soprannaturale numerosi alla fattoria di Melrose Irving piccola città marittima nella contea di Renfrew che conta circa 7000 abitanti è costruita lungo la costa scozzese dove questa si ripiega bruscamente quasi all'apertura del golfo del Clyde il suo porto ben riparato contro i venti d'alto mare è rischiarato da un faro importante che indica gli approdi in modo che un marinaio prudente non possa sbagliare perciò i naufragi erano rari in questa parte del litorale e i navigatori di cabotaggio o di lungo corso che volessero imboccare il golfo del Clyde per recarsi a Glasgow oppure penetrare nella baia di Irving potevano compiere le loro manovre senza pericolo anche nelle nocci oscure quando una città ha una sua storia per quanto irrilevante quando possiede un castello appartenuto un tempo a Robert Stewart naturalmente non manca di rovine ora in Scozia tutte le rovine sono abitate da spiriti almeno tale è l'opinione comune nelle highlands e nelle lowlands le rovine più antiche di più triste fama in quella parte del litorale erano appunto quelle del castello di Robert Stewart che viene chiamato Dundonald Castle a quel tempo il castello di Dundonald rifugio di tutti i folletti vaganti della regione era nel più completo abbandono si andava a visitarlo sull'alta rupe sovrastante il mare a circa 3 km dalla città forse a un forestiero veniva ancora la voglia di interrogare quei vecchi resti storici ma allora doveva andarci da solo perché gli abitanti di Irving non l'avrebbero accompagnato per nessun prezzo infatti correvano di ceria intorno a certe dame di fuoco che abitavano il vecchio castello i più superstiziosi affermavano di aver veduto con i propri occhi quelle fantastiche creature naturalmente Jack Ryan era fracostoro in realtà ogni tanto apparivano lunghe fiamme ora sopra un'ala di muro mezzo franata ora in cima alla torre che domina l'insieme delle rovine di Dundonald Castle ma erano davvero fiamme di forma umana come la gente assicurava meritavano forse il nome di dame di fuoco dato loro dagli scozzesi del litorale evidentemente si trattava soltanto di un'illusione di cervelli incline alla credulità e la scienza avrebbe spiegato il fenomeno in base alle leggi fisiche in ogni modo le dame di fuoco avevano fama in tutta la regione di frequentare le rovine del vecchio castello e di ballarvi talvolta strane danze soprattutto nelle notti oscure Jack Ryan per quanto fosse coraggioso non si sarebbe arrischiato ad accompagnarle con la sua cornamusa ne hanno abbastanza del vecchio Nick e quello non ha certo bisogno di me per completare la sua orchestra infernale diceva lui naturalmente quelle bizzarre apparizioni erano un tema obbligato nei racconti delle veglie Jack Ryan sapeva a memoria tutto un repertorio di leggende intorno alle dame di fuoco e quando era il momento di raccontare non si trovava mai a disagio nell'ultima veglia ben innaffiata di birra di brandy di whisky che aveva concluso la festa del flan di Irving Jack Ryan non aveva tralasciato di riprendere il suo tema favorito con gran divertimento e forse con grande spavento dei suoi uditori la veglia si faceva in un ampio granaio della fattoria di Marrows quasi sul litorale un buon fuoco di carbone ardeva in un largo bracere in mezzo alla comitiva di fuori imperversava la bufera nebbie fitte correvano sulle onde agitate da un forte vento di sud ovest era una notte estremamente buia senza una stella la terra il cielo e l'acqua si confondevano nelle tenebre profonde sarebbe stato certamente difficile approdare alla baia di Irving se qualche nave vi si fosse avventurata con quei venti che percortevano la costa il piccolo port di Irving non è molto frequentato almeno dalle navi di un certo tonnellaggio le navi mercantili a vela o a vapore che vogliono penetrare nel golfo di Clyde approdano un po' più a nord quella sera tuttavia un pescatore che si fosse attardato sulla riva avrebbe visto non senza meraviglia una nave dirigersi verso la costa se improvvisamente fosse venuto il giorno non più con meraviglia ma con terrore si sarebbe visto quella nave correre con il vento in poppa a vele spiegate sbagliando ad entrare nel golfo non restava altro rifugio fra le scogliere del litorale e se quella nave imprudente si ostinava ad avvicinarsi alla costa come sarebbe poi riuscita a scostarsene la veglia stava per cessare dopo un'ultima storiella di Jack Ryan i suoi ascoltatori trasportati nel mondo dei fantasmi erano proprio nelle condizioni adatte per cedere alla credulità all'occorrenza e a un tratto si udirono gridale di fuori Jack Ryan interrompe subito il suo racconto e tutti lasciarono precipitosamente il granaio la notte era profonda lunghe raffiche di pioggia e di vento correvano sulla riva due o tre pescatori aggrappati a uno scoglio per meglio resistere all'impeto del vento chiamavano vociando forte Jack Ryan e i suoi compagni corsero da loro quelle grida non erano dirette agli abitanti della fattoria ma un equipaggio che senza saperlo correva verso la sua rovina infatti si notava confusamente una massa tenebrosa a qualche gomina della costa era una nave lo si capiva facilmente dai fuochi di posizione perché aveva alla gabbia di trinchetto un fuoco bianco e a dritta un fuoco verde a sinistra un fuoco rosso appariva dunque dal davanti ed era chiaro che si dirigeva verso la costa con la massima velocità una nave in pericolo sì e ormai anche volendo non potrebbe più girare di bordo i segnali bisogna fare i segnali e quali con una simile burrasca non si riesce a tenere una torcia accesa e mentre tutti si scambiavano rapidamente queste opinioni si levarono nuove grida ma com'era possibile udirle dalla nave in mezzo al frastuono dell'uragano lo sventurato equipaggio non aveva più alcuna probabilità di sottrarsi al naufragio perché manovrano in quel modo vuole forse accostare e il capitano non conosce il faro di Irvin evidentemente no a meno che non sia stato ingannato da qualche prima che il pescatore avesse completato la frase Jack Ryan mandò un grido pauroso l'equipaggio lo udì era troppo tardi comunque e la nave non poteva più risollevarsi dalla linea delle scogliere che biancheggiava nelle tenebre con quell'urlo contrariamente a quanto si potrebbe credere Jack Ryan non intendeva far pervenire alla nave in pericolo un estremo avvertimento Jack Ryan aveva voltato le spalle al mare e i suoi compagni lo imitarono restando con lo sguardo fisso su un punto lontano quasi un chilometro dalla riva era il castello di Don Donald dove una lunga fiamma si dibatteva sotto le raffiche in cima alla vecchia torre la dama di fuoco esclamarono con gran terrore tutti quegli scozzesi superstiziosi sinceramente ci vuole una buona dose di immaginazione per trovare sembianze umane in quella fiamma agitata dal vento come una bandiera luminosa pareva talvolta volar via dalla cima della torre quasi stesse per spegnersi e un istante dopo vi si attaccava di nuovo con la sua estremità azzurrognola la dama di fuoco la dama di fuoco gridavano i pescatori e i contadini spaventati allora tutto si spiegava probabilmente la nave disorientata dalla nebbia aveva preso quella fiamma accesa sulla cima del castello di Don Donald per il faro di Irving credendo di trovarsi all'ingresso del golfo un chilometro circa più a nord correva invece verso una costa che non offriva rifugio che cosa si poteva fare per salvarla se c'era ancora tempo forse bisognava salire fino alle rovine e cercare di spegnere quel fuoco perché non fosse più possibile confonderlo con il faro del porto di Irving sì certo e si doveva agire anche senza indugio ma chi fra quegli scozzesi poteva pensare o peggio ancora trovare il coraggio di sfidare la dama di fuoco Jack Ryan forse perché era coraggioso e la sua credulità per quanto intensa non gli avrebbe impedito uno slancio generoso ma era troppo tardi si udì un terribile scrittiolio in mezzo al frastuono degli elementi la nave aveva urtato a poppa i fuochi di posizione si spensero la linea bianchiccia della risacca parve a un tratto spezzarsi era la nave che sbatteva contro la riva si piegava di fianco e si schiantava in mezzo alle scogliere in quello stesso istante per una coincidenza che non poteva essere casuale la lunga fiamma scomparve come strappata via da una raffica impetuosa il mare il cielo la costa li piombarono sull'istante nelle tenebre più profonde la dama di fuoco aveva gridato un'ultima volta Jack Ryan quando questa apparizione soprannaturale per i suoi compagni e per lui svanì all'improvviso ma allora il coraggio che quei superstiziosi scozzesi non avrebbero avuto contro un pericolo chimerico lo ritrovarono di fronte a un pericolo vero dove si trattava di salvare i loro simili la furia degli elementi non li arrestò lanciarono corde in mezzo alle onde eroici quanto erano stati creduli si gettarono in aiuto della nave naufragata fortunatamente vi riuscirono ma alcuni e il coraggioso Jack Ryan era nel numero rimasero gravemente feriti urtando contro gli scogli alla fine il capitano della nave e gli otto uomini dell'equipaggio furono deposti sani e salvi sulla spiaggia la nave era il brigantino norvegese Motala carico di legna del nord diretto a Glasgow era vero purtroppo il capitano ingannato dal fuoco acceso sulla torre del castello di Dundonald era venuto a battere contro gli scogli invece di imboccare il golfo del Clyde ora del Motala rimanevano solo pochi rottami e la risacca finiva di frantumare i resti contro le rocce del litorale capitolo 12 le imprese di Jack Ryan Jack Ryan e tre dei suoi compagni feriti come lui erano stati trasportati in una stanza della fattoria di Marrows dove furono prodigate loro immediatamente molte cure Jack Ryan era stato il più maltrattato perché quando si era buttato in mare con la corda annodata alle reni le onde furiose lo avevano spinto bruscamente contro gli scogli per poco anzi i suoi compagni non lo riportavano sulla spiaggia senza vita il bravo giovane rimase dunque inchiodato a letto alcuni giorni e la cosa lo indispetti molto ma non appena gli fu concesso di cantare quanto volesse sopportò pazientemente il suo male e la fattoria di Marrows è che giò qualsiasi ora delle sue allegre canzoni quell'avventura tuttavia lasciò a Jack Ryan un vivo senso di paura per i folletti che si compiacevano di dar noia alla povera gente perché secondo lui erano loro i responsabili della catastrofe del Motala nessuno avrebbe potuto sostenere in sua presenza che le dame del fuoco non esistevano che la fiamma improvvisamente apparsa fra le rovine era dovuta solo a un fenomeno fisico nessun ragionamento l'avrebbe convinto la credulità dei suoi compagni era ancora più ostinata a sentir loro una delle dame di fuoco aveva attirato il Motala alla costa quanto volerla punire sarebbe stato come far pagare la multa all'uragano i magistrati potevano decretare tutto quello che volevano non si imprigiona una fiamma e neppure si incatena un essere impalpabile e bisogna ammettere che le ricerche fatte poi sembravano dar ragione almeno in apparenza a questo modo superstizioso di spiegare le cose quando il magistrato incaricato di fare un'inchiesta sul naufragio del Motala venne a interrogare i testimoni della catastrofe tutti furono d'accordo nel dire che l'incidente era dovuto all'apparizione soprannaturale della dama di fuoco sopra le rovine del castello di Dundonald naturalmente la giustizia non poteva accontentarsi di simili ragioni che fra quelle rovine si fosse prodotto un fenomeno puramente fisico non poteva esserci alcun dubbio ma si trattava di un incidente oppure di malevolenza questo doveva cercare di stabilire il magistrato la parola malevolenza non deve meravigliare per spiegarla non occorre risalire molto indietro nella storia americana molti predoni di relitti sul litorale bretone attiravano con quel sistema le navi a riva per spartirsi le spoglie talora un gruppo di alberi resinosi accesi durante la notte guidava le navi in certi passaggi da cui non sarebbero più uscite altre volte una torcia legata alle corna di un toro e portata qua e là secondo il capriccio dell'animale ingannava l'equipaggio sulla via da seguire il risultato di queste manovre era inevitabilmente qualche naufragio di cui poi i predoni approfittavano e c'era voluto l'intervento della giustizia con severe punizioni esemplari per distruggere quei barbari costumi non poteva darsi perciò che in questa occasione una mano criminosa avesse ripreso le antiche tradizioni dei ladri di relitti così pensavano le autorità nonostante le argomentazioni di Jack Ryan e dei suoi compagni quando costoro sentirono parlare dell'inchiesta si divisero in due campi alcuni si accontentarono di stringersi nelle spalle altri più timorosi annunziarono che sicuramente una simile provocazione degli esseri soprannaturali avrebbe portato a nuove catastrofi l'inchiesta tuttavia si fece molto accuratamente gli agenti di pulizia andarono al castello di Dundonald per compiere le ricerche più rigorose il magistrato volle prima di tutto accertare se ci fossero impronte di passi sul terreno tali da doverle attribuire ai piedi che non erano dei folletti fu impossibile scorgere le più levi tracce vecchie o recenti eppure la terra ancora umida per la pioggia della vigilia avrebbe dovuto conservare ogni minima impronta passi di folletti sarebbe come pretendere di trovare tracce sull'acqua di un acquitrino esclamò Jack Ryan questa prima parte dell'inchiesta non diede alcun risultato era molto improbabile che la seconda ne potesse dare di più si trattava di stabilire in che modo si era acceso il fuoco in cima alla vecchia torre quali fossero gli elementi che avevano provocato la combustione e finalmente quali residui avesse lasciato questa combustione il primo problema rimase insoluto non si trovarono zolfanelli né pezzi di carta che avessero potuto servire ad accendere un qualsiasi fuoco quanto al secondo gli esiti non furono diversi nessun indizio di erbe disseccate né frammenti di legna di cui quel fuoco così intenso doveva peraltro essersi largamente alimentato durante la notte sul terzo punto non si poteva avere maggiore luce la mancanza di genere e qualsiasi avanzo di combustibile non permise neppure di ritrovare il luogo dove il fuoco era stato acceso non si vedevano spazi anneriti né sul terreno né sulla roccia bisognava forse concludere che il fuoco fosse stato tenuto in mano da qualche malfattore beh sembrava inverosimile perché secondo i testimoni la fiamma era talmente gigantesca che l'equipaggio del motala aveva potuto nonostante la nebbia scorgerla a molti chilometri di distanza eh sì la dama di fuoco può fare a meno degli zolfanelli le basta soffiare per accendere intorno a sé un fuoco che non lascia mai tracce di cenere esclamò ancora Jack Ryan da tutta l'indagine risultò che i magistrati ci rimisero la propria fatica e che a tante leggende se ne aggiunse un'altra con la quale si sarebbe perpetuato il ricordo della catastrofe del motala confermando una volta di più l'apparizione delle dame di fuoco un giovane coraggioso e forte come Jack Ryan non poteva restare troppo a letto qualche ammaccatura e una lussazione non erano sufficienti per trattenerlo sotto le lenzuola più del necessario non aveva tempo di essere ammalato o meglio poiché il tempo manca nelle salubri Lowlands non ci si ammala neppure Jack Ryan guarì dunque prestissimo appena in piedi prima di riprendere il lavoro alla fattoria di Merrow's egli volle mettere in pratica un certo suo progetto contava di andare far visita al suo camerata Harry per sapere come mai fosse mancato la festa del clan di Irving Harry era uno di quelli che non promettono mai senza mantenere e questa mancanza era davvero inspiegabile d'altra parte sembrava impossibile che il figlio del vecchio Overman non avesse sentito parlare della catastrofe del Motala riportata dai giornali con abbondanza di particolari doveva per forza essere al corrente della parte che Jack Ryan aveva avuto in quel salvataggio e di come ne era uscito sarebbe stata una prova di eccessiva indifferenza da parte di Harry non spingersi fino alla fattoria per stringere la mano dell'amico Jack Ryan se Harry non era venuto era dunque segno che non aveva potuto venire Jack Ryan avrebbe potuto negare l'esistenza delle dame di fuoco piuttosto che credere all'indifferenza dell'amico perciò pochi giorni dopo la catastrofe Jack Ryan lasciò la fattoria coraggiosamente come se non risentisse per nulla delle conseguenze delle ferite con un allegro ritornello cantato a pieni polmoni fece risuonare di Echi la scogliera e si recò a prendere il treno che da Glasgow conduce a Sterling e a Callander mentre aspettava la stazione posò lo sguardo su un cartello riprodotto a profusione sui muri e che conteneva questo avviso il 4 dicembre scorso l'ingegner James Starr di Edimburgo si imbarcò a Granton Pier sul principe di Galles quello stesso giorno sbarcò Sterling e da allora non se ne hanno più notizie chi avesse informazioni è pregato di rivolgersi al presidente della Royal Institution di Edimburgo Jack Ryan fermo dinanzi a uno di questi cartelli lo lesse due volte manifestando il più vivo stupore il signor Starr ma proprio il 4 dicembre io l'ho incontrato con Harry sulle scale del Pozzo Yarrow sono ormai 10 giorni ed allora è scomparso questo spiega perché il mio amico non è venuto alla festa di Irvin e senza darsi la briga di informare con una lettera il presidente della Royal Institution di quanto egli sapeva su James Starr il buon giovanotto balzò sul treno fermamente intenzionato a recarsi al Pozzo Yarrow e a scendere fino in fondo la fossa Doggart se fosse necessario per ritrovare Harry e con lui l'ingegner James Starr tre ore dopo Jack Ryan scendeva dal treno alla stazione di Callender e si dirigeva rapidamente verso il Pozzo Yarrow non sono riapparsi perché forse qualche ostacolo l'ha impedito loro oppure sono trattenuti in fondo la miniera da un lavoro importante beh io lo saprò e Jack Ryan allungando il passo giunse in meno di un'ora al Pozzo Yarrow fuori nulla era mutato lo stesso silenzio in vicinanza della fossa non c'era anima viva in quel deserto Jack Ryan passò sotto la tettoia rovinata che copriva l'apertura del Pozzo gettò lo sguardo in quell'abisso non vide nulla ascoltò non udì nulla e la mia lampada come mai non è più al suo posto la lampada che Jack Ryan era solito usare durante le sue visite alla fossa stava abitualmente in un canto presso il pianerottolo della scala superiore e adesso la lampada era scomparsa ecco una prima complicazione cominciò a sentirsi inquieto Jack Ryan e poi senza esitare per quanto fosse superstizioso beh io andrò dovesse anche far più buio nella fossa che all'inferno e prese a scendere la lunga serie di scale che si cacciavano nel Pozzo Tenebroso per arrischiarsi a quel modo Jack Ryan doveva aver mantenuto le sue antiche abitudini di minatore e conoscere bene la fossa d'Occard tuttavia scendeva prudentemente tastando bene con il piede ogni scalino perché ce n'erano alcuni imputriditi un passo falso sarebbe bastato a fargli fare una caduta mortale in quel vuoto di 450 metri Jack Ryan contava via via ogni pianerottolo che lasciava per passare a un piano inferiore sapeva che non avrebbe raggiunto la fossa se non dopo il trentesimo pianerottolo e una volta arrivato in fondo era convinto di non dover faticare per ritrovare il cottage costruito come sappiamo all'estremità della galleria principale Jack Ryan giunse così al 26esimo pianerottolo ormai dal fondo lo separavano al massimo una sessantina di metri in quel punto abbassò la gamba per cercare il primo scalino della 27esima scala ma la sua gamba dondolandosi nel vuoto non trovò alcun punto d'appoggio Jack Ryan si inginocchiò sul pianerottolo cercando di tastare con una mano l'estremità della scala e inutilmente evidentemente la scala 27esima non si trovava al suo posto perciò qualcuno l'aveva ritirata qui c'è la mano del vecchio Nick pensò lui alquanto terrorizzato ritto con le braccia incrociate gli occhi intenti a scandagliare quella tenebra impenetrabile Jack Ryan aspettò poi gli venne in mente che se lui non poteva scendere gli abitanti delle miniere non avevano potuto salire non esisteva infatti nessuna possibilità di comunicazione fra il suolo della contea e la profondità della fossa se le scale inferiori del pozzo Yarrow mancavano dal giorno della sua ultima visita al cottage che ne era ormai di Simon Ford di sua moglie di suo figlio e dell'ingegnere l'assenza prolungata di James Darr provava che l'ingegnere non aveva lasciato la fossa dal giorno in cui Jack Ryan si era incontrato con lui nel pozzo Yarrow ma come avevano provveduto dall'ora al rifornimento del cottage non erano mancati vivere a quei disgraziati prigionieri a 450 metri sotto terra tutti questi pensieri si affollavano nella mente di Jack Ryan e il si rendeva conto di non poter in alcun modo raggiungere il cottage da solo l'interruzione delle scale era forse dovuta a un atto di malevolenza la cosa ormai gli pareva certa in ogni modo i magistrati avrebbero provveduto ma bisognava avvertirgli al più presto Jack Ryan si curvò sul pianarottolo e con la sua voce poderosa gridò Harry Harry gli ecchi ripeterono più volte il nome di Harry che si spense nelle ultime profondità del pozzo Yarrow Jack Ryan risalì rapidamente le scale superiori e rivide la luce del giorno non perdette però un istante tornò come una saetta alla stazione di Callander non gli toccò aspettare se non pochi minuti il passaggio del treno diretto di Edimburgo e alle tre pomeridiane si presentò il capo della polizia della capitale la sua dichiarazione fu ben accolta i particolari precisi che seppe fornire non permettevano di mettere in dubbio la sua veridicità Sir W. Elphinstone presidente della Royal Institution collega e amico di James Tarr fu subito avvertito e chiese di dirigere personalmente le ricerche che si dovevano fare senza indugio nella fossa d'Occard furono messi a sua disposizione molti agenti muniti di lampade picconi e lunghe scale di corda e non si trascurarono i rifornimenti di viveri e di liquori poi guidati da Jack Ryan tutti presero immediatamente la via delle miniere di Aberfoyle la sera stessa Sir W. Elphinstone Jack Ryan e gli agenti arrivarono al pozzo Yarrow e scesero fino al ventisettesimo pianerottolo dove Jack aveva dovuto fermarsi alcune ore prima gettando lampade legate alle estremità di lunghe corde nelle profondità del pozzo si poté constatare che le ultime quattro scale mancavano non c'era dubbio che ogni comunicazione fra l'interno e l'esterno della fossa d'Occard fosse stata interrotta di proposito che cosa aspettiamo signore domandò impaziente Jack Ryan aspettiamo che le lampade siano ritirate caro giovanotto poi scenderemo fino all'ultima galleria e tu ci guiderai si al cottage e se sarà necessario fino all'estremità profonde della fossa ritirante alle lampade gli agenti assicurarono al pianerottolo le scale di corda lasciandole penzolare nel vuoto i pianerottoli inferiori c'erano ancora e si pote scendere da uno all'altro ma si dovettero superare gravi difficoltà Jack Ryan scese per primo sospeso a quelle scale vacillanti e per primo toccò il fondo della miniera Sir W. Elphinstone e gli agenti lo raggiunsero subito dopo lo spiazzo in fondo al pozzo Yarrow era completamente deserto ma Sir W. Elphinstone fu molto meravigliato nel sentire Jack Ryan che esclamava ecco ci sono frammenti mezzi bruciati delle scale bruciati è vero queste sono ceneri raffreddate da un pezzo credete signore che l'ingegnere poteva avere interesse a bruciare le scale e a interrompere ogni comunicazione con l'esterno no andiamo al cottage è là che sapremo la verità Jack Ryan tentennò il capo poco convinto tuttavia togliendo una lampada di mano un agente si incamminò rapidamente attraverso la galleria principale nella fossa Dockard e tutti lo seguirono un quarto d'ora dopo Sir W. Elphinstone e i suoi compagni erano giunti allo scavo in fondo al quale era fabbricato il cottage di Simon Ford non un lume si vedeva acceso attraverso le finestre Jack Ryan si precipitò verso la porta e la spinse bruscamente il cottage era abbandonato tutte le stanze della buia abitazione furono perlustrate nell'interno non si notava alcuna traccia di violenza ogni cosa era al suo posto come se la vecchia Madge fosse stata ancora là anche la provvista di viveri era abbondante e avrebbe potuto bastare per parecchi giorni alla famiglia Ford l'assenza degli abitanti del cottage era dunque inesplicabile ma si poteva stabilire con precisione quando essi lo avevano lasciato sì perché in quel luogo dove non si succedevano le notti e i giorni Madge aveva l'abitudine di segnare sul suo calendario con una croce ciascun giorno questo calendario era appeso sul muro della sala l'ultima croce era stata fatta il 6 dicembre cioè un giorno dopo l'arrivo di James Tarr cosa che Jack Ryan era in grado di testimoniare evidentemente Simon Ford con la moglie il figlio e l'ospite avevano lasciato il cottage dopo il 6 dicembre vale a dire da 10 giorni una nuova esplorazione della fossa tentata dall'ingegnere poteva forse giustificare un'assenza tanto lunga naturalmente no così almeno pensava Sir W. Elphinstone dopo aver esaminato minutamente il cottage sembrò indeciso sul da farsi il buio era profondo la luce delle lampade che dondolavano nelle mani degli agenti rischiarava malapena quelle tenebre impenetrabili a un tratto Jack Ryan levò un grido la la disse ed il suo dito indicava un bagliore abbastanza vivo che si agitava lontano nell'oscurità della galleria amici presto raggiungiamo quel fuoco quello è il fuoco di un folletto perché dovremmo precipitarci non lo raggiungeremo mai esclamò Jack Ryan il presidente della Royal Institution e gli agenti poco proclivi alla credulità si slanciarono in direzione di quella luce mobile Jack Ryan con decisione coraggiosa si unì a loro e non rimase in coda l'inseguimento però fu lungo e faticoso il fanale acceso sembrava portato da un individuo di bassa statura ma straordinariamente agile a ogni istante questo sconosciuto spariva dietro qualche sporgenza poi lo si rivedeva in fondo una galleria trasversale con rapidi scarti si sottraeva alla vista e quando pareva scomparso del tutto all'improvviso di nuovo la luce del suo fanale gettava vivi i bagliori insomma si guadagnava ben poco terreno su di lui e Jack Ryan persisteva a credere non senza ragione che non l'avrebbero mai raggiunto per un'ora intera impegnati in quell'inutile inseguimento Sir W. Elphinstone e i suoi compagni si inoltrarono nella parte sud-ovest della fossa Dockert alla fine cominciarono a chiedersi se non avessero a che fare con qualche folletto inafferrabile ma proprio allora parve che la distanza fra il folletto e i suoi inseguitori si facesse più ridotta era stanchezza da parte del fuggitivo oppure costui voleva attirare Sir W. Elphinstone e i suoi compagni là dove probabilmente gli stessi abitanti del cottage erano stati attirati non sarebbe stato facile rispondere tuttavia gli agenti vedendo diminuire la distanza raddoppiarono i loro sforzi la luce che li aveva fino allora preceduti con un distacco di oltre 150 metri si trovava in quel momento a una quarantina di metri soltanto questo intervallo diminuì ancora il portatore del fanale divenne più visibile talvolta quando volgeva la testa si poteva riconoscere il vago profilo di una figura umana e a meno che un folletto non avesse preso quella forma jack ryan doveva convenire che non si trattava di un essere soprannaturale in quei momenti affrettando la corsa gridava animo compagni è stanco finalmente e presto lo raggiungeremo se parla così bene come se la svigna potrà dircene di belle tuttavia l'inseguimento diventò più difficile infatti nelle profondità estreme della fossa strette gallerie si incrociavano come meandri di un labirinto in questo dedalo il portatore del fanale poteva facilmente sfuggire agli agenti gli bastava spegnere la lampada e gettarsi da un lato in fondo a qualche rifugio oscuro e infatti se vuole sfuggirci perché non lo fa? pensava Sir W. Elphinstone lo strano essere inafferrabile fino allora non l'aveva fatto ma nel momento in cui questo pensiero attraversava la mente di Sir W. Elphinstone la luce sparì all'improvviso gli agenti proseguirono nell'inseguimento e quasi subito si trovarono di fronte a una stretta apertura naturale nella roccia schistosa all'estremità di un andito angusto avvicinarvisi dopo aver ravivate le lampade e slanciarsi attraverso quell'apertura fu affare di un secondo per Sir W. Elphinstone Jack Ryan e i loro compagni ma avevano appena fatto cento passi quando penetrarono in una nuova galleria più larga e più alta e improvvisamente si arrestarono vicino alla parete c'erano quattro corpi stesi al suolo quattro cadaveri forse James Starr Harry Harry urlò Jack Ryan precipitandosi sul corpo dell'amico erano infatti l'ingegnere Mudge Simon e Harry Ford distesi a terra immobili ma allora uno di quei corpi si drizzò e si udì la voce semispenta della vecchia Mudge mormorale queste parole prima loro prima loro Sir W. Elphinstone Jack Ryan negli agenti cercarono di rianimare l'ingegnere e i suoi compagni facendo loro inghiottire alcune gocce di liquore ci riuscirono in breve tempo quei disgraziati prigionieri da dieci giorni nella nuova Berfoil stavano morendo di fame e se non erano venuti meno durante quella lunga prigionia così spiegava James Starr a Sir W. Elphinstone fu perché tre volte avevano trovato vicino a loro una pagnotta e una brocca d'acqua senza dubbio l'essere pietoso al quale erano debitori della vita non aveva potuto fare di più Sir W. Elphinstone si domandò se loro stessi non avessero trovato il luogo preciso dove giacevano James Starr e i suoi compagni per l'intervento di quel folletto benevolo in ogni caso l'ingegnere Mudge Simon e Henry Ford adesso erano salvi e furono ricondotti al cottage ripassando per la stretta apertura che il misterioso portatore del fanale sembrava aver voluto indicare a Sir W. Elphinstone se James Starr e i suoi compagni non avevano saputo trovare l'imboccatura della galleria aperta dalla dinamite era perché qualcuno l'aveva turata con macini sovrapposti che in quella profonda oscurità essi non avevano potuto né riconoscere né separare con ogni probabilità mentre essi esploravano la vasta cripta ogni comunicazione fra l'antica e la nuova Berfoil veniva chiusa volontariamente da una mano nemica capitolo 13 Cole City tre anni dopo gli avvenimenti che abbiamo narrato le guide Joan e Murray consigliavano caldamente come grande attrazione ai numerosi turisti della contea di Stirling una visita di alcune ore alla miniera della nuova Berfoil nessuna miniera del nuovo e del vecchio mondo appariva più singolare da prima il visitatore era trasportato senza pericolo né fatica alla profondità dove si estraeva il minerale 450 metri sotto la superficie della contea infatti circa 10 km a sud ovest di Callander si apriva una galleria obliqua con un ingresso monumentale sormontato da torricelle e merli questa galleria larga in dolce pendio metteva a capo direttamente alla cripta scavata in modo così singolare nelle viscere del suolo scozzese una ferrovia doppio binario che funzionava a forza idraulica faceva servizio ogni ora con il villaggio fondato nel sottosuolo della contea dal nome forse un po' ambizioso di Call City cioè città del carbone arrivato a Call City il visitatore si trovava in luogo dove l'elettricità aveva un'importanza primaria come agente calorico e di luce infatti i pozzi di ventilazione per quanto numerosi non avrebbero potuto gettare abbastanza luce nell'oscurità profonda della nuova Berfoil tuttavia una luce intensa riempiva questo centro buio dove numerosi dischi elettrici sostituivano il sole appesi sotto la travatura delle volte affissi a pilastri naturali sempre alimentati da correnti prodotte dalle macchine elettromagnetiche soli gli uni stelle e gli altri quei dischi rischiaravano abbondantemente la città sotterranea quando suonava l'ora del riposo un interruttore bastava produrre artificialmente la notte nei profondi abissi della miniera tali apparecchi grandi e piccoli funzionavano nel vuoto il che vuol dire che i loro archi luminosi non comunicavano affatto con l'aria dell'ambiente perciò anche se nell'atmosfera ci fosse stato gas in quantità sufficienti a provocare un'esplosione non c'era pericolo che questo accadesse l'elettricità veniva dunque sfruttata invariabilmente per tutti i bisogni della vita industriale e domestica tanto nelle case di coal city come nelle gallerie della nuova Burfoil bisogna dire anzitutto che le previsioni dell'ingegnere James Tarr per quanto riguardava lo sfruttamento della nuova miniera si erano avverate la ricchezza dei filoni carboniferi era incalcolabile le prime vene erano state attaccate dal piccone dei minatori nella parte ovest della cripta a 300 metri circa da coal city i lavori del fondo erano direttamente collegati con i lavori all'aperto da pozzi di ventilazione e di estrazione che mettevano i diversi piani della miniera in comunicazione con la superficie la galleria grande dove funzionava la ferrovia idraulica serviva solo al trasporto degli abitanti di coal city ognuno si ricorderà la strana conformazione di quest'ampia caverna dove il vecchio overman e i suoi compagni si erano fermati durante la loro prima esplorazione al di sopra del loro capo si inarcava una cupola a sesto acuto i pilastri che la sostenevano andavano a perdersi nella volta di schisto a un'altezza di circa 90 metri pari cioè a quella della cupola di mammoth delle grande grotti del Kentucky si sa che questa enorme galleria la più grande di tutto l'ipogeo americano può contenere comodamente 5000 persone in questa parte della nuova berfoil si aveva la medesima proporzione e disposizione ma invece delle mirabili stalattiti della grotta famosa qui lo sguardo si fissava sopra escrescenze di filoni carboniferi che sembravano scaturire dalle pareti sotto la pressione degli strati schistosi le avresti dette alti rilievi di giaietto che si accendessero sulle varie facce per l'irradiamento dei dischi luminosi al di sotto di questa cupola si stendeva un lago paragonabile per estensione al mar morto del Mammoth Caves lago profondo le cui acque trasparenti pullulavano di pesci senza occhi e al quale l'ingegnere diede il nome di lago Malcolm in quell'immensa cavità naturale Simon Ford aveva costruito il suo nuovo cottage che non avrebbe cambiato con il più bel palazzo di Princess Street a Edimburgo questa abitazione era situata in riva al lago e le sue cinque finestre guardavano sulle acque cupe che si stendevano a perdita d'occhio due mesi dopo una seconda abitazione era stata costruita vicino al cottage di Simon Ford quella di James Starr l'ingegnere si era dato corpo e anima alla nuova Burfoil anche lui aveva voluto abitarvi e bisognava che avesse affari impellenti per decidersi a risalire in superficie là sotto infatti egli viveva in mezzo ai suoi adorati minatori dopo la scoperta dei nuovi giacimenti tutti gli operai dell'antica miniera si erano affrettati ad abbandonare la carriora ed il badile per riprendere il piccone o la zappa a tratti dalla certezza che il lavoro non sarebbe mancato allettati dall'alto salario con cui quella prospera attività permetteva di retribuire le loro fatiche essi avevano abbandonato la superficie per trasferirsi nel sottosuolo e abitare nella miniera che per la sua naturale struttura si prestava tale adattamento queste case di minatori costruite di mattoni si erano poco a poco disposte in modo pittoresco le une sulle rive del lago Malcom le altre sotto quelle arcate che parevano fatte apposta per resistere al peso delle volte come i contrafforti di una cattedrale picconieri che abbatterono la rupe cariolanti che trasportarono il carbone sorveglianti dei lavori carpentieri che puntellano le gallerie cantonieri ai quali è affedata la riparazione delle vie muratori che sostituiscono la pietra al carbone nelle pareti più sfruttate tutti questi operai per lo più impiegati nei lavori del fondo fissarono la loro dimora nella nuova Berfoil e fondarono a poco a poco Cole City situata sotto l'estremità orientale del lago Catrin a nord della contea di Stirling era dunque sorto una specie di villaggio fiammingo sulle sponde del lago Malcom una cappella consacrata St. Gilles dominava quell'insieme dall'alto di una roccia enorme che bagnava le proprie falde nell'acqua del mare sotterraneo quando il borgo sotterraneo era rischiarato dai vivi raggi dei dischi appesi ai pilastri della cupola o delle arcate delle contronavate prendeva un aspetto un po' fantastico di effetto strano che giustificava la raccomandazione delle guide Joan e Moray ecco perché i visitatori vi affluivano è superfluo dire che gli abitanti di Cole City erano orgogliosi delle loro dimore essi lasciavano molto raramente la città operaia imitando così Simon Ford il quale non voleva mai uscirne il vecchio Overman sosteneva che lassù pioveva sempre e parlando del clima del Regno Unito bisogna convenire che non aveva tutti i torti le famiglie della nuova Berfoil prosperavano in tre anni avevano raggiunto una certa giatezza che non avrebbero mai ottenuto alla superficie della contea molti marmocchi nati al tempo in cui erano stati ripresi i lavori non avevano ancora respirato l'aria esterna il che faceva dire a Jack Ryan sono diciotto mesi che hanno smesso di poppare eppure non hanno ancora veduto la luce bisogna notare in proposito che una delle prime persone che risposero all'appello dell'ingegnere fu proprio Jack Ryan questo allegro compagnone si era fatto un dovere di riprendere l'antico mestiere la fattoria di Marrows aveva dunque perduto il suo cantore e il suo piper consueto ma non per questo Jack Ryan aveva smesso di cantare tutt'altro e gli echi sonori della nuova Berfoil si logoravano i polmoni di sasso per rispondergli Jack Ryan era andato ad abitare nel nuovo cottage di Simon Ford gli avevano offerto una camera ed egli l'aveva accettata senza complimenti con la semplicità e la schiettezza che gli erano proprie la vecchia maggi gli voleva molto bene per la sua indole buona e per il suo amore gaio inoltre condivideva certe sue idee sugli esseri fantastici che dovevano abitare la miniera quando erano soli loro due si raccontavano storielle da far rabbrividire storielle degne veramente di arricchire la mitologia nordica Jack Ryan divenne così la gioia del cottage era del resto oltre che un buon figliolo un operaio robusto sei mesi dopo la ripresa dei lavori l'avevano già fatto a capo di un gruppo di minatori addetti ai lavori del fondo è stato un buon lavoro signor Ford avete trovato un nuovo filone e se anche avete rischiato di pagare questa scoperta con la vostra vita in complesso non vi è costata troppo cara no Jack ce la siamo cavata a buon mercato ma il signor Star e io non dimenticheremo mai che ti dobbiamo la nostra vita ma no la dovete a vostro figlio Harry perché fu lui ad avere la buona idea di accettare il mio invito per la festa di Irvin e di non andarci non è vero? no Jack è proprio a te che noi dobbiamo la nostra vita rispose Harry stringendo la mano dell'amico eri appena guarito dalle ferite e non hai perduto né un giorno né un'ora è merito tuo se ci avete ritrovati ancora vivi nella miniera ma no non voglio che si dicano cose non vere Harry posso essermi dato da fare per sapere che ne era di te ma niente di più per rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto aggiungerò che senza quel folletto ah ci siamo ancora il folletto un folletto signor Ford un farfarello il figlio di qualche fata un nipote delle dame di fuoco un Urisk tutto quello che volete non è men vero che senza quello non saremmo mai penetrati nella galleria dalla quale voi non potevate uscire senza dubbio Jack resta da stabilire se questo essere è così soprannaturale come tu ti ostini a credere soprannaturale Harry è soprannaturale come un folletto che si vede correre con il suo lampione in mano e che si vuol raggiungere mentre sfugge come un silfo e svanisce come un'ombra sta tranquillo mio caro Harry lo rivedremo un giorno o l'altro ebbene Jack folletto o no cercheremo di ritrovarlo e allora bisogna che tu ci aiuti vi metterò in un brutto impiccio signor Ford e sia pure lascia fare a me Jack naturalmente il dominio della nuova Burfoil diventò ben presto familiare a tutta la famiglia Ford e soprattutto a Harry costui imparò a conoscerne gli angoli più segreti giunse anzi a stabilire quale luogo corrispondesse in superficie a questo punto della miniera sapeva che sopra uno strato si stendeva il golfo del Clyde che là si trovava il lago Lomond o il lago Catherine questi pilastri sorreggevano un contrafforte dei monti grampiani quella volta serviva di base a Dumbarton al di sopra di quel largo stagno passava la ferrovia di Bullock là invece finiva il litorale scozzese e più oltre cominciava il mare di cui si udiva distintamente il frastuono durante i forti uragani dell'equinozio Harry sarebbe stato una guida meravigliosa di quelle catacombe naturali avrebbe saputo fare nell'oscurità della miniera con istinto infallibile ciò che le guide fanno sulle vette nevose delle alpi in piena luce perciò amava tanto questa nuova Aberfoil quante volte con la sua lampada piantata nel cappello si avventurava fin nelle più estreme profondità esplorava gli stagni sopra una barca che manobrava abilmente e andava anche a caccia perché molti uccelli selvatici si erano introdotti nella cripta beccaccini anitrelle folaghe che si nutrivano dei pesci che pululavano in quelle acque nere pareva che gli occhi di Harry fossero avvezzi al buio come gli occhi di un marinaio agli orizzonti lontani ma in queste sue scorribande Harry era trascinato irresistibilmente dalla speranza di ritrovare l'essere misterioso che aveva più di ogni altro il merito di aver salvato lui e i suoi ci sarebbe riuscito sì senza dubbio se doveva credere ai propri presentimenti no se teneva conto degli esiti delle ricerche fino ad allora compiude quanto agli attacchi diretti contro la famiglia dell'overman prima della scoperta della nuova Aberfoil non si erano più rinnovati così andavano le cose in quello strano paese non bisogna pensare che anche quando coal city cominciava appena a delinearsi mancassero distrazioni nella città sotterranea e che l'esistenza trascorresse monotona niente affatto la gente raccolta in quel luogo aveva i medesimi interessi i medesimi gusti pressapoco le medesimi abitudini perciò formava una specie di grande famiglia tutti si conoscevano fra loro ed era raro che qualcuno sentisse il bisogno di andare in cerca di piaceri all'esterno d'altra parte ogni domenica le passeggiate nella miniera le escursioni sui laghi e sugli stagni erano tutte distrazioni piacevoli spesso si udiva il suono delle cornamuse e cheggiare sulle sponde del lago Malcolm gli scozzesi accorrevano al richiamo del loro strumento nazionale si danzava e quel giorno Jack Ryan vestito con il costume degli Islanders era il re della festa per tutto questo stando a quanto sosteneva Simon Ford Cole City poteva rivalleggiare con la capitale della Scozia una città soggetta ai freddi dell'inverno ai calori dell'estate alle intemperie di un clima detestabile che per l'aria impregnata del fumo delle sue officine dava ragione al soprannome di vecchia affumicata capitolo 14 in tali condizioni soddisfatti suoi più cari desideri la famiglia di Simon Ford era felice tuttavia si potrà notare che Harry già di indole un po' mesta era sempre più chiuso in se stesso come diceva Mudge Jack Ryan nonostante il suo carattere allegro e comunicativo non riusciva mai a farlo venire fuori una domenica di giugno i due amici passeggiavano sulla sponda del lago Malcom Coal City riposava all'esterno il tempo era burrascoso piogge impetuose facevano uscire dalla terra vampe di calore alla superficie della contea non si respirava più al contrario a Coal City c'era una calma assoluta una temperatura mite non pioveva e il vento non soffiava nulla traspariva della lotta degli elementi impegnata all'esterno persino gente di Sterling e dei dentorni era venuta a cercare un po' di frescura nelle profondità della miniera i dischi elettrici irradiavano una luce abbagliante che avrebbe fatto invidia al sole britannico quel giorno ancora più annebbiato di quanto non lo sia di solito la domenica Jack Ryan faceva notare quel tumultuoso concorso di visitatori all'amico Harry ma questi non sembrava prestare molta attenzione alle sue parole guardate un po' Harry quanta folla che ci viene a vedere andiamo amico mio caccia un po' via la tua tristezza dobbiamo fare gli onori di casa meglio che possiamo vuoi far credere a tutta quella gente di fuori che noi invidiamo la loro sorte Jack non preoccuparti per me tu sei allegro per due e questo basta che il vecchio Nick mi prenda con sé se la tua malinconia non è contagiosa mi si annebbiano gli occhi le mie labbra si serrano e il riso rimane soffocato in fondo alla gola persino la memoria delle canzoni mi abbandona dimmi Harry che cos'hai? lo sai bene Jack sempre quel pensiero? sempre ah mio povero Harry se tu mettessi come me ogni cosa sulle spalle dei folletti delle miniere staresti più tranquillo lo sai bene Jack che i folletti non esistono se non nella tua immaginazione e che da quando sono ricominciati i lavori non se n'è più visto neppure uno nella nuova Berfoil d'accordo Harry ma se i folletti non si vedono più mi pare che non si facciano vedere nemmeno coloro ai quali tu attribuisci tutti questi fatti straordinari io li troverò Jack ah Harry Harry i geni della nuova Berfoil non si lasciano cogliere facilmente io li troverò i tuoi pretesi geni e tu pretenderesti di punire punire e ricompensare Jack se una mano ci ha imprigionato in questa galleria io non dimentico che un'altra mano ci ha invece soccorsi eh Harry sei proprio sicuro che quelle mani non appartengono al medesimo corpo perché Jack che cosa ti fa venire quest'idea sai bene Harry questi esseri che vivono negli abissi non sono fatti come noi sono fatti come noi Jack no Harry no d'altra parte non si può immaginare che qualche pazzo sia riuscito a introdursi un pazzo un pazzo non avrebbe dimostrato una simile concatenazione di idee come può essere pazzo il malfattore che dal giorno in cui ha rotto le scale del pozzo Yarrow non ha mai cessato di farci del male ma non ne fa più Harry da tre anni nessun gesto malevole è stato tentato contro di te o contro i tuoi non importa Jack ho il presentimento che quell'essere malvagio chiunque sia non abbia rinunciato ai suoi piani da che cosa deduca questa impressione non lo potrei dire però Jack nell'interesse della nuova attività della miniera voglio sapere chi è e da dove viene nell'interesse della nuova attività si Jack forse mi inganno ma vedo in tutto questo affare un interesse contrario al nostro ci ho pensato tante volte e non credo di sbagliarmi ricordo tutti quei fatti inesplicabili concatenati logicamente gli uni agli altri innanzitutto la lettera anonima contraria a quella di mio padre questo prova che un uomo sapeva dei nostri progetti e perciò ha voluto impedire che si compissero il signor star viene a farci visita alla fossa d'Ockard non appena io lo introduco un'enorme pietra viene lanciata contro di noi e subito ogni comunicazione con l'esterno viene interrotta dalla rottura delle scale del pozzo Yarrow la nostra esplorazione poi comincia l'esperimento per dimostrare l'esistenza del nuovo giacimento è impossibile perché le fessure dello schisto sono state otturate si riesce però a farlo ugualmente e trovato il filone ritorniamo indietro ma all'improvviso un gran soffio d'aria spezza la nostra lampada nonostante l'oscurità profonda che ci circonda riusciamo a ripercorrere la galleria e non c'è più l'uscita l'imboccatura è otturata eccoci allora prigionieri in tutto questo tu Jack non vedi un'intenzione criminosa si un essere che finora non abbiamo potuto sorprendere ma non certo soprannaturale come tutti ostini a credere era nascosto nelle miniere per uno scopo che non riesco comprendere egli cercava di impedirci di entrare c'era un presentimento mi dice che c'è ancora e chissà che non prepari qualche colpo tremendo ma anche a costo di rischiare la vita ti giuro Jack che io lo scoprirò Harry aveva parlato con una convinzione che impensierì l'amico Jack Ryan sentiva che Harry aveva ragione almeno per il passato che questi fatti straordinari avessero una causa naturale o soprannaturale non erano perciò meno evidenti eppure il bravo giovanotto non rinunciava alla sua interpretazione degli avvenimenti capiva che Harry non avrebbe mai ammesso l'intervento di un genio misterioso tuttavia insistette sull'incidente che sembrava inconciliabile con il sentimento di malevolenza contro la famiglia Ford ebbene Harry su certi punti devo darti ragione ma non credi anche tu che qualche genio benefico portandovi il pane e l'acqua abbia potuto salvarvi da Jack la creatura pietosa che tu vuoi far credere un essere soprannaturale esiste né più né meno del malfattore ed io li cercherò tutte e due fin nelle più lontane profondità della miniera ma hai qualche indizio che possa guidare le tue ricerche? sì forse ascoltami bene sette chilometri circa a ovest della nuova Berfoil sotto la roccia che sostiene il Lomond esiste un pozzo naturale che si caccia perpendicolarmente nelle viscere stesse del giacimento otto giorni or sono decisi di scandagliare la profondità mentre il mio scandaglio scendeva ed io ero curvo sull'apertura del pozzo mi parve che l'aria si agitasse all'interno quasi fosse battuta da ampi colpi d'ala sarà stato qualche uccello che si era smarrito nelle gallerie inferiori delle miniere no non è tutto Jack stamattina sono tornato a quel pozzo e porgendo l'orecchio mi è sembrato di udire una specie di gemito un gemito? ti sarai sbagliato Harry sarà stato una folata d'aria o piuttosto un folletto domani Jack saprai la verità domani? sì domani io scenderò in quell'abisso Harry questo è tentardio no Jack perché implorerò il suo aiuto per scendere domani ci recheremo entrambi a quel pozzo con qualche altro compagno mi legherò una lunga corda che ti permetterà di calarmi e di estrarmi a un segnale convenuto posso fare affidamento su di te Jack Harry farò quello che tu mi chiedi ma te lo ripeto hai torto meglio aver torto ed agire che non tenersi in rimorso di non aver fatto nulla dunque Jack domani mattina alle 6 e silenzio addio e non per continuare una conversazione nella quale Jack Ryan avrebbe cercato ancora di avversare i suoi piani Harry lasciò bruscamente l'amico e tornò al cottage bisogna convenire che le apprensioni di Jack non erano affatto esagerate se qualche nemico personale minacciava Harry e si trovava in fondo al pozzo dove il giovane minatore voleva andarlo a cercare Harry correva un brutto rischio ma era forse verosimile quella storia? in fin dei conti perché affannarsi tanto per spiegare fatti che si spiegano così comodamente con l'intervento soprannaturale dei geni della miniera ripeteva fra sé Jack Ryan in ogni modo il giorno successivo Jack e tre minatori del suo gruppo giungevano insieme con Harry all'imboccatura del pozzo sospetto Harry non aveva detto nulla del suo piano né a James Starr né al vecchio Overman dal canto suo Jack Ryan era stato tanto discreto da non parlarne gli altri minatori vedendoli partire avevano creduto che si trattasse semplicemente di un'esplorazione del giacimento lungo lo spaccato verticale Harry si era procurato una lunga corda di circa 60 metri non troppo grossa ma resistente poiché il giovane non doveva scendere e neppure risalire a forza di braccia bastava che la corda fosse abbastanza solida da reggerne il peso ai suoi compagni toccava solo farlo scivolare nell'abisso e poi ritirarlo fuori una scossa della corda sarebbe servita di segnale fra lui e gli altri il pozzo era abbastanza largo infatti il diametro di apertura superava i 4 metri attraverso l'imboccatura si mise una trave come un ponte che permetteva alla corda di scorrere sulla sua superficie e quindi di mantenersi lungo l'asse del pozzo questa precauzione era indispensabile altrimenti Harry avrebbe potuto sbattere nella discesa contro le pareti laterali Harry era pronto persisti proprio nel tuo piano di esplorare quest'abisso? Sì Jack la corda fu prima legata intorno alle reni di Harry e poi sotto le ascelle per impedire al suo corpo di dondolare tenuto fermo in quel modo Harry poteva disporre come voleva di entrambe le mani alla cintura aveva sospeso una lampada di sicurezza e al fianco aveva assicurato un largo coltello scozzese inguainato in un fodero di cuoio Harry si portò in mezzo alla trave intorno alla quale fu passata la corda poi trattenuto dai compagni che lo lasciavano scivolare piano piano scese lentamente nel pozzo siccome la corda faceva un lieve movimento rotatorio la luce della lampada illuminava successivamente a ogni punto delle pareti ed Harry poteva esaminarle con attenzione erano pareti di schisto carbonifero tanto lisce che sarebbe stato impossibile arrampicarsi attaccandosi alla loro superficie Harry calcolò che scendeva alla velocità moderata di circa 30 centimetri al secondo gli era dunque possibile vedere bene e tenersi pronto per qualsiasi imprevisto due minuti dopo vale a dire a una profondità di 30 metri circa la discesa si era compiuta senza incidenti non esisteva nessuna galleria laterale nella parete del pozzo e questo si stringeva poco a poco come un imbuto Harry cominciava a sentire un'aria più fresca che veniva dal basso perciò concluse che l'estremità inferiore del pozzo doveva comunicare con qualche cunicolo del piano inferiore della cripta la corda scivolava sempre l'oscurità era assoluta e anche il silenzio lo era se un essere vivente qualunque fosse aveva cercato rifugio in quell'abisso misterioso e profondo o in quel momento non c'era oppure nessun movimento ne tradiva la presenza Harry che diventava sempre più diffidente man mano che scendeva aveva sguainato il coltello e lo teneva nella mano destra alla profondità di 50 metri si accorse di aver toccato il fondo del pozzo perché la corda si allentò e cessò di svolgersi Harry respirò un istante uno dei timori che aveva avuto finora era svanito cioè che durante la discesa la corda venisse spezzata sopra di lui d'altra parte nelle pareti non aveva notato nessun vano che potesse nascondere un essere qualsiasi l'estremità inferiore del pozzo era molto stretta Harry staccando la lampada dalla cintura esaminò il suolo non si era ingannato nelle sue congetture uno stretto cunicolo si inoltrava lateralmente nel piano inferiore del giacimento per penetrarvi avrebbe dovuto chinarsi e camminare carponi Harry decise di scoprire in che direzione si ramificasse quella galleria e se portasse in qualche altro abisso si distese a terra e cominciò a strisciare ma un ostacolo l'arrestò quasi subito gli farve di sentire al tatto che quell'ostacolo fosse un corpo che gli ostruiva il passaggio Harry si ritrasse istintivamente per un vivo senso di ripugnanza ma poi si fece avanti di nuovo i suoi sensi non l'avevano ingannato ciò che l'aveva arrestato era proprio un corpo toccandolo poteva accertarsi che era gelato all'estremità ma non freddo del tutto tirarlo a sé trascinarlo in fondo al pozzo e gettarci sopra la luce della lampada fu l'affare di un istante un fanciullo esclamò Harry il fanciullo trovato in fondo a quell'abisso respirava ancora ma così lievemente che Harry pensò che stesse per smettere del tutto bisognava senza perdere un istante trasportare la povera creaturina all'imboccatura del pozzo e di là il cottage dove Mudge le avrebbe prodigato le sue cure dimenticando qualsiasi altra preoccupazione Harry legò la corda intorno alla cintura vi attaccò la lampada prese il fanciullo e lo tenne stretto al seno con il braccio sinistro in modo da avere quello destro libero e armato fece quindi il segnale convenuto perché la corda fosse tirata su piano piano la corda si tese e la salita cominciò regolarmente Harry guardava intorno a sé con maggior attenzione di prima oramai non era più il solo in pericolo tutto andò bene per i primi minuti dell'ascensione nessun incidente sembrava dovesse sopravvenire ma allora Harry avvertì un forte soffio che rimuoveva l'aria in fondo al pozzo guardò sotto di sé e vide una massa scura che saliva poco a poco e lo toccò passando era un enorme uccello che Harry non avrebbe saputo definire saliva agitando fortemente le ali il mostruoso volatile ad un tratto si arrestò si librò un istante e poi si lanciò contro Harry con feroce accanimento il giovane aveva solo il braccio destro disponibile per parare i colpi del formidabile becco dell'animale cercò di difendersi e di proteggere nello stesso tempo il fanciullo come meglio poteva ma non era il fanciullo era lui che l'uccello assaliva intralciato dalla rotazione della corda non riusciva a colpirlo mortalmente la lotta si prolungava Harry gridò con tutta la forza dei suoi polmoni sperando che le sue urla fossero sentite dai compagni e così avvenne infatti perché si accorse che la corda veniva tirata su più presto rimanevano ancora 25 metri da percorrere l'uccello rinunciò allora all'assalto diretto ma pericolo ben più grave a mezzo metro sopra la testa di Harry e fuori dalla portata del suo braccio esso si gettò sulla corda vi si appese e cercò di romperla a beccate a Harry si rizzarono i capelli sul capo un trefolo venne reciso la corda cedetta poco a poco a oltre 30 metri dal fondo dell'abisso Harry mandò un grido disperato un secondo trefolo venne meno per il doppio fardello che la corda mezzo rotta sorreggeva Harry lasciò andare il coltello e con sforzo sovrumano nel momento in cui la corda stava per rompersi riuscì ad afferrarsi con la mano destra al di sopra del taglio fatto dal becco dell'uccello ma nonostante il suo pugno di ferro sentiva la corda scivolargli a poco a poco fra le dita avrebbe potuto riafferrarla con entrambe le mani sacrificando il fanciullo che teneva con un braccio ma non volle neppure pensarci intanto Jack Ryan e i suoi compagni eccitati dalle grida di Harry tiravano con maggior lena Harry credette di non poter resistere fino all'imboccatura del pozzo la sua faccia si iniettò di sangue e gli chiusero gli occhi un istante quasi in attesa di precipitare nell'abisso poi li riaprì l'uccello senza dubbio spaventato dalle grida era scomparso quanto ad Harry proprio mentre stava per lasciare andare la corda che ormai teneva solo per l'estremità fu afferrato ed è posto a terra con il fanciullo ma allora finalmente subentrò la reazione Harry cadde privo di sensi fra le braccia dei suoi camerati capitolo 15 nel al cottage due ore dopo Harry rimasto a lungo privo di sensi e il fanciullo estremamente indebolito arrivarono al cottage con l'aiuto di Jack Ryan e dei suoi compagni mentre gli uomini raccontavano questi avvenimenti al vecchio Overman Madge si prodigava in cento cure con la povera creatura che suo figlio aveva salvata Harry aveva creduto di estrarre un fanciullo dall'abisso era invece una ragazza di 15 o 16 anni al massimo il suo sguardo vago e pieno di stupore la sua faccia magra allungata dalla sofferenza il suo colorito chiaro che la luce sembrava non aver mai illuminato il suo corpicino delicato tutto faceva di quella fanciulla un essere bizzarro e leggiadro assieme Jack Ryan abbastanza giustamente la paragonò a un folletto di aspetto un po' soprannaturale era un'impressione che si doveva alle circostanze particolari al luogo eccezionale dove la giovinetta forse aveva vissuto fino ad allora ma in realtà aveva l'aria di appartenere solo in parte all'umanità la sua fisionomia era strana i suoi occhi che sembravano stancarsi al bagliore delle lampade del cottage guardavano con espressione smarrita come se ogni cosa fosse nuova per loro a questa creatura singolare coricata sul letto di mage e che tornò alla vita come se uscisse da un lungo sonno la vecchia scozzese fu la prima che rivolse la parola come ti chiami piccola Nell Nell hai dolori Nell ho fame non ho mangiato da da dalle poche frasi che aveva proferito si comprendeva che Nell non era avvezza a parlare parlava da quel vecchio gaelico di cui Simon Ford e i suoi si servivano spesso non appena la giovinetta ebbe risposto Mudge portò subito qualcosa da mangiare Nell moriva di fame da quanto tempo si trovava in fondo a quel pozzo non si poteva stabilirlo quanti giorni sei rimasta laggiù figliola Nell non rispose sembrava non comprendere la domanda che le veniva fatta quanti giorni piccola giorni rispose Nell a cui questa parola pareva priva di significato poi scosse la testa come se non comprendesse la domanda Mudge le accarezzava i capelli e le prendeva la mano per infondarle fiducia quanti anni hai figlia mia Nell rispose ancora una volta con un cenno negativo sì sì dico quanti anni hai piccola anni rispose Nell e questa parola come l'altra giorni non pareva avere alcun significato per la giovinetta Simon Ford Harry Jack Ryan e i suoi compagni la guardavano con un sentimento di pietà e di simpatia insieme lo stato di quella povera creatura vestita di una miserabile gonnella di stoffa grossa era veramente tale da fare impressione Harry più di ogni altro si sentiva irresistibilmente attratto dall'aspetto insolito di Nell si accostò al letto e prese la mano che Mudge aveva abbandonato guardò in faccia Nell e le sue labbra e allora abbozzarono un sorriso Nell laggiù nella miniera eri sola? sola sola esclamò la giovinetta levandosi a sedere i suoi lineamenti erano tesi per lo spavento gli occhi che si erano raddolciti sotto lo sguardo del giovane li diventarono selvaggi sola sola ripetè e ricadde sul letto di Mudge come se le forze le mancassero completamente questa povera piccola è ancora troppo debole per risponderci qualche ora di riposo del buon cibo la rimetteranno in forze vieni Simon vieni Harry venite tutti amici e lasciate che il sonno ce la guarisca obbedendo al consiglio di Mudge Nell fu lasciata sola e un istante dopo dormiva già profondamente questo avvenimento fece gran rumore non solo nella miniera ma anche nella contea di Sterling e ben presto in tutto il Regno Unito la fama che Nell fosse una ragazza strana si andò accrescendo se si fosse trovata una fanciulla chiusa nella roccia schistosa come uno di quegli esseri antidiluviani liberati dal macigno con un colpo di piccone la cosa non avrebbe fatto più chiasso senza saperlo Nell diventò di moda le persone superstiziosi trovarono in lei nuovo argomento per i loro racconti leggendari pensavano che Nell fosse il genio della nuova Berfoil e quando Jack Ryan lo diceva al suo camarata Harry d'accordo d'accordo Jack ma in ogni caso è il buon genio è quello che ci ha soccorsi che ci ha portato il pane e l'acqua quando eravamo imprigionati nella miniera non può essere che lui quanto al cattivo genio se è rimasto nella miniera bisognerà pure che lo scopriamo un giorno all'altro come si può facilmente immaginare l'ingegner James Starr era stato informato subito dell'accaduto la giovinetta che aveva ripreso le forze fin dal giorno successivo al suo ritrovamento fu da lui interrogata con gran sollecitudine e dimostrò di ignorare la maggior parte delle cose della vita era una ragazza intelligente come si capì subito ma certe nozioni elementari gli mancavano per esempio quella del tempo si vedeva che non era abituata a dividere il tempo in ore e in giorni e che queste stesse parole le erano sconosciute inoltre i suoi occhi avvezzi al buio resistevano con fatica alla luce dei dischi elettrici ma nell'oscurità il suo sguardo aveva una straordinaria acutezza e la sua pupilla molto dilatata le permetteva di vedere in mezzo le tenebre più fitte si potè stabilire che il suo cervello non aveva mai ricevuto le impressioni del mondo esterno e che nessun altro orizzonte al di fuori di quello della miniera si era mai aperto al suo sguardo per lei tutta l'umanità veniva rinchiusa nella buia cripta sapeva forse dell'esistenza del sole e delle stelle di città di campagne e di un universo nel quale si muovevano mille mondi c'era da dubitarne finché alcune parole che ignorava non avessero preso nella sua mente un significato preciso quanto a sapere se Nell vivesse sola nella profondità della nuova Berfoil James Darr dovette rinunciarvi ogni allusione in proposito gettava lo spavento in quella strana creatura Nell non poteva o non voleva rispondere ma certo c'era sotto un segreto che avrebbe potuto svelare mia cara vuoi rimanere con noi? gli aveva domandato James Darr alla prima di queste due domande oh sì aveva detto la fanciulla alla seconda domanda ovvero oppure preferisci tornare dove eri prima la ragazza rispose con un grido di terrore e niente più di fronte a questo silenzio ostinato James Darr e con lui Simon e Henry Ford non potevano non provare una certa apprensione era per loro impossibile dimenticare i fatti inesplicabili accaduti al tempo della scoperta della miniera benché da tre anni nessun nuovo incidente fosse avvenuto si aspettavano sempre qualche nuova aggressione da parte del loro nemico invisibile vollero perciò esplorare anche il pozzo misterioso e lo fecero ben armati e ben scortati ma non trovarono nessuna traccia sospetta il pozzo comunicava con i piani inferiori della cripta scavati nello strato carbonifero James Darr e Simon e Henry discorrevano sovente di queste cose se uno o più malfattori erano nascosti nella miniera se si preparavano qualche imboscata Nell avrebbe forse potuto dirlo ma la fanciulla non parlava la minima allusione al suo passato provocava soltanto delle crisi perciò si decise di non insistere senza dubbio con il tempo il suo segreto sarebbe sfuggito 15 giorni dopo il suo arrivo al cottage Nell era l'aiutante più intelligente più zelante della vecchia maggi a lei sembrava del tutto naturale non abbandonare mai più quella casa dove l'avevano accolta così caritatevolmente e forse non si immaginava neppure che avrebbe potuto vivere altrove la famiglia Ford le bastava ed è superfluo dire che nel pensiero di quella buona gente da quando Nell era entrata al cottage era diventata la loro figlia adottiva Nell era graziosa davvero la sua nuova esistenza la rendeva ancora più bella quelli dovevano essere i giorni più felici della sua vita e infatti la fanciulla si sentiva piena di riconoscenza per le persone alle quali era debitrice Mudge provava per Nell una simpatia materna anche il vecchio Overman ne andava pazzo del resto l'amavano tutti l'amico Jack Ryan aveva un solo dispiacere quello di non averla salvata lui veniva spesso al cottage cantava e Nell che non aveva mai udito cantare si divertiva ad ascoltarlo ma era evidente che la giovinetta preferiva alle canzoni di Jack Ryan i colloqui più seri con Harry il quale le insegnava poco a poco le cose del mondo esterno a lei così sconosciute bisogna dire che da quando Nell era apparsa nella sua forma migliore la credulità di Jack nei folletti si indeboliva abbastanza e quasi non bastasse la sua credulità ricevette due mesi dopo una nuova scossa in quel periodo infatti Harry fece una scoperta piuttosto sorprendente che spiegava in parte l'apparizione delle dame di fuoco alle rovine del castello di Dundonald a Irvine un giorno dopo una lunga esplorazione della parte sud della miniera esplorazione che era durata parecchi giorni attraverso le ultime gallerie di questo esteso sottosuolo Harry era salito faticosamente per una galleria stretta scavata nella roccia schistosa a un tratto con sua grande meraviglia si ritrovò all'aria aperta la galleria che saliva obliquamente verso la superficie del suolo faceva capo precisamente alle rovine di Dundon al castle c'era dunque una comunicazione segreta fra la nuova Berfoil e la collina dove sorgeva il vecchio castello sarebbe stato impossibile scorgere dal di fuori l'imboccatura superiore del cunicolo perché era ostruita da pietre e cespugli per questa ragione durante l'inchiesta gli agenti non erano potuti penetrare alcuni giorni dopo James Starr con la guida di Harry andò di persona a constatare quella disposizione naturale del giacimento carbonifero beh ecco Harry finalmente i superstiziosi della miniera si convinceranno addio alle brownies ai folletti e alle dame di fuoco signor Starr non credo che ci sia da rallegrarcene i loro sostituti non valgono di più e potrebbero anche essere peggiori ve lo assicuro è vero Harry ma che cosa possiamo farci evidentemente gli individui che si nascondono nella miniera comunicano attraverso questa galleria con la superficie del suolo sono loro certamente che con la torcia in mano quella notte burrascosa attirarono il motala alla costa e come gli antichi ladri di relitti avrebbero rubato i resti del naufragio se Jack Ryan e i suoi compagni non si fossero trovati là comunque sia tutto si spiega ecco l'imboccatura del covo quanto i suoi abitanti ci saranno ancora sì signor Star perché Nell trema quando gliene parliamo sì perché Nell non vuole o non osa parlarne Harry probabilmente aveva ragione se gli ospiti misteriosi della miniera l'avessero abbandonata oppure fossero morti che motivo avrebbe la fanciulla di tacere a James Star stava a cuore di scoprire questo segreto aveva il presentimento che da ciò potesse dipendere l'avvenire della nuova impresa si presero allora le precauzioni più severe furono avvertiti tutti i magistrati gli agenti occuparono segretamente le rovine di Dundon al Castle lo stesso Harry si nascose per più notti in mezzo ai cespugli che crescevano fitti sulla collina ma fu tutta fatica sprecata non si scoprì nulla non un essere umano apparve attraverso l'apertura esterna della galleria si dovette finalmente concludere che i malfattori con ogni probabilità avevano abbandonato per sempre la nuova Berfoil e per quanto riguardava Nell essi la credevano morta in fondo al pozzo dove l'avevano lasciata prima che iniziasse lo sfruttamento della miniera in quella parte del sottosuolo avevano trovato un rifugio sicuro da ogni perquisizione ma poi le circostanze erano mutate il covo si poteva ormai difficilmente nascondere era perciò possibile sperare che non ci fosse più nulla da temere per l'avvenire ma James Starr non si sentiva rassicurato del tutto e anche Harry non riusciva ad arrendersi Nell si è trovata evidentemente immischiata in questo mistero se non avesse più nulla da temere perché persisterebbe nel silenzio non c'è dubbio che sia felice di essere con noi si è affezionata a tutti ad ora mia madre ma se tace sul suo passato su quanto potrebbe rassicurarci per l'avvenire è segno che qualche terribile segreto e che la sua conoscenza le vieta di svelare e tutto questo pesa sopra di lei forse per il nostro interesse più che non per il suo pensa sia meglio chiudersi in questo silenzio inesplicabile in seguito a considerazioni di tal genere di comune accordo si era convenuto di evitare nella conversazione tutto quanto potesse ricordare alla giovinetta il suo passato un giorno però Harry fu indotto a parlare a Nell di ciò che James Starr suo padre sua madre e lui stesso credevano di dovere al suo intervento era un giorno di festa la gente riposava nella contea di Sterling come nella città sotterranea si andava a passeggio un po' dappertutto i canti risuonavano ovunque sotto le volte sonore della nuova Berfoil Harry e Nell avevano lasciato il cottage e seguivano a passi lenti la riva sinistra del lago Malcolm da quella parte la luce giungeva più temperata e i suoi raggi si frangevano capeggiosamente sugli angoli di alcune rocce pittoresche che sostenevano la cupola quella penombra conveniva meglio agli occhi di Nell che sopportavano a fatica la luce dopo un'ora di cammino Harry e la sua compagna si arrestarono davanti alla cappella di St. Gilles sopra una specie di terrazzo naturale che dominava le acque del lago i tuoi occhi Nell non sono ancora vezi alla luce del giorno e certamente non potrebbero sopportare lo splendore del sole no senza dubbio se il sole come tu me l'hai descritto Harry Nell con le parole io non sono riuscito a darti un'idea giusta dello splendore del sole e neppure delle bellezze dell'universo che i tuoi occhi non hanno mai veduto ma dimmi veramente dal giorno che sei nata tu non sei mai uscita alla superficie del suolo mai e credo che anche da piccina né un padre e una madre mi abbiano mai portata fuori altrimenti me ne ricorderei ah ne sono convinto Nell d'altra parte a quel tempo c'erano molte persone che non abbandonavano mai la miniera le comunicazioni con l'esterno erano difficili ed io ho conosciuto più di un giovane e una giovane ragazza che alla tua età ignoravano come te tutte le cose del mondo esterno ma ora in pochi minuti la ferrovia ci trasporta la superficie della contea io sono impaziente Nell di sentirmi dire da te vieni Harry i miei occhi ora possono sopportare la luce del giorno e voglio vedere il sole voglio vedere l'opera di Dio io te lo dirò Harry fra poco lo spero almeno verrò ad ammirare con te questo mondo esteriore eppure che cosa vuoi dire Nell ti dispiace forse aver abbandonato il buio abisso nel quale hai vissuto i primi anni della tua vita e dal quale ti abbiamo liberata quasi morta no Harry pensavo solamente che anche le tenebre sono belle se tu sapessi che cosa vedono gli occhi abituati alle loro profondità vi sono ombre che passano e che si è tenuti di seguire nel loro volo talvolta sono cerchi che si incrociano davanti allo sguardo e dai quali non si vorrebbe più uscire in fondo a questa miniera vi sono buchi neri pieni di luci vaghe e poi si odono rumori che parlano vedi Harry bisogna averle vissute queste cose per comprendere ciò che provo e che io non so esprimere e non avevi paura Nell quando eri sola? no Harry non avevo paura la voce di Nell si era leggermente alterata nel pronunciare queste parole ma Harry insistette deve essere facile perdersi in quelle lunghe gallerie non avevi paura di smarrirti no Harry conoscevo da lungo tempo tutti gli angoli della nuova miniera ma non ne uscivi mai qualche volta? sì qualche volta e venivo fino all'antica Berfoil allora conoscevi il vecchio cottage il cottage sì ma molto da lontano le persone che l'abitavano eravamo mio padre mia madre ed io non abbiamo mai voluto abbandonare la nostra antica dimora sarebbe forse stato meglio per voi perché Nell? grazie alla nostra ostinazione si è potuto scoprire il nuovo giacimento questa scoperta non ha forse avuto conseguenze felici per un'intera popolazione che ha riacquistato la giatezza con il lavoro e anche per te Nell oltre a ridarti la vita ti ha permesso di trovare persone affezionate per me sì qualsiasi cosa avvenga ma per gli altri chissà cosa vuoi dire Nell? nulla nulla ma era pericoloso penetrare allora nella vecchia miniera sì c'era un grave pericolo Harry un giorno alcune persone imprudenti penetrarono in questo abisso si erano addentrate troppo e si smarrirono smarriti? sì smarriti la loro lampada si spense non riuscirono più a ritrovare la strada e rimasero prigionieri per otto lunghi giorni tanto che quasi stavano per morire e senza una creatura buona mandata da Dio forse un angelo che portò loro in segreto un po' di cibo e senza una guida misteriosa che più tardi condusse fino ai loro i soccorritori non sarebbero usciti mai da quella tomba e come lo sai Harry? perché quegli uomini erano James Starr mio padre io e mia madre Nell crollando il capo afferrò la mano del giovane e lo guardò così fisso che costui si sentì profondamente turbato tu? sì Nell e l'angelo misterioso a cui dobbiamo la vita eri tu non potevi essere che tu Nell si prese il capo fra le mani e restò così senza rispondere Harry non l'aveva mai vista tanto impressionata coloro che ti hanno salvata Nell ti dovevano a loro volta la vita credi forse che possano dimenticarlo? capitolo 16 sulla scala oscillante frattanto l'attività della miniera fruttava l'autiguadagni ai quali naturalmente l'ingegnere Simon Ford i primi scopritori di questo ricco bacino carbonifero partecipavano largamente Harry si poteva ormai considerare un buon partito ma il giovane non pensava neppure di abbandonare il cottage era succeduto a suo padre nelle funzioni di Overman e sorvegliava assiduamente quel mondo di minatori Jack Ryan pareva beato e andava fiero della fortuna toccata all'amico anche lui faceva bene i suoi affari tutti e due si incontravano spesso al cottage o ai lavori del fondo Jack Ryan non poteva fare a meno di notare i sentimenti che Harry ormai provava per la giovinetta Harry non lo confessava ma Jack rideva di gusto quando l'amico scrollava la testa in segno di diniego uno dei più vivi desideri di Jack Ryan era quello di accompagnare Nell nella sua prima visita alla superficie della contea voleva vedere il suo stupore e la sua ammirazione dinnanzi alla natura per lei ancora sconosciuta perciò sperava che Harry l'avrebbe portato con sé in questa escursione finora però non gli era stata fatta nessuna proposta e la cosa lo inquietava notevolmente un giorno Jack Ryan scendeva per uno dei pozzi di areazione che mettevano in comunicazione in piani inferiori con la superficie del suolo aveva preso una di quelle scale che alzandosi abbassandosi con oscillazioni successive permettono di salire e di scendere senza fatica dopo 20 oscillazioni della scala Jack era sceso di circa 45 metri e a quel livello sullo stretto pianerottolo dove si era fermato incontro Harry che risaliva ai lavori sei tu disse Jack guardando il compagno alla luce delle lampade elettriche del pozzo sì Jack e sono contento di vederti ho una proposta da farti non ascolto niente prima che tu non mi abbia dato notizie di Nell ah Jack Nell sta bene tanto bene anzi che fra un mese o sei settimane spero di sposarla Harry ah non sai quello che dici Jack è possibile Harry ma so bene quel che farò e cosa farai la sposerò io se non la sposi tu ribatte Jack scoppiando poi in una sonora risata San Mungo mi protegga a me piace la piccola Nell una giovane buona creatura che non ha mai lasciato la miniera è proprio la donna che ci vuole per un minatore è un'orfanella Harry e lo sono anch'io e se tu veramente non pensi a lei e se il tuo camerata non le dispiace Harry Harry guardava l'amico con espressione grava lo lasciava dire senza neppure cercare di rispondergli le mie parole non ti rendono geloso Harry no Jack eppure se tu non la sposi non avrai certo la pretesa che Nell rimanga zitella non ho nessuna pretesa Jack in quel momento un'oscillazione della scala avrebbe permesso ai due amici di separarsi l'uno per scendere l'altro per salire tuttavia non si separarono Harry credi che abbia parlato seriamente poco fa riguardo a Nell no Jack ebbene allora lo farò adesso tu parlare sul serio Jack mio buon Harry io sono capace di dare un buon consiglio ad un amico e allora dammelo Jack ebbene ascoltami Harry tu ami Nell con tutto l'amore che si merita tuo padre il vecchio Simon tua madre la vecchia Madge l'amano anche loro come se fosse una loro creatura ora non ci vorrebbe molto perché tu la facessi diventare definitivamente loro figlia perché non la sposi per avanzare una simile proposta Jack conosci tu forse i sentimenti di Nell nessuno l'ignora e nemmeno tu è per questo che non sei geloso né di me né di altri ma ecco che sta arrivando la scala e aspetta Jack disse Harry trattenendo l'amico che aveva già un piede sullo scalino mobile ma bene tu mi vuoi far squartare ascoltami seriamente Jack perché anch'io devo parlarti sul serio ascolto fino alla prossima oscillazione ma non un attimo di più Jack è vero io non posso nasconderti che amo Nell desidero sopra ogni cosa che diventi mia moglie ah benissimo ma così come oggi mi faccio scrupolo a domandarle di prendere una decisione che sarà poi irrevocabile che cosa vuoi dire Harry voglio dire che Nell non ha mai lasciato la miniera dove essa senza dubbio è nata non sa nulla e non conosce nulla del mondo esterno bisogna che prima impari a conoscere le cose con gli occhi e forse anche con il cuore chissà quali saranno i suoi pensieri quando nuove impressioni nasceranno in lei non ha nessuna esperienza della vita di fuori e mi sembrerebbe di ingannarla sollecitandola preferire la vita della miniera prima che abbia avuto modo di maturare coscientemente mi comprendi Jack si un poco Harry soprattutto mi par di capire che vuoi farmi perdere anche la prossima oscillazione Jack anche se la scala smettesse di funzionare a questo pianerottolo e devesse venire a mancarci sotto i piedi tu devi ascoltare ciò che ho da dirti bene Harry così mi piace che si parli allora prima di sposare Nell conti di mandarle in un collegio della vecchia affumicata no Jack saprò ben io dare un'educazione alla ragazza che poi diventerà mia moglie e tanto meglio Harry ma prima di tutto io voglio che Nell impari a conoscere veramente il mondo esterno ti farò un esempio se tu amassi una giovane cieca e ti dicessero fra un mese guarirà non aspetteresti a sposarla quando fosse completamente guarita? ah sì certo ebbene Jack Nell è ancora cieca e prima che diventi mia moglie voglio che sappia bene chi sono io quali sono le condizioni della mia vita e quali quelle che decide di accettare voglio che i suoi occhi si siano aperti finalmente alla luce del giorno bene Harry benissimo ora capisco e quando sarà questa operazione? fra un mese Jack gli occhi di Nell si stanno abituando a poco a poco alla luce dei nostri dischi è una fase preparatoria questa fra un mese spero che potrà vedere la terra e le sue meraviglie il cielo e i suoi splendori finalmente saprà che la natura apre allo sguardo umano orizzonti più ampi di quelli di una tenebrosa miniera si renderà conto che i limiti dell'universo sono infiniti ma mentre Harry si lasciava trascinare dalla sua immaginazione Jack Ryan lasciando il pianerottolo era balzato sullo scalino oscillante della scala ehi Jack dove sei finito? sotto di te mentre tu sali verso l'infinito io discendo negli abissi allora addio Jack rispose Harry aggrappandosi anche lui alla scala che saliva ti raccomando di non parlare con nessuno di quanto ho detto a nessuno Harry non preoccuparti ma ho una condizione e quale? che vi accompagnerò entrambi nel primo viaggio che Neil farà alla superficie del globo si Jack te lo prometto un nuovo scatto della scala aumentò la distanza fra i due amici le loro voci arrivavano ormai molto indebolite dall'uno all'altro eppure Harry riuscì a sentire Jack che gridava e quando Neil avrà veduto le stelle la luna e il sole sai chi preferirà queste cose? no Jack te amico mio proprio te ancora e sempre la voce di Jack si spense finalmente in un ultimo e viva nel frattempo Harry dedicava tutte le ore libere all'educazione di Neil le aveva insegnato a leggere e a scrivere e la ragazza faceva rapidi progressi in tutto si sarebbe detto che sapeva per istinto mai intelligenza più viva aveva trionfato così rapidamente su una totale ignoranza era sorprendente per quelli che l'avvicinavano Simon e Madge si sentivano ogni giorno più legati alla loro figlia adottiva nonostante il suo passato continuasse a preoccuparli avevano compreso i sentimenti del figlio per Neil e la cosa non li dispiaceva affatto conviene ricordarsi che quando l'ingegnere andò per la prima volta al vecchio cottage Simon Ford gli aveva detto perché mio figlio dovrebbe ammogliarsi chi è la ragazza disposta a convivere con un giovane che trascorre la propria esistenza nella profondità di una miniera non pareva dunque che la provvidenza gli avesse mandato la sola compagna veramente adatta a suo figlio non era quello forse un favore del cielo così il vecchio Overman pensava che se quel matrimonio si fosse fatto quel giorno Col City ci sarebbe stata una festa da farepoca per i minatori della nuova Berfoil anche un'altra persona desiderava non meno ardentemente l'unione di Nell e Harry era l'ingegnere James Tarr naturalmente la felicità dei due giovani era la cosa che gli stava più a cuore ma anche un altro motivo di interesse più generale forse lo spingeva a caldeggiare quel matrimonio come sappiamo James Tarr non aveva del tutto superato certi timori benché nulla ormai li giustificasse quel che era stato però poteva di nuovo accadere Nell era evidentemente la sola a conoscere il mistero della nuova miniera se l'avvenire doveva asserbare nuovi pericoli ai minatori di Aberfoil come era possibile prevenire simili eventi senza conoscerne almeno la causa Nell non ha voluto parlare si ripeteva sovente James Tarr ma se finora taciuto con tutti non saprà tacere per molto tempo con suo marito il pericolo può minacciare Harry quanto noi un matrimonio che fa felici gli sposi e dà sicurezza ai loro amici è un buon matrimonio e non se ne farà mai uno migliore in questo paese così ragionava logicamente James Tarr e un giorno comunicò le sue considerazioni al vecchio Simon che le apprezzò in pieno nulla pareva quindi opporsi a un tal matrimonio chi avrebbe potuto Harry e Nell si amavano i vecchi genitori non sognavano altra compagna per il loro figliolo i compagni di Harry invidiavano la sua felicità pur riconoscendo che gli era dovuta la giovinetta dipendeva solo da se stessa e non aveva bisogno del consenso di nessuno se non del proprio cuore ma se non c'era anima viva che potesse ostacolare questo matrimonio perché quando i dischi elettrici si spegnevano all'ora del riposo e quando calava la notte sulla città operaia e gli abitanti di Col City tornavano alle loro case perché allora da uno degli angoli più oscuri della nuova Berfoil usciva un essere misterioso e prendeva a vagare nelle tenebre quale istinto guidava questo fantasma attraverso gallerie tanto strette da doverle ritenere impraticabili perché quell'essere enigmatico i cui occhi trapassavano il buio più profondo si trascinava fin sulle sponde del lago Malcolm e perché si dirigeva ostinatamente verso l'abitazione di Simon Ford e con una prudenza tale da rendere vana qualsiasi sorveglianza perché veniva ad accostare l'orecchio alle finestre per cercare di cogliere frammenti di conversazione attraverso le imposte del cottage e quando riusciva a sentire certe frasi perché stringeva i pugni minacciando la tranquilla dimora perché finalmente uscivano dalla sua bocca contratta dalla collera queste parole lei e lui no mai capitolo 17 un'alba un mese dopo era la sera del 20 agosto Simon Ford e Mudge salutavano con i loro migliori auguri quattro turisti che si preparavano a lasciare il cottage James Starr Harry e Jack Ryan stavano per condurre Nell in una terra che il suo piede non aveva mai calpestato un luogo splendido di cui i suoi sguardi non conoscevano neppure la luce il viaggio sarebbe durato due giorni James Starr d'accordo con Harry riteneva che in 48 ore la giovinetta potesse vedere tutto quanto non aveva visto all'interno della miniera cioè i diversi aspetti del globo come se un panorama mobile di città pianure montagne fiumi laghi golfi mari si svolgesse davanti ai suoi occhi nella parte della Scozia compresa Fredimburgo e Glasgow pareva che la natura avesse voluto radunare tutte quelle meraviglie terrestri quanto al cielo era uguale dappertutto con le sue nuvole cangianti la luna serena o velata il sole radioso e una miriade di stelle il viaggio era perciò stato combinato in modo da soddisfare questo programma Simon Ford e Mudge avrebbero volentieri accompagnato Nell ma ora li conosciamo non se la sentivano di lasciare il cottage e soprattutto non sapevano decidersi ad abbandonare anche per un solo giorno la loro città sotterranea James Tarr andava invece come osservatore come filosofo curiosissimo dal punto di vista psicologico di osservare le ingenue espressioni di Nell e forse anche di indovinare qualche misterioso avvenimento della sua infanzia Harry si chiedeva inquieto se all'improvviso la ragazza che amava e che aveva conosciuto fino ad allora non dovesse apparirgli diversa durante questa rapida iniziazione alle cose del mondo esterno quanto a Jack Ryan era allegro come un fringuello che vola via i primi raggi del sole sperava che la sua contagiosa gaiezza potesse trasmettersi ai compagni di viaggio quello sarebbe stato il suo contributo alla comitiva Nell era pensosa e raccolta in se stessa James Tarr aveva deciso con ragione che conveniva partire di sera era meglio che la ragazza passasse gradualmente dalle tenebre della notte alla luce del giorno questo era possibile ottenerlo perché dalla mezzanotte al mezzogiorno Nell aveva modo di subire tutte le fasi successive d'ombre di luce alle quali il suo sguardo si sarebbe abituato a poco a poco al momento di lasciare il cottage la fanciulla prese la mano di Harry Harry è necessario che io lasci la miniera anche per pochi giorni sì Nell è necessario per te e per me ma Harry da quando mi hai salvata io sono felice quanto lo puoi essere tu mi hai istruita e non basta forse che cosa vado a fare io lassù Harry la guardò senza rispondere i pensieri che Nell esprimeva erano pressa poco i suoi figlia mia comprendo la tua esitazione ma è bene che tu venga con noi disse allora James Tarr le persone che ami ti accompagnano e ti ricondurranno anche a casa se poi vorrai continuare a vivere alla miniera come il vecchio Simon come Madge come Harry sarai libera di farlo ma almeno potrai paragonare ciò che lasci con quel che prendi e agire di tutta libertà andiamo dunque vieni cara Nell disse Harry Harry sono pronta a seguirti disse la ragazza alle nove di sera l'ultimo treno della galleria trasportava Nell e i suoi compagni alla superficie 20 minuti dopo li lasciava alla stazione di collegamento della breve diramazione staccata dalla linea fra Dumbarton e Sterling che faceva servizio alla nuova Burfoil la notte era già buia dall'orizzonte allo zenith vapore rarefatti si perdevano ancora nelle profondità del cielo spinti da una brezza di nord ovest che rinfrescava l'atmosfera la giornata era bella anche la notte lo sarebbe stata arrivati a Sterling Nell e i suoi compagni scesero dal treno e uscirono subito dalla stazione davanti a loro in mezzo agli alberi enormi si snodava una via che conduceva alle rive del Fort la prima impressione fisica provata dalla giovinetta fu quella dell'aria pura che i suoi polmoni aspirarono avidamente respira bene Nell respira quest'aria carica di tutti gli odori vivificanti della campagna disse James Tarr che cosa sono quei gran fiumi che corrono al di sopra del nostro capo domandò Nell sono nuvole sono vapori semicondensati che il vento spinge verso ovest rispose Harry quanto mi piacerebbe sentirmi trasportata nel loro turbine silenzioso e quei punti scintillanti che brillano attraverso le nuvole sono le stelle di cui ti ho parlato Nell sono come tanti soli tanti centri di mondi forse simili al nostro le costellazioni cominciavano a disegnarsi destintamente sull'azzurro cupo del firmamento che il vento rendeva sempre più terzo Nell guardava ammirata le migliaia di stelle lucenti sopra il suo capo ma se sono soli come mai i miei occhi riescono a sopportarne lo splendore figlia mia sono soli sì ma soli che gravitano a un'enorme distanza il più vicino di quegli astri i cui raggi giungono fino a noi è una stella della lira Vega che vedi là quasi allo zenith è a oltre 22 mila miliardi di chilometri perciò la sua luce abbagliante non può ferire il tuo sguardo il nostro sole invece sorgerà domani soltanto a 178 milioni di chilometri circa nessun occhio umano può guardarlo fisso perché arde più intensamente del fuoco di una fornace ma vieni cara Nell proseguiamo rispose James Tarr ripresero il cammino James Tarr teneva la fanciulla per mano Harry camminava al suo fianco Jack Ryan andava e veniva come avrebbe fatto un cane impaziente della lentezza dei suoi padroni la via era deserta Nell guardava il profilo dei grandi alberi che il vento agitava nell'ombra le sembravano giganti che gesticolassero lo stormire della brezza fra gli alti rami il profondo silenzio nei momenti di tregua la linea dell'orizzonte che si vedeva più netta quando la via tagliava una pianura tutto ciò le suggeriva mille sentimenti nuovi e tracciava in lei impressioni indelebili dopo aver interrogato tanto ora Nell taceva e di comune accordo i suoi compagni rispettavano il suo silenzio non volevano influire con le loro parole sull'immaginazione sensibile della giovinetta preferivano lasciare che le idee nascessero spontaneamente nel suo spirito verso le undici e mezzo giunsero alla riva settentrionale del golfo di Fort li attendeva una barca precedentemente noleggiata da James Tarr che in poche ore li avrebbe trasportati fino al porto di Edimburgo Nell vide l'acqua lucente che ondeggiava i suoi piedi per effetto della risacca e sembrava costellata di stelle tremolanti è un lago? no Nell è un ampio golfo con acque correnti è la foce del fiume è quasi un braccio di mare prendi un po' di quest'acqua nel cavo della mano Nell e vedrai che non è dolce come quella del lago Malcolm la ragazza si abbassò bagnò la mano e la portò alle labbra è salata si il mare arriva fin qui perché la marea è alta i tre quarti del nostro globo sono coperti da quest'acqua salata che tu hai appena assaggiata ma nei fiumi scorre l'acqua riversata dai mari e allora perché l'acqua dei fiumi è dolce? perché perde il sale evaporando le nuvole sono formate di vapore acqueo e rimandano in forma di pioggia l'acqua dolce al mare Harry Harry che cos'è quella luce rossastra che infiamma l'orizzonte si è incendiato una foresta Nell mostrava un punto del cielo in mezzo alle nebbie basse che si coloravano est no no Nell è la luna che si alza sì la luna un magnifico vassoio d'argento che i geni celesti fanno viaggiare nel firmamento e che raccoglie tutti gli spiccioli le stelle esclamò Jack Ryan davvero Jack non credevo che tu avessi tendenza a far metafore così ardite rispose James star ridendo eh signor star la mia metafora è giusta guardate le stelle spariscono man mano che la luna s'avanza immagino che sia perché ci cascan dentro devi dire Jack che la luna spegne con il suo bagliore le stelle di sesta grandezza ecco perché queste spariscono il suo passaggio com'è tutto bello ma io credevo però che la luna fosse rotonda è rotonda quando è piena mia cara Nell cioè quando si trova in opposizione con il sole ma questa notte la luna entra nel suo ultimo quarto ed è già cornuta perciò il vassoio d'argento del nostro Jack è solo una bacinella per far la barba ah signor star che metafora indegna io volevo appunto intonare una strofetta in onore della luna luna romito aereo tranquillo astro d'argento esclamò Jack Ryan ma no ora ormai è impossibile la vostra bacinella per far la barba mi ha tolto l'ispirazione signor star intanto la luna saliva poco a poco sull'orizzonte dinnanzi a lei svanivano gli ultimi vapori allo zenite all'ovest le stelle brillavano ancora su un fondo nero che il bagliore lunare faceva gradatamente impallidire Nell contemplava in silenzio quel magnifico spettacolo i suoi occhi sopportavano senza fatica la dolce luce argentea ma la sua mano tremava in quella di Harry e parlava per lei imbarchiamoci amici dobbiamo superare i pendidi Arthur Seat prima che sorga il sole disse James Tarr la barca custodita da un marinaio era ormeggiata a un piolo sulla riva Nell e i suoi compagni salirono fu issata la vela e subito si gonfiò sotto il vento di nord ovest che impressione nuova provava in quel momento la ragazza aveva navigato qualche volta sulle acque del lago della nuova Berfoil ma il remo per quanto fosse maneggiato dolcemente da Harry tradiva sempre lo sforzo del rematore qui per la prima volta Nell si sentiva trascinata da uno scivolamento dolce come quello di un pallone attraverso l'atmosfera il golfo era liscio come un lago semi sdraiata poppa Nell si abbandonava quel dondolio a volte un raggio di luna incerto filtrava fino alla superficie del fort e la barca sembrava scorrere su una lastra d'argento scintillante le onde piccole sbattevano contro il fasciame della barca con sommessi sciacquii era un incanto a un tratto gli occhi di Nell si chiusero involontariamente una specie di assopimento passeggero la vinse con la sua testa china sul petto di Harry cadde in un sonno tranquillo Harry voleva svegliarla perché non perdesse nulla delle meraviglie di quella bella notte ma no lasciala dormire ragazzo mio gli disse l'ingegnere due ore di riposo la prepareranno meglio alle impressioni del giorno alle due del mattino la barca giunse al porto di Cranton Nell si svegliò non appena tocco terra ho dormito no figlia mia hai semplicemente sognato di dormire ecco tutto rispose James Tarr la notte era allora chiarissima la luna a metà strada fra l'orizzonte e lo zenith disperdeva i suoi raggi in tutti i punti del cielo nel piccolo porto di Cranton erano ancorati due o tre pescherecci che si dondolavano sulle onde del golfo la brezza si calmava all'avvicinarsi del mattino il cielo terzo prometteva uno di quei deliziosi giorni di agosto che la vicinanza del mare rende ancora più belli una specie di vapore caldo sorgeva all'orizzonte ma leggero trasparente e i primi raggi del sole l'avrebbero assorbito in un attimo la ragazza osservava il mare all'orizzonte dove si confonde con l'estremo limite del cielo la sua visuale era diventata più ampia ma lo sguardo non subiva l'impressione strana provocata dall'oceano quando la luce sembra spingere all'infinito i suoi confini Harry prese la mano di Nell e entrambi seguirono James Tarr e Jack Ryan che camminavano per le vie deserte nel pensiero di lei quel sobborgo della capitale era semplicemente un insieme di case tenebrose che le ricordavano Cole City con una sola differenza qui la volta era più elevata e scintillava di punti luminosi Nell camminava con passo leggero neppure una volta Harry fu costretto a rallentare il proprio per timore di stancarla sei stanca Nell no Harry ho quasi l'impressione che i miei piedi non tocchino terra il cielo è così alto sopra di noi che mi vien voglia di volarmene via come se le avessi le ali trattienila esclamò Jack Ryan non possiamo perdere la nostra piccola Nell anch'io provo questa sensazione quando sono rimasto qualche tempo senza uscire dalla miniera c'è una ragione ragazzi non ci sentiamo più schiacciati dalla volta schistosa che ricopre Cole City allora sembra che il firmamento sia un abisso profondo nel quale si è tentati di slanciarsi non è questa sensazione che provi Nell sì signor star è proprio così proprio una specie di vertigine a poco a poco ti abituerai mia cara ti abituerai all'immensità del mondo esterno e forse dimenticherai la nostra tenebrosa miniera rispose Harry mai Harry rispose Nell e appoggiò la mano sugli occhi quasi volesse rivedere con lo spirito tutto ciò che aveva lasciato camminando fra le case addormentate della città James Tarr e i suoi compagni attraversarono l'Eath Walk e girarono intorno a Calton Hill dove scorsero nella penombra l'osservatorio e il monumento di Nelson percorsa la Regan Street passarono un ponte e giunsero dopo una curva all'estremità della Cannon Gate non si udiva ancora nessun rumore in città suonavano le due al campanile gotico della Cannon Gate Church in quel punto Nell si fermò improvvisamente che cos'è quella massa confusa? domandò mostrando un edificio isolato in fondo una piazzetta quello Nell è il palazzo dell'antico sovrano di Scozia la Holy Road House dove si svolsero tanti avvenimenti funesti uno storico potrebbe evocare molte ombre regali in quel luogo a cominciare dalla sfortunata Maria Stuarda fino al vecchio re francese Carlo X eppure nonostante i suoi ricordi funebri alla luce del giorno quella residenza non ti parrà troppo lugubre con le sue quattro solidi torre scanalate Holy Road ha proprio l'aria di un castello di campagna che per un capriccio del proprietario ha conservato un carattere feudale ma proseguiamo dentro le mura della vecchia abbazia di Holy Road sorgono le rupe superbe di Salisbury dominate dall'Arthur Seat noi ci arrampicheremo fino là e da quella vetta Nell i tuoi occhi vedranno il sole apparire sull'orizzonte del mare entrarono nei giardini reali poi salendo man mano attraversarono Victoria Drive magnifica via circolare carrozzabile che Walter Scott si rallegra di aver ottenuto con qualche riga di romanzo l'Arthur Seat dire il vero è soltanto una collina poco più alta di 200 metri che dalla cima isolata domina le alture circostanti in meno di mezz'ora per un sentiero tortuoso che rendeva più facile la salita James Tarr e i suoi compagni raggiunsero il cranio del leone al quale rassomiglia l'Arthur Seat visto da Ovest si sedettero tutte e quattro e James Tarr sempre ricco di citazioni presa a prestito dal grande romanziere scozzese si limitò a dire ecco che cosa ha scritto Walter Scott nel capitolo ottavo delle prigioni di Edimburgo se io dovessi scegliere un luogo da dove poter vedere il meglio possibile l'alba e il tramonto sarebbe questo al che Harry aggiunse aspetta Nell il sole non tarderà a mostrarsi in tutto il suo splendore lo sguardo della giovinetta era rivolto a Est Harry le stava accanto e la osservava con un'ansiosa attenzione non sarebbe stata per lei un'emozione troppo viva vedere le prime luci del giorno? tutti erano silenziosi e lo stesso Jack Ryan non fiatava una sottile faccia pallida tinta leggermente di rosa si disegnava già all'orizzonte sopra un fondo di nebbie leggere alcune nuvole rade smarrite allo zenith si illuminavano i primi raggi di luce ai piedi dell'Arthur Seed nella calma assoluta della notte appariva confusamente Edimburgo qua e là punti luminosi tempestavano l'oscurità dietro verso l'ovest l'orizzonte capricciosamente frastagliato racchiudeva una regione montuosa dove ogni raggio di sole sembrava dare una sua pennellata di fuoco alle vette nello stesso tempo a Est la linea del mare risaltava più netta tutta la gamma di colori si disponeva in gradazione secondo l'ordine dello spettro solare il rosso dei primi vapori si andava smorzando fino al violetto dello zenith di attimo in attimo la tavolozza rinvigoriva il rosa diventava rosso il rosso diventava fiamma si vedeva sorgere il giorno nel punto di intersezione fra l'arco di luce e l'orizzonte del mare in quel momento lo sguardo di Nell scorreva dalle falde della collina fino alla città nella quale cominciavano a distinguersi diversi quartieri alti monumenti e campanili acuti emergevano qua e là disegnando nettamente i loro profili nello spazio si spandeva una luce cinerea finalmente un primo raggio di sole colpì lo sguardo della ragazza era quel raggio verde che sera e mattina si sprigiona dal mare quando l'orizzonte è puro mezzo minuto dopo Nell si levò in piedi tendendo la mano verso un punto che dominava i quartieri della nuova città un fuoco no Nell non è un fuoco ma semplicemente un tocco dorato del sole sulla cima del monumento di Walter Scott infatti l'estrema punta dell'aguglia alta 60 metri brillava come un faro di primordine era giorno apparve il sole e sembrava ancora umido come se fosse veramente uscito dalle acque del mare da principio allargato dalla rifrazione si ristrinse man mano fino a prendere forma circolare ben presto la sua luce abbagliante diventò insostenibile come se la bocca di fornace si fosse aperta nel cielo Nell dovette chiudere gli occhi quasi subito e appoggiare le dita strettamente chiuse sulle palpebre troppo sottili Harry voleva che si voltasse dalla parte opposta no bisogna che i miei occhi si abituino a vedere quello che vedono i tuoi attraverso i palmi delle sue mani Nell scorgeva ancora una luce rosea che imbiancava man mano che il sole si levava al di sopra dell'orizzonte il suo sguardo a poco a poco si abituava finalmente sollevò le palpebre e i suoi occhi si abituarono a tutta la luce del giorno la pia giovinetta cadde in ginocchio mio dio quanto è bello il vostro mondo poi di nuovo abbassò gli occhi per ammirare il panorama terrestre ai suoi piedi si estendeva a Edimburgo i quartieri nuovi ben allineati della nuova città l'ammasso confuso di case e la bizzarra rete di vie della Old Rikki due alture dominavano l'insieme il castello addossato a una rupe di basalto e Calton Hill con la sua groppa arrotondata sormontata dalle rovine moderne di un monumento greco magnifiche vie fiancheggiate da alberi si dipartivano dalla capitale per inoltrarsi nella campagna a nord un braccio di mare il golfo di Forth si addentrava profondamente nella costa nel punto dove si apriva il porto di Leith al di sopra si stendeva lungo una linea armoniosa il litorale della contea di Fife una strada dritta come quella del Pireo congiungeva al mare quest'Atene del nord verso ovest si vedevano le belle spiagge di New Haven e di Portobello e le loro sabbie tingevano di giallo le prime ondate della risacca in alto mare alcune imbarcazioni animavano le acque del golfo e due o tre steamers lanciavano nel cielo il loro fumo nero più oltre si apriva l'immensa campagna verdeggiante basse colline sorgevano qua e là nella pianura a nord i Lomond Hills a ovest il Ben Lomond e il Ben Lady riflettevano i raggi solari come se ghiacci eterni ne avessero tappezzato le vette Nell non riusciva a parlare le sue labbra mormoravano parole confuse aveva le braccia tremanti e la testa presa da vertigini per un istante le forze l'abbandonarono in quell'aria così pura dinnanzi a uno spettacolo tanto sublime si sentì a un tratto venir meno e cadde priva di sensi fra le braccia di Harry pronte a riceverla ora finalmente dopo un'intera vita trascorsa nelle viscere della terra aveva contemplato gli elementi che formano quasi tutto l'universo come hanno fatto il creatore e l'uomo i suoi sguardi avevano vagato sulla città e sulla campagna ed ora si perdevano per la prima volta sull'immensità del mare e per l'infinito del cielo capitolo 18 dal lago Lomond al lago Catherine Harry seguito da James Tarr e da Jack Ryan ridiscese i pendi dell'Arthur Seat portando Nell sulle braccia dopo alcune ore di riposo una colazione ristoratrice fatta all'Amberst Hotel si pensò di completare il viaggio con una passeggiata nel paese dei laghi Nell aveva recuperato le forze i suoi occhi potevano ormai restare del tutto aperti alla luce e i suoi polmoni si erano abituati a respirare profondamente l'aria vivificante e salubre il verde degli alberi le tinte variate delle piante l'azzurro del cielo avevano mostrato alla sua vista tutta la tavolozza dei colori la comitiva prese il treno dalla General Railway Station diretta a Glasgow quando arrivò dall'ultimo ponte gettato sulla Clyde poteva ammirare lo strano traffico marittimo del fiume poi passò la notte al Comreys Royal Hotel il giorno dopo dalla Edinburgh and Glasgow Railway Station il treno doveva condurla rapidamente passando per Dumbarton e Bullock all'estremità meridionale del lago Lomond è il paese di Rob Roy e di Fergus MacGregor esclamò James Starr il territorio così poeticamente celebrato da Walter Scott conosci questo paese Jack? si attraverso le canzoni signor Starr e quando un paese è stato cantato così bene deve essere superbo infatti lo è e la nostra cara Nell ne conserverà un bellissimo ricordo con una guida come voi signor Starr rispose Harry avremo un doppio vantaggio perché mentre guarderemo il paese voi ci racconterete la sua storia si Harry se la memoria me lo permetterà ma a una condizione che l'allegro Jack mi venga in aiuto quando io sarò stanco di raccontare lui dovrà cantare non sarà necessario dirmelo due volte signor Starr rispose Jack Ryan lanciando una nota acuta come se volesse trovare il là con la linea ferroviaria Glasgow-Ballock fra la metropoli commerciale della Scozia e l'estremità meridionale del lago Lomond non ci sono più di 30 km il treno passò da Dumbarton città reale capoluogo di Contea con un castello sempre fortificato secondo il trattato dell'unione pittorescamente posto sulle due vette di una gran rupe di basalto Dumbarton si trova alla confluenza del Clyde con il Leaven a questo proposito James Starr raccontò alcuni particolari dell'avventurosa storia di Maria Stuarda infatti proprio da questa città la principessa partì per andare a sposare Francesco II e diventare regina di Francia fu lì che dopo il 1815 il ministero inglese meditò di internare Napoleone ma la scelta di Sant'Elena prevalse ed ecco perché il prigioniero dell'Inghilterra andò a morire sopra una roccia dell'Atlantico con grande vantaggio della sua leggendaria memoria poco dopo il treno si fermò a Balloc presso una pescaia di legno che scendeva fino al lago un battello a vapore il Sinclair attendeva i viaggiatori che fanno il giro dei laghi Nell e i suoi compagni presero il biglietto per Inversneid all'estremità nord del lago Lomond e si imbarcarono la giornata incominciava con un sole splendente libera dalle nebbie britanniche che le impregnano normalmente non doveva sfuggire ai viaggiatori nessun particolare di quel paesaggio che si svolgeva per ben 45 chilometri Nell seduta a poppa fra James Tarr e Harry aspirava con tutti i sensi la poesia straordinaria della bella natura scozzese Jack Ryan andava e veniva sul ponte del Sinclair interrogando di continuo l'ingegnere anche se non ce n'era bisogno man mano che il paese di Rob Roy si apriva al suo sguardo egli lo descriveva da ammiratore entusiasta nelle acque del lago Lomond si vedevano numerose piccole isole e isolotti sembrava quasi di trovarsi in un vivaio il Sinclair costeggiava le loro rive scoscese passando fra un'isola e l'altra si disegnavano ora una vallata solitaria ora una gola selvaggia irta di ruppi scoscese sapete signor star che cosa mi ricorda questa parte del lago Lomond che cosa Harry le mille isole del lago Ontario mirabilmente descritte da Cooper anche tu Nell sei probabilmente colpita da questa rassomiglianza perché alcuni giorni fatti ho letto quel romanzo ritenuto giustamente il capolavoro dell'autore americano infatti Harry l'impressione è la stessa il Sinclair si caccia in mezzo le isole proprio come il cutter di Jasper Western sul lago Ontario ebbene questo vuol dire che entrambi i luoghi meritavano di essere cantati da un poeta soggiunse l'ingegnere non conosco le mille isole del lago Ontario Harry ma dubito che possano avere un aspetto più vario di questo arcipelago di Lomond guardate che paesaggio ecco l'isola Murray con il suo vecchio forte di Lennox dove abitò la vecchia duchessa d'Albany dopo la morte del padre dello sposo e anche dei suoi figli decapitati per ordine di Giacomo I osservate l'isola Clar l'isola Crow l'isola Thor alcune sono rocciose selvagge in apparenza senza vegetazione altre invece verdeggianti da una parte crescono betulle e larici dall'altra solamente distese di eriche gialle e disseccate in verità stento a credere che le mille isole del lago Ontario offrono un panorama tanto vario che porto è quello signor Star è Balmaha Nell dove cominciano le Highlands le rovine che vedi sono di un antico convento di donne e quelle tombe sparse racchiudono diversi personaggi della famiglia McGregor nome ancora oggi celebre in tutta la regione celebre per il sangue che questa famiglia ha sparso e fatto spargere signor Star fece osservare Harry hai ragione Harry bisogna ammettere che la celebrità conquistata in battaglia ha sempre una risonanza maggiore i racconti di guerra sopravvivono a lungo e si perpetuano con le canzoni aggiunse Jack Ryan e per avballorare l'affermazione il bravo giovanotto intonò le prime strofe di un vecchio canto di guerra che riferiva alle imprese di Alexander McGregor Nell ascoltava ma questi racconti di combattimenti la rattristavano perché tanto sangue versato su quelle pianure immense dove lo spazio non doveva mancare a nessuno le rive del lago che misurano 5 o 6 chilometri andavano restringendosi presso il piccolo porto di Loss Nell riuscì a scorgere per un attimo la torre dell'antico castello poi il Sinclair si diresse a nord e agli occhi dei viaggiatori apparve il Ben Lomond che si innalza a quasi 900 metri sul livello del lago che magnifica montagna e come deve essere bello osservare il panorama dalla sua vetta sì Nell guarda come si staglia decisa e fiera la vetta sopra quel boschetto di querce betulle e larici che tappezzano le falde del monte dalla cima si vedono i due terzi della nostra vecchia Caledonia da questa parte sulla riva orientale del lago il clan de McGregor risiedeva abitualmente poco più in là le lotte fra i giacobiti e i sostenitori degli un over insanguinarono più di una volta a quelle gole desolate in quel punto durante le notti serene sorge la pallida luna che nei vecchi racconti viene chiamata la lanterna di McFarlane là gli echi ripetono ancora i nomi eterni di Rob Roy e di McGregor Campbell il Ben Lomond ultimo picco della catena dei grampiani merita di essere stato celebrato dal grande romanziere scozzese come fece osservare James Tarr esistono montagne più alte le cui vette sono coperte da nevi eterne ma non ce n'è forse un'altra più poetica in nessuna parte del mondo quando penso che questo Ben Lomond appartiene tutto intero al duca di Mount Rose sua grazia possiede una montagna come un borghese di Londra possiede un'aiuola nel suo giardinetto intanto il Sinclair si avvicinava al villaggio di Tarbet sulla riva opposta del lago qui sbarcarono i viaggiatori diretti e invanari in quell'angolo del lago il Ben Lomond appariva in tutta la sua bellezza i suoi fianchi solcati dal letto dei torrenti scintillavano come lastre di argento fuso man mano che il Sinclair rasentava le falde della montagna il paesaggio diventava sempre più scosceso qua e là sorgevano alberi isolati fra i quali alcuni salici che un tempo servivano per impiccare la gente di bassa condizione per fare economia di canapa fece osservare James Tarr il lago si restringeva allungandosi verso nord le montagne laterali lo chiudevano sempre più strettamente il battello rasentò ancora qualche isola isolotto in Veruglas e Eilidhu dove sorgevano i resti di una fortezza che apparteneva a McFarlane finalmente le rive si ricongiunsero ed il Sinclair si arrestò alla stazione di Inverslade mentre si preparava il pranzo Nell e i suoi compagni andarono a vedere presso l'imbarcadero un torrente che si precipitava nel lago da grande altezza sembrava messo apposta in quel punto per attirare l'attenzione dei turisti un ponte tremante saltava al di sopra delle acque tumultuose in mezzo a un liquido polverio con lo sguardo da lì si abbracciava gran parte del Lomond e il Sinclair pareva soltanto un punto sulla superficie del lago dopo pranzo la comitiva doveva recarsi al lago Catherine molte carrozze con le armi della famiglia Bradlebane la stessa che in altri tempi assicurava la legna e l'acqua al fuggitivo Rob Roy erano a disposizione dei viaggiatori e offrivano loro tutte le comodità che contraddistinguono le carrozze inglesi Harry fece accomodare Nell sull'imperiale allora di gran moda poi prese posto accanto a lei insieme agli altri compagni un magnifico cocchiere in livrea rossa prese nella sinistra le redini dei quattro cavalli e l'equipaggio cominciò ad arrampicarsi sui fianchi della montagna costeggiando il letto sinuoso del torrente la via era molto scoscesa man mano che si saliva la forma delle vette circostanti sembrava modificarsi si vedeva grandeggiare superbamente tutta la catena della riva opposta del lago e le vette dell'Arroquar che dominavano la valle di Inveruglas a sinistra sorgeva il ben Lomond che scopriva bruscamente il suo fianco settentrionale scosceso il paesaggio fra il lago Lomond e il lago Catherine offriva un aspetto selvaggio la vallata cominciava con gole strette che mettevano capo al Glen di Aberfoyle questo nome ricordò dolorosamente alla giovinetta quegli abissi pieni di spavento dove aveva trascorso la sua infanzia perciò James Starr si affrettò a distrarla con nuovi racconti la regione del resto si prestava bene a questo sulle sponde del piccolo lago di Ard si compirono i principali avvenimenti della vita di Rob Roy vi sorgevano rocce calcari di aspetto sinistro fra miste a sassi che l'azione del tempo e dell'atmosfera aveva indurito come cemento miserabili capanne simili a tane dette borrocks giacevano in mezzo a ovili in rovina non si sarebbe potuto dire se fossero abitate da creature umane o da animali selvaggi alcuni bimbi dai capelli scolorati per le intemperie del clima guardavano passare la carrozza con grandi occhi sbigottiti ecco questo è precisamente il paese di Rob Roy qui il bravo sindaco Nicole Jervie degno figlio di suo padre il diacono fu colto dalle truppe del conte di Lennox in quel punto rimase sospeso per il fondo dei calzoni fortunatamente fatti di un buon panno di Scozia e non di leggera stoffa francese vicino alle sorgenti del fort che alimentano i torrenti del Ben Lomond si vede ancora il guado che l'eroe valicò per fuggire ai soldati del duca di Montrose ah se avesse conosciuto i tenebrosi recessi delle nostre miniere avrebbe luso qualsiasi ricerca vedete amici non si può fare un passo in questa contrada meravigliosa per tante ragioni senza incontrare ricordi del passato che già ispirarono Walter Scott nella sua parafrasi in magnifiche strofe della chiamata alle armi del clan dei McGregor ben detto signor star ma se è vero che Nicole Jarvie restò sospeso per il fondo dei calzoni che senso ha il proverbio furbo colui che potrà prendere i calzoni di uno scozzese in verità hai ragione Jack questo prova semplicemente che quel giorno il nostro sindaco non era vestito alla moda dei suoi antenati ha avuto torto signor star e io ne convengo Jack la carrozza superata le rive scoscese del torrente ridiscese in una valle senza alberi e senza acqua ricoperto unicamente da eriche striminzite in alcuni punti si vedevano mucchi di pietre a forma di piramide sono Cairn ogni passante in altri tempi doveva portarvi una pietra per onorare la memoria degli eroi che dormono sotto queste tombe perciò si è tramandato il vecchio proverbio gaelico disgraziato colui che passa davanti a un Cairn senza deporre la pietra dell'ultimo saluto se i figli avessero conservata la fede dei padri questi cumuli di pietre sarebbero ora colline in verità in questa regione tutto sembra favorire la poesia innata nel cuore dei montanari l'immaginazione si eccita davanti a tante meraviglie naturali se i greci avessero abitato un paese di pianura non avrebbero mai inventata la mitologia antica fra un discorso e l'altro la carrozza si addentrava nelle gole di una valle stretta che sarebbe stata molto propizia agli scherzi degli spiritelli familiari della grande Meg Merillis oltre passato sulla sinistra il piccolo lago di Arklet si aprì una strada ripida che conduceva ad un albergo sulla riva del lago Katrin all'estremità di una pescaia si dondolava un piccolo steambot che portava naturalmente il nome di Rob Roy i viaggiatori si imbarcarono subito e subito partirono il lago Katrin non misura in lunghezza più di 15 km e ha una larghezza di non superiore ai 3 km le prime colline del litorale appaiono grandiose ecco finalmente questo lago fu giustamente paragonato a una lunga anguilla si dice che non geli mai io non ne so nulla ma è certo che fu teatro delle imprese della dama del lago se il nostro amico Jack guardasse bene vedrebbe ancora scivolare sulla superficie delle acque l'ombra leggera della bella Elena Douglas sicuro signor star e perché non dovrei vederla credete forse che non sia possibile vedere questa leggiadra donna sul lago Katrin come si scorgono gli spiritelli della miniera sulle acque del lago Malcolm in quel momento il suono distinto di una cornamusa si fece udire a poppa del Rob Roy un Highlander in costume nazionale intonava una canzone sul suo bagpipe a tre bordoni il più grosso dei quali suonava il sol il secondo il si e il più piccolo l'ottava di quello grosso quanto alla zampogna con otto buchi dava una scala di sol maggiore con il fa naturale il ritornello dell'Highlander era un motivo semplice dolce e ingenuo sembra quasi che queste melodie nazionali non siano state composte da nessuno ma risultino da un miscuglio naturale fra il soffio della brezza il mormorio delle acque e lo stormire delle foglie la melodia del ritornello ripetuto a intervalli regolari era bizzarra aveva una frase composta di tre battute a due tempi e di una battuta a tre tempi che terminava sul punto debole jack ryan ascoltandola parve a loro un uomo felice era quella una canzone dei laghi scozzesi che conosceva bene e mentre l'highlander lo accompagnava sulla corna musa cantò con voce sonora un inno consacrato alle poetiche leggende della vecchia caledonia che tradotto in prosa diceva bei laghi dalle onde assopite serbate per sempre le vostre leggiadre leggende bei laghi scozzesi sulle vostre sponde si trova la traccia di quegli eroi tanto rimpianti e di quei discendenti di nobile razza che il nostro Walter ha cantati ecco la torre da dove le streghe preparavano i loro pasti frugali i vasti campi di eriche da dove appare l'ombra di fingal qui passano nelle notti oscure le danze sfrenate dei folletti là a sinistre appaiono nell'ombra le facce dei vecchi puritani e fra le rupi selvagge alla sera si può ancora sorprendere Waverly mentre trascina verso le nostre rive Flora McIvor la dama del lago viene a vagare sul suo palafreno e Diana poco discosta ascolta risonare il corno di Rob Roy non si è forse sentito poco fa Fergus in mezzo ai suoi clan intonare il canto di guerra e svegliare l'eco delle Highlands per quanto lontani da voi o laghi poetici il destino guidi i nostri passi burroni rocce grotte antiche i nostri occhi non vi dimenticheranno mai o visione troppo rapidamente svanita perché non puoi tornare a noi a te vecchia Caledonia a te il nostro ricordo beh i laghi dalle onde assopite serbate per sempre le vostre leggiadre leggende bei laghi scozzesi e così finiva la canzone di Jack Ryan erano le tre del pomeriggio le sponde occidentali del lago Catherine meno frastagliate delle altre si staccavano allora nella doppia cornice del Ben En e del Ben Venue a meno di un chilometro si disegnava lo stretto bacino dove il Rob Roy doveva sbarcare i viaggiatori che si recavano Sterling per Callender Nell sembrava spossata dalla tensione continua del suo spirito una sola parola le sfuggiva sulle labbra mio Dio mio Dio ogni volta che le si offriva alla vista qualche nuovo aspetto della natura degno di ammirazione sentiva il bisogno di riposare non fosse altro per fissare in modo durevole il ricordo di tante meraviglie in quel momento Harry le prese la mano la guardò commosso e disse Nell mia cara Nell fra poco saremo rientrati nella nostra buia città non rimpiangerai nulla di quanto hai veduto in queste poche ore passata alla luce del giorno no Harry io mi ricorderò tutto ma tornerò felice con te nella nostra amata miniera Nell vuoi che un legame sacro ci unisca per sempre davanti a Dio e davanti agli uomini vuoi essere mia sposa sì Harry se credi che io possa bastare alla tua vita rispose Nell guardandolo con i suoi occhi puri Nell non aveva terminato la frase che racchiudeva tutto l'avvenire di Harry quando però avvenne un fenomeno inesplicabile il Rob Roy a mezzo chilometro dalla riva subì una brusca scossa la chiglia aveva urtato il fondo del lago e la macchina nonostante gli sforzi non riuscì a staccarlo l'incidente era accaduto perché nella parte orientale il lago Catrin si era svuotato improvvisamente come se un'immensa fessura si fosse aperta sul fondo in pochi secondi apparve disseccato come un litorale nella fase più bassa di una marea di equinozio quasi tutta l'acqua del lago era scomparsa attraverso le viscere del suolo amici miei Dio salvi la nuova Berfoil esclamò James Tarr come se improvvisamente avesse compreso la causa di quel fenomeno capitolo 19 ultima minaccia quel giorno nella nuova Berfoil i lavori procedevano regolarmente si udiva da lontano il rumore delle scariche di dinamite che facevano saltare i filoni carboniferi da una parte i colpi di piccone facevano franare il carbone dall'altra le perforatrici con scricchi olio continuo foravano l'arenaria o lo schisto si udivano lunghi suoni cavernosi l'aria aspirata dalle macchine sfuggiva attraverso le gallerie di aerazione le porte di legno si chiudevano bruscamente sotto quelle spinte impetuose nelle gallerie inferiori i treni i vagoncini azionati meccanicamente passavano a una velocità di oltre 20 km all'ora e i campanelli automatici avvertivano gli operai di rannicchiarsi nei rifugi le gabbie salivano e scendevano senza tregua tirate dagli enormi i tamburi delle macchine disposte alla superficie del suolo i dischi elettrici illuminavano a giorno coal city l'attività della miniera proseguiva senza un attimo di tregua il filone passava nei vagoncini che a centinaia andavano vuotarsi in altre benne in fondo ai pozzi di estrazione una parte dei minatori addetta ai lavori notturni si riposava mentre le squadre dei lavori diurni lavoravano senza perdere un attimo Simon Ford e Mudge terminato il loro pranzo si erano accomodati nel cortile del cottage il vecchio Overman si godeva come al solito la siesta fumando la sua pipa colma di eccellente tabacco francese quando i due coniugi discutevano era per parlare di Neil del loro figliolo di James Tarr e del viaggio alla superficie della terra dove erano in quel momento che cosa facevano come mai potevano rimanere fuori per tanto tempo senza provare nostalgia della miniera proprio allora però si udì un boato di una violenza straordinaria pareva quasi che un'enorme cateratta precipitasse nella miniera Simon Ford e Mudge si alzarono di scatto e dopo un attimo le acque del lago Malcom si gonfiarono e un'ondata gigantesca invase la riva e si infranse contro i muri del cottage Simon Ford aveva afferrato Mudge per tempo trascinandola rapidamente al primo piano dell'abitazione nel medesimo tempo si levavano grida da ogni parte di Cole City minacciata da quell'improvvisa inondazione gli abitanti cercavano rifugio sulle alti rupi schistose che formavano il litorale del lago il terrore era il colmo già alcune famiglie di minatori mezzo impazzite si precipitavano verso la galleria per spingersi ai piani superiori sembrava quasi che il mare avesse fatto irruzione nella miniera e che le gallerie sprofondassero fin sotto il canale del nord la cripta per quanto ampia si sarebbe ben presto allagata del tutto non uno degli abitanti della nuova Berfoil l'avrebbe scampata ma quando ormai i primi fuggitivi giungevano all'imbocco della galleria si trovarono di fronte Simon Ford anche lui appena scappato dal cottage fermatevi fermatevi amici se la nostra città dovesse essere sommersa l'inondazione avanzerebbe più presto di voi e nessuno riuscirebbe a fuggire ma le acque non si alzano più ogni pericolo sembra cessato e i nostri compagni occupati nei lavori del fondo non c'è nulla da temere per loro i lavori si fanno a un piano superiore rispetto al fondo del lago i fatti dovevano dar ragione al vecchio Overman l'inondazione era avvenuta all'improvviso ma essendosi in parte riversata al piano inferiore della vasta miniera aveva semplicemente alzato di qualche metro il livello del lago Malcom Cole City non era minacciata e si poteva sperare che l'inondazione trascinata nelle più basse profondità della miniera non ancora aperta al traffico non avrebbe fatto nessuna vittima sulle cause del fenomeno né Simon Ford né i suoi compagni erano in grado di pronunciarsi poteva essere dovuto al cedimento di una falda interna attraverso spaccature naturali della roccia oppure a qualche corso d'acqua esterno che era precipitato dal suo letto franato fino agli ultimi piani della miniera d'altra parte nessuno metteva in dubbio che si trattasse di un semplice incidente come talvolta capita nelle miniere di carbone ma la sera stessa si sapeva che cosa pensare i giornali della contea davano notizia di quello strano fenomeno accaduto sul lago Catherine Nell Harry James Tarr e Jack Ryan tornati in gran fretta al cottage confermavano quelle notizie e apprendevano con soddisfazione che nella nuova Bare Foil tutto si limitava a pochi guasti materiali il letto del lago Catherine era dunque franato all'improvviso e le sue acque si erano riversate attraverso una larga fessura fino alla miniera al lago favorito dal romanziere scozzese non rimaneva acqua abbastanza da bagnare i bei piedini della dama del lago almeno nella parte meridionale nel punto più basso dove era avvenuta la frana non si vedeva altro che uno stagno di pochi chilometri questo strano avvenimento suscitò un gran chiasso era la prima volta senza dubbio che un lago fosse assorbito in pochi istanti nelle viscere del suolo non restava ormai che cancellarlo dalle carte del regno unito finché non lo avessero colmato di nuovo per sottoscrizione pubblica dopo aver turato la fessura Walter Scott sarebbe morto di disperazione se fosse stato ancora di questo mondo alla fin fine il fenomeno era spiegabile fra la cavità profonda del sottosuolo e il letto del lago i terreni secondari si riducevano uno strato sottile per la particolare disposizione geologica del masso ma se la frana pareva dovuta a una causa naturale James Starr Simon e Henry Ford si domandarono se non fosse invece da attribuire alla malevolenza di qualcuno i sospetti erano riaffiorati alle loro menti più vive che mai il genio malefico stava dunque ricominciando le sue imprese alcuni giorni dopo James Starr ne parlava al cottage con il vecchio Overman e con suo figlio Simon anche se il fatto si spiega da sé ho il presentimento che rientri nella categoria di quelli accaduti tanto tempo fa e tuttora inesplicabili la penso come voi signor James ma conviene non far chiasso e condurre noi stessi l'inchiesta oh io so già come andrà a finire e cioè troveremo prove di ostilità nei nostri confronti ma non il malfattore eppure esiste signor Starr ma dove si nasconde è possibile che un solo individuo per quanto perverso possa attuare un'idea tanto infernale come quella di far traboccare un lago prima o poi finirò con il credere insieme con Jack Ryan che si tratti di qualche genio della miniera offeso con noi perché abbiamo invaso il suo dominio naturalmente Nell per quanto possibile era tenuta in disparte da questi conciliaboli lei stessa del resto si comportava in modo da giustificare il desiderio di non lasciarle sospettare nulla ma era evidente che la fanciulla condivideva le inquietudini della sua famiglia adottiva il suo viso rattristato portava i segni delle lotte che la agitavano dentro in ogni modo si decise che James Starr Simon e Henry Ford sarebbero tornati sul luogo della frana per rendersi esattamente conto delle cause non parlarono a nessuno del loro progetto per chi non conoscesse l'insieme dei fatti sui quali essi si basavano l'opinione di James Starr dei suoi amici poteva sembrare assolutamente inammissibile alcuni giorni dopo tutte e tre presero un'imbarcazione leggera manovrata da Henry e andarono esaminare i pilastri naturali che sostenevano la parte della roccia sottostante al lago Catherine il sopralluogo diede loro ragione i pilastri erano stati attaccati a colpi di mina le tracce annerite si vedevano ancora perché le acque si erano abbassate in seguito a infiltrazioni negli strati inferiori e si poteva controllare fino alla base della costruzione il crollo di una parte delle volte era stato premeditato e poi eseguito per mano di un uomo non c'è dubbio e chissà che cosa sarebbe accaduto se invece di questo piccolo lago la frana avesse aperto il passaggio alle acque di un mare si signor Starr sarebbe bastato molto meno di un mare per sommergere la nostra Berfoil ma mi domando ancora una volta che interesse può avere un qualunque individuo per ostacolare la nostra attività non lo capisco nemmeno io non può essere semplicemente una banda di volgari malfattori che escono dal loro rifugio per saccheggiare e rubare con i loro crimini in tre anni si sarebbero scoperti e non si tratta neppure come qualche volta ho pensato di contrabbandieri o di falsari che nascondono in qualche angolo remoto di questa immensa caverna la loro industria fuori legge e che perciò abbiano interesse a mandarci via non si fabbricano denari falsi e neppure si fa il contrabbando per conservare la merce è chiaro peraltro che un nemico implacabile vuole a ogni costo la rovina della nuova Berfoil spinto da un suo preciso interesse egli cerca con tutti i mezzi possibili di saziare l'odio che ci ha consacrato troppo debole per agire apertamente prepara i suoi tranelli nell'ombra dimostrando tuttavia un'intelligenza formidabile amici miei quell'uomo possiede meglio di tutti noi segreti del sottosuolo che abitiamo perché da tempo ormai fugge alle nostre ricerche è un uomo del mestiere sicuramente Simon ciò che abbiamo veduto ora lo conferma vediamo non avete mai avuto qualche nemico personale sul quale possano ricadere i vostri sospetti pensateci bene ci sono monomanie di odio che non si spengono col tempo risalite quanto vi è possibile nella vostra vita passata quello che accade sembra la manifestazione di una pazzia fredda e paziente cercate fra i vostri ricordi più lontani Simon Ford non rispose si vedeva che l'onesto overman prima di esprimere sospetti interrogava candidamente tutto il suo passato finalmente rialzando il capo disse no davanti a dio né mage né io abbiamo mai fatto male a nessuno credo che non potremmo avere un solo nemico ah se Nell si decidesse a parlare Simon signor star e tu papà vi supplico serviamo ancora per noi il segreto della nostra inchiesta non interrogate Nell la vedo già tanto ansiosa e spaventata sono certo che trattiene a stento un segreto che la soffoca se tace è perché non ha niente da dire oppure perché non ritiene opportuno parlare non possiamo dubitare del suo affetto per tutti noi più tardi se mi confiderà il suo segreto lo saprete subito va bene Henry ma questo silenzio se Nell sa qualcosa è davvero inesplicabile e poiché Harry stava per ribattere ma sta tranquillo Harry non diremo nulla alla tua futura moglie che sarebbe già mia moglie se tu papà lo volessi Harry caro entro un mese ti giuro che sarai sposato siete disposto a rappresentare il padre di Nell voi signor James contate su di me Simon James star e i suoi due compagni tornarono al cottage non fiatarono con nessuno dei risultati della loro esplorazione e gli abitanti della miniera continuarono a credere che la frana delle volte fosse dovuta a un semplice incidente tutto si risolveva con un lago di meno in Scozia Nell aveva ripreso a poco a poco le sue occupazioni abituali della sua visita all'esterno aveva conservato ricordi indelebili di cui Harry si serviva per i suoi insegnamenti ma l'aver conosciuto la vita al di fuori non suscitava in lei nessun rammarico Nell amava come prima il tenebroso dominio dove avrebbe continuato a vivere da donna dopo averci passato la fanciullezza e la gioventù frattanto il matrimonio così prossimo di Harry Ford e di Nell aveva fatto un gran rumore nella nuova Berfoil i complimenti affluirono al cottage Jack Ryan non fu l'ultimo a fare i suoi da tempo lo si sorprendeva a studiare le sue canzoni migliori per una festa alla quale tutta la popolazione di Call City doveva prendere parte ma proprio durante il mese precedente al matrimonio la nuova Berfoil fu più provata che mai si sarebbe detto che l'avvicinarsi delle nozze fra Nell e Harry provocasse catastrofi sopra catastrofi gli incidenti avvenivano soprattutto nei lavori del fondo senza che si riuscisse a stabilire le reali cause un giorno scoppiò un incendio che distrusse il legname di una galleria inferiore e si trovò la lampada usata dall'incendiario Harry e i suoi compagni dovettero rischiare la vita per arrestare il fuoco che minacciava di distruggere i giacimenti e non vi riuscirono se non adoperando gli estintori con acqua carica ad acido carbonico di cui la miniera era prudentemente fornita un'altra volta si ebbe una frana dovuta alla rottura dei puntelli di un pozzo e James Starr notò che questi erano stati prima intaccati con la sega Harry che sorvegliava i lavori in quel punto rimase sotto le macerie e sfuggì solo per miracolo alla morte alcuni giorni dopo sul tramo e a trazione meccanica il treno di piccoli vagoni sul quale Harry era montato urtò contro un ostacolo e fu rovesciato più tardi si scoprì che qualcuno aveva messo una trave di traverso sulla linea insomma questi fatti si moltiplicarono a tal punto che una specie di timor panico si diffuse fra i minatori per trattenerli sul posto di lavoro bisognava che fossero presenti i loro capi ma allora sono un'intera banda questi malfattori e non riusciamo a prenderne neppure uno ripeteva Simon Ford le ricerche ricominciarono la polizia della contea si mise in moto notte e giorno ma non arrivò a scoprire nulla James Starr proibì a Harry contro il quale sembravano accanirsi le ostilità di arrischiarsi ad allontanarsi da solo dal posto di lavoro le stesse precauzioni furono prese per Nell che per desiderio di Harry veniva tenuta all'oscuro di tutti questi tentativi criminosi perché potevano ricordarle il suo passato Simon Ford e Mudge la controllavano continuamente quasi con severità o meglio con inquietudine costante la povera ragazza lo capiva bene ma non ne parlava mai non si lasciava sfuggire un solo lamento pensava forse che se si comportavano in quel modo lo facevano nel suo interesse è probabile eppure lei stessa sembrava vegliare sugli altri e non si mostrava tranquilla se tutti coloro che amava non erano rientrati al cottage la sera quando Harry ritornava non poteva trattenere un impeto di gioia pazza poco compatibile con la sua natura di solito più riservata che espansiva il mattino era in piedi prima di qualsiasi altro la sua inquietudine riprendeva l'ora in cui gli uomini partivano per i lavori del fondo Harry avrebbe voluto per ridarle tranquillità che il loro matrimonio fosse fatto compiuto gli pareva che di fronte a questo atto irrevocabile qualsia ossistilità sarebbe risultata inutile e disarmata e che Nell non si sarebbe sentita al sicuro se non quando fosse diventata sua moglie questa impazienza era dal resto condivisa da James Star come da Simon Ford e anche da Mudge ciascuno contava i giorni in realtà tutti si sentivano oppressi dai più sinistri presentimenti quel nemico nascosto che non si sapeva dove prendere e dove combattere evidentemente non era indifferente a nulla di ciò che riguardava Nell l'atto solenne del matrimonio di Harry e della giovinetta poteva essere occasione di nuovi tranelli tramati dal suo odio una mattina otto giorni prima della cerimonia Nell fu spinta da qualche sinistro presentimento ad uscire per prima dal cottage per vedere che cosa succedeva nelle vicinanze giunta alla soglia le sfuggì dalle labbra un grido di angoscia indicibile questo grido e cheggiò per tutta l'abitazione e in un attimo Mudge Simon e Harry accorsero presso la ragazza Nell era pallida come la morte con il viso sconvolto e lineamenti tesi da uno spavento inesprimibile incapace di parlare teneva lo sguardo fisso sulla porta aperta del cottage la sua mano contratta indicava alcune righe probabilmente scritte durante la notte che la riempivano di terrore Simon Simon Ford tu mi hai rubato l'ultimo filone delle nostre vecchie miniere Harry tuo figlio mi ha rubato Nell guai a voi guai a tutti guai alla nuova Berfoil Silfax Silfax esclamarono insieme Simon e Madge chi è quest'uomo Silfax Silfax ripeteva Nell disperatamente e tutto il suo essere tremava mormorando questo nome mentre Madge la prendeva per un braccio e la riconduceva quasi a forza in camera sua James Star accorso immediatamente lesse e rilesse la frase minacciosa la mano che ha tracciato queste righe è la stessa che mi ha scritto una lettera per contraddire le vostre affermazioni Simon quest'uomo si chiama Silfax e mi pare di capire dal vostro turbamento che voi lo conoscete chi è Silfax Simon capitolo 20 il penitente il nome di Silfax fu una rivelazione per il vecchio Overman era quello dell'ultimo penitente della fossa Dockard un tempo prima dell'invenzione della lampada di sicurezza Simon Ford aveva conosciuto quest'uomo truce che a rischio della vita andava ogni giorno a provocare esplosioni parziali di gas aveva visto questa creatura strana vagare per la miniera accompagnata da un enorme Harfang una specie di civetta mostruosa che l'aiutava nel suo pericoloso mestiere portando lo stoppino acceso dove la mano di Silfax non poteva arrivare un giorno il vecchio era scomparso e insieme con lui anche una piccola orfanella nata dalla miniera che non aveva altro parente all'infuori di lui suo bisnonno la fanciulla evidentemente era Nell per 15 anni entrambi avevano vissuto in qualche segreto abisso fino al giorno in cui Nell fu salvata da Harry il vecchio overman preda un sentimento di pietà e di collera insieme comunicò all'ingegnere e a suo figlio quanto gli avesse ricordato il nome di Silfax tutto era chiaro finalmente Silfax era l'essere misterioso che avevano cercato in vano nelle profondità della nuova Berfoil dunque voi lo avete conosciuto Simon si l'uomo dell'Arfang già allora non era più giovane doveva avere 15 o 20 anni più di me era una specie di selvaggio che non parlava con nessuno e si diceva che non temesse né l'acqua né il fuoco per puro capriccio aveva scelto il mestiere del penitente che pochi amavano e questa pericolosa professione aveva turbato le sue idee la gente lo giudicava cattivo ma forse era soltanto pazzo aveva una forza prodigiosa e conosceva la miniera meglio di chiunque altro almeno quanto me gli si attribuiva una certa giatezza a dire il vero lo credevo morto da molti anni ma che cosa intende dire con queste parole Simon tu mi hai rubato l'ultimo filone delle nostre vecchie miniere ah ecco un tempo James Silfax che come vi ho detto aveva il cervello sconvolto pretendeva di avere diritti sull'antica Berfoil perciò il suo amore diventava sempre più nero a mano a mano che la fossa Docart la sua fossa egli diceva si esauriva quasi che ogni colpo di piccone gli strappasse dal corpo le sue stesse viscere tu te ne ricordi Madge si Simon rispose la moglie sono tutte cose che ricordo solo ora da quando ho visto il nome di Silfax scritto sulla porta ma ripeto io lo credevo morto non avrei mai immaginato che il malvagio individuo da noi tanto cercato fosse l'antico penitente della fossa Docart così tutto si spiega per caso Silfax ha scoperto l'esistenza del nuovo giacimento e nel suo egoismo di pazzo ha deciso di difenderlo ad ogni costo vivendo nella miniera percorrendo la notte e giorno avrà scoperto il vostro segreto Simon e saputo che mi chiamavate in gran fretta al cottage ecco la ragione di quella lettera che contraddiceva la vostra fu lui a lanciare contro Harry quel sasso dopo il mio arrivo e ancora lui a distruggere le scale del pozzo Yarrow per questo le fessure nella parete del nuovo giacimento erano otturate e più tardi rimanemmo prigionieri nella nuova miniera la nostra liberazione finalmente si spiega con l'intervento della pietosa Nell certamente all'insaputa o malgrado Silfax sì i fatti devono essersi svolti proprio così signor James il vecchio penitente deve essere completamente pazzo ormai meglio così disse Madge non lo so signora perché nella sua pazzia c'è qualcosa di terribile soggiunse James scrollando il capo capisco come Nell possa non pensare a lui senza terrore e comprendo anche che la poverina non abbia voluto denunciare il suo bisnonno che anni tristi deve aver passato accanto a quel vecchio tristissimi James fra quel selvaggio e il suo Harfang non meno selvaggio di lui perché sicuramente non è morto quell'uccello soltanto lui può aver spento la nostra lampada e quasi spezzato la corda alla quale erano soffesi Harry e Nell ora capisco come la notizia del matrimonio di sua nipote con nostro figlio possa aver esasperato il rancore e raddoppiato l'ira di Silfax disse Madge il matrimonio di Nell con il figlio di colui che gli ha rubato l'ultimo giacimento di Aberfoyle non può che averlo spinto al colmo dell'irritazione riprese Simon eppure dovrà rassegnarsi papà per quanto sia estraneo alla vita comune finirà col riconoscere che la nuova esistenza di Nell è migliore di quella da lei trascorsa finora negli abissi della miniera sono sicuro signor star che se riuscissimo ad acciuffarlo arriveremo a fargli intendere ragione esclamò Harry non si ragiona con un pazzo mio caro Harry senza dubbio conviene conoscere il proprio nemico piuttosto che ignorarlo ma non basta sapere chi sia teniamoci in guardia amici miei e per prima cosa Harry bisogna interrogare Nell è necessario la ragazza comprenderà che ormai il suo silenzio non può avere nessuna ragione nell'interesse stesso del suo bisnonno bisogna che parli è importante per lui come per noi riuscire a stroncare quei suoi ultimi piani sinistri sono sicuro signor star che Nell risponderà spontaneamente alle vostre domande ormai lo sapete è per coscienza e per dovere che ha taciuto finora ed è per dovere e per coscienza che parlerà quando vorrete mia madre ha fatto bene a ricondurla in camera sua aveva bisogno di riprendersi ma adesso vado io stesso a chiamarla è inutile Harry disse Nell arrivando Nell era pallida i suoi occhi dicevano quanto avesse pianto ma appariva risoluta a compiere un dovere che la lealtà allora le imponeva Nell Harry tuo padre tua madre tu stesso oggi dovete sapere tutto anche voi signor star non dovete ignorare chi sia la creatura che avete accolto senza neppure conoscere e che Harry per la sua disgrazia ha liberato dagli abissi Nell lasciala parlare Harry io sono la nipote del vecchio Silfax non ho mai conosciuto madre se non il giorno in cui sono entrata qui aggiunse guardando Mag e sia benedetto quel giorno figliola mia rispose la vecchia scozzese non ho mai conosciuto padre se non il giorno in cui ho conosciuto Simon Ford né un amico se non quando Harry ha stretto la mia mano sola ho vissuto quindici anni negli angoli più riposti della miniera con il mio bisnonno con lui è forse un'esagerazione questa sarebbe più giusto il dire per lui lo vedevo appena quando il vecchio sparì dall'antica Berfoil si rifugiò negli abissi profondi che solo lui conosceva a modo suo egli era buono con me allora nonostante mi facesse paura mi nutriva con ciò che andava a cercare al di fuori ricordo vagamente che nei primi anni di vita ebbi una capra per nutrice e quando morì ne soffri molto il nonno vedendomi così addolorata la sostituì dapprima con un altro animale un cane come disse lui disgraziatamente il cane era allegro abbagliava sempre e il nonno non amava l'allegria e odiava il chiasso a me era riuscito a insegnare il silenzio ma al cane no il povero animale scomparve quasi subito il nonno aveva un per compagno un uccello selvaggio un harfang che nei primi tempi mi faceva orrore eppure l'animale nonostante la repulsione che mi ispirava mi prese ad amare tanto che finì con l'amarlo anch'io era giunto al punto di obbedirmi più che al suo padrone e questo mi dispiaceva per lui il nonno era molto geloso l'arfang e io quando si poteva si stava volentieri insieme ma ci nascondevamo avevamo compreso che era necessario ma ho parlato abbastanza di me ora è di voi che si tratta no figlia mia rispose James Starr di le cose come ti vengono in mente mio nonno signor Starr aveva sempre veduto di malocchio la vostra presenza nella miniera in verità lo spazio non mancava inoltre i suoi rifugi li sceglieva sempre lontano molto lontano da voi tuttavia gli dispiaceva di sapervi qua quando lo interrogavo sulla gente di lassù il suo viso si oscurava non rispondeva e diventava muto per un pezzo ma un giorno la sua collera scoppiò si era accorto che non contenti del vecchio dominio voi avevate intenzione di penetrare nel suo giurò allora che se riuscivate a penetrare nella nuova miniera che solo lui conosceva fino a quel momento dovevate morire nonostante la sua età aveva ancora una forza straordinaria e le sue minacce mi fecero tremare per voi e per lui continua Nell disse Simon alla ragazza che si era interrotta come per collegare meglio i suoi ricordi dopo il vostro primo tentativo quando per la prima volta entraste nella galleria della nuova Berfoil mio nonno ne turò l'apertura per imprigionarvi io vi conoscevo solo come ombre vagamente intraviste nell'oscurità della miniera ma non potei sopportare l'idea che cristiani dovessero morire di fame in quegli abissi e a rischio di essere colta sul fatto riuscì a procurarvi per alcuni giorni un po' di acqua e di pane avrei voluto guidarvi fuori ma era così difficile ingannare la vigilanza del vecchio voi stavate per morire Jack Ryan e i suoi compagni arrivarono Dio ha permesso che io li incontrassi quel giorno li guidai fino a voi al ritorno però mio nonno mi sorprese la sua collera contro di me fu terribile pensai che mi avrebbe uccisa da allora la mia vita diventò insopportabile la mente di mio nonno si smarriva ogni giorno di più si proclamava il re dell'ombra e del fuoco quando sentiva battere i vostri picconi contro i filoni che considerava suoi diventava furioso e mi picchiava con ira decisi di fuggire fu impossibile tanto mi custodiva gelosamente finalmente tre mesi fa in un accesso di follia mi calò nell'abisso dove voi mi avete trovata e sparì dopo aver chiamato in vano l'Arfang che restò fedele accanto a me quanto tempo rimasi in quel luogo lo ignoro so solamente che mi sentivo morire quando tu Harry sei arrivato e mi hai salvata ma come vedi la nipote del vecchio Silfax non può essere la moglie di Harry Ford perché ne andrebbe della tua e della vostra vita Nell no no Harry la mia rinuncia è ormai decisa c'è solo un mezzo per scongiurare la vostra perdita ed è che io ritorni da mio nonno le sue minacce coinvolgono tutta la nuova Berfoil è un'anima incapace di perdonare e nessuno sa che cosa potrebbe ispirargli il genio della vendetta non c'è dubbio su quello che devo fare sarei la più miserabile delle creature se esitassi a compiere il mio dovere addio e grazie voi mi avete fatto conoscere la felicità di questo mondo qualunque cosa accada pensate che il mio cuore resterà tutto intero in mezzo a voi a queste parole Simon Ford Mudge Harry si alzarono in piedi disperati James Tarr li trattenne con un gesto autorevole poi si avvicinò a Nell e le prese le mani bene fanciulla mia tu ci hai parlato del tuo dovere ma ora tocca a noi risponderti noi non ti lasceremo mai partire se sarà necessario e ti tratterremo con la forza pensi forse che potremmo accettare la tua generosa offerta le minacce di Silfax sono tremende d'accordo ma dopo tutto un uomo non è che un uomo e noi prenderemo le nostre precauzioni intanto non potresti informarci nell'interesse dello stesso Silfax sulle sue abitudini dirci dove si nasconde vogliamo solamente una cosa metterlo nell'impossibilità di nuocere e se possibile ricondurlo alla ragione voi volete l'impossibile signor Star mio nonno è dappertutto in nessun luogo non ho mai conosciuto i suoi rifugi non l'ho mai visto addormentato appena aveva trovato qualche rifugio mi lasciava sola e spariva quando presi la mia decisione signor Star sapevo che cosa mi avreste risposto c'è soltanto un modo per disarmare mio nonno ed è che io riesca a raggiungerlo è invisibile lui ma vede tutto come si spiega che ha scoperto i vostri più segreti pensieri ed è la stessa lettera scritta al signor Star fino al progetto del mio matrimonio con Harry se non avesse misteriosamente la facoltà di sapere tutto mio nonno secondo me nella sua stessa follia è un uomo geniale certe volte mi diceva grandi cose mi insegnava a conoscere Dio e non mi ha mai ingannata se non su un punto cioè nel farmi credere che tutti gli uomini erano perfidi e nel volermi ispirare il suo odio contro tutta l'umanità quando Harry mi portò al cottage avete pensato che io fossi semplicemente ignorante ero qualche cosa di peggio ero spaventata perdonatemi ma per alcuni giorni credetti di essere caduta nelle mani dei malvagi e volevo fuggire la prima persona che mi fece comprendere la verità foste voi mage non con le vostre parole ma con l'esempio della vostra vita quando vi vedevo amata e rispettata da vostro marito e da vostro figlio poi quando vidi questi operai felici e buoni venerare il signor star di cui in un primo momento pensavo che fossero gli schiavi quando per la prima volta ho veduto tutta la popolazione di Aberfoyle venire alla cappella ingignocchiarsi e pregare Dio e ringraziarlo della sua infinita bontà allora pensai mio nonno mi ha ingannata ma oggi per quello che voi mi avete insegnato penso che si è ingannato lui stesso vado perciò a riprendere le vie segrete per le quali l'accompagnavo altre volte sono certo che mi sta spiando lo chiamerò mi sentirà e chissà che tornando da lui non riesca a ricondurlo alla verità tutti avevano lasciato parlare la giovinetta ciascuno sentiva che doveva farle bene aprire interamente il cuore ai suoi amici proprio mentre nella sua generosa illusione credeva di doverli lasciare per sempre ma quando spossata con gli occhi pieni di lacrime tacque Harry si rivolse a Mudge mamma cosa penseresti tu di un uomo che abbandonasse una ragazza di sentimenti così nobili penserei mio caro Harry che quell'uomo è un vile e se fosse mio figlio lo rinnegherei lo maledirei Nell hai sentito nostra madre dovunque tu vada io ti seguirò se insisti a voler partire partiremo insieme Harry Harry esclamò lei ma la commozione era troppo grande le labbra della giovinetta si sbiancarono Nell cadde fra le braccia di Mudge che pregò l'ingegnere Simon e Harry di lasciarla sola con lei capitolo 21 il matrimonio di Nell si separarono ma prima fu convenuto che gli abitanti del cottage sarebbero rimasti più che mai in guardia la minaccia del vecchio Silfax era troppo diretta e bisognava tenerne conto c'era motivo di chiedersi se il vecchio penitente non disponesse di qualche terribile mezzo per distruggere tutta la nuova Aberfoil alle diverse uscite della miniera furono collocate guardie armate con ordine di vegliare giorno e notte qualunque estraneo arrivasse alla miniera doveva essere condotto da James Starr perché l'ingegnere potesse accertarne l'identità gli abitanti di Call City furono informati delle minacce che incombevano sulla colonia sotterranea Silfax non aveva nessun sostenitore in città perciò non si dovevano temere tradimenti di sorta Nell fu messa al corrente di tutte le precauzioni prese e per quanto non fosse interamente rassicurata la ragazza ritrovò un po' di tranquillità ma la decisione di Harry di seguirla ovunque aveva contribuito più di ogni altra cosa a strapparle la promessa di non fuggire nella settimana che precedette il matrimonio di Nell e di Harry nessun incidente turbò la nuova Aberfoil così i minatori senza venir meno preparata superarono il panico che ormai rischiava di compromettere i lavori James Tarr nel frattempo continuava a far cercare il vecchio Silfax quel vecchio vendicativo aveva dichiarato che Nell non avrebbe mai sposato Harry perciò bisognava credere che non sarebbe indietreggiato dinnanzi a nulla pur di impedire il matrimonio era necessario impadronirsi della sua persona senza tuttavia compromettere la sua vita si ricominciò a esplorare la nuova Aberfoil minuziosamente si frugarono tutte le gallerie fino ai piani superiori che sfioravano le rovine di Dundonald Castle giustamente si pensava che attraverso il vecchio castello Silfax comunicasse con l'esterno e facesse le provviste necessarie alla sua miserabile esistenza in parte comperando e in parte rubacchiando quanto alle dame di fuoco James Tarr ritenne che probabilmente il fenomeno fosse dovuto a qualche esalazione di gas in quella parte della miniera accesa da Silfax e non si ingannava ma le ricerche furono tuttavia vane James Tarr in quella lotta costante contro un essere inafferrabile diventò senza che gli altri se ne avvedessero il più infelice degli uomini più si avvicinava il giorno del matrimonio più crescevano i suoi timori un giorno si lasciò sfuggire le proprie inquietudini con il vecchio Overman e questi fu subito più preoccupato di lui il giorno tanto atteso finalmente arrivò Silfax non aveva dato segni di vita fin dal mattino la popolazione di Col City fu in piedi i lavori della nuova Berfoil erano stati sospesi capi e operai volevano rendere omaggio al vecchio Overman e a suo figlio ciascuno pensava in tal modo di pagare un debito di riconoscenza ai due uomini arditi e perseveranti che avevano ridato alla miniera la sua prosperità di un tempo la cerimonia doveva iniziare alle 11 nella cappella di St. Gilles che sorgeva sulla riva del lago Malcolm allora indicata Harry uscì dal cottage al braccio della madre seguito da Simon Ford e Danelle li accompagnavano l'ingegner James Tarr apparentemente impassibile ma preparato tutto e Jack Ryan elegantissimo nel suo costume di Piper poi venivano gli altri ingegneri della miniera le persone più autorevoli di Col City gli amici i compagni del vecchio Overman tutti i membri della gran famiglia di minatori che formava la popolazione particolare della nuova Berfoil all'esterno era una di quelle giornate torride di agosto pesanti da sopportare soprattutto nei paesi del nord l'aria burrascosa penetrava fin nelle profondità della miniera dove la temperatura era straordinariamente alta l'atmosfera si faceva man mano satura di elettricità attraverso i pozzi di aereazione e la vasta galleria di Malcolm si sarebbe potuto notare fenomeno abbastanza raro che il barometro a Col City era sceso di molto c'era da domandarsi se veramente qualche uragano non stesse per scoppiare sotto la volta di schisto che formava il cielo dell'immensa cripta tuttavia nessuno nella città sotterranea si dava pensiero delle minacce atmosferiche del di fuori ognuno si intende aveva indossato gli abiti più belli per l'occasione l'abbigliamento di Madge ricordava i costumi dei tempi andati sul capo portava un toy come le antiche matrone e sulle spalle il rocley specie di mantiglia a scacchi che gli scozzesi indossano con una certa eleganza Nell si era proposta di non lasciar trasparire nulla delle sue inquietudini seppe impedire al suo cuore di battere alle sue segrete angosce di tradirsi la coraggiosa fanciulla riuscì a mostrare a tutti un viso sereno e composto la semplicità dell'abito che la giovinetta aveva preferito ai più ricchi ornamenti la rendeva ancora più attraente come acconciatura portava semplicemente uno snood nastro variegato di cui si ornano comunemente le giovani caledoniane Simon Ford aveva un abito che neppure il sindaco Nicole Jarvie di Walter Scott avrebbe disdegnato tutti si diressero alla cappella di St. Gilles riccamente decorata per l'occasione sul cielo di Cole City i dischi elettrici ravvivati da correnti intense splendevano come tanti soli un'atmosfera luminosa riempiva tutta la nuova Aberfoil nella cappella le lampade elettriche mandavano luci vive e le vetrati dipinte brillavano come caledoscopi di fuoco il reverendo William Hobson che doveva ufficiare attendeva l'arrivo degli sposi sul portale di St. Gilles il corteo si avvicinava dopo aver costeggiata la riva del lago Malcolm allora si udì l'organo e le due coppie precedute dal reverendo Hobson si diressero verso l'abside di St. Gilles la benedizione celeste fu invocata per tutti gli astanti poi Harry e Nell restarono soli dinanzi al ministro che teneva in mano il libro sacro Harry volete prendere voi Nell in moglie e giurate di amarla per sempre lo giuro e voi Nell volete prendere per sposo Harry Ford e... la giovinetta non aveva neppure avuto il tempo di rispondere che un grande clamore che giò fuori della chiesa una delle rocce enormi che formavano le terrazze sovrastanti il lago Malcolm a circa 100 metri dalla cappella si era aperta a un tratto senza esplosione come se qualcuno avesse per tempo preordinato quella caduta al di sotto le acque si inabissarono in una caverna profonda di cui nessuno conosceva l'esistenza poi all'improvviso fra le rupi franate apparve una barca portata alla superficie del lago da una vigorosa spinta in piedi in mezzo alla barca si vedeva un vecchio con una specie di cocolla scura i capelli irti e una lunga barba bianca cadente sul petto in mano aveva una lampada d'avi nella quale brillava una fiamma protetta dalla tela metallica a un tratto con voce tonante il vecchio gridò il gas il gas guai a tutti nello stesso momento l'odore leggero dell'idrogeno protocarbonato si diffuse nell'atmosfera probabilmente il crollo della rupe aveva liberato un'enorme quantità di gas esplosivo raccolto in ampi serbatoi sotto la roccia schistosa le esalazioni del gas si levavano verso la cupola sotto una pressione di 5 o 6 atmosfere il vecchio conosceva l'esistenza di quei serbatoi e li aveva bruscamente aperti in modo da far esplodere l'atmosfera della cripta intanto il signor star e alcuni altri avevano lasciato precipitosamente la cappella lanciandosi sulla riva fuori della miniera fuori della miniera gridò l'ingegnere dal portone di St. Gilles avendo compreso l'imminenza del pericolo il gas il gas ripeteva il vecchio spingendo avanti la sua barca sulle acque del lago Harry trascinando la fidanzata il padre e la madre si era gettato fuori della cappella correndo all'impazzata fuori della miniera fuori della miniera ripeteva James Tarr era troppo tardi per fuggire il vecchio Silfax era là pronto ad attuare la sua ultima minaccia per impedire il matrimonio di Nell e di Harry e seppellire tutta la popolazione di Col City sotto le rovine della miniera sopra il suo capo volava l'enorme harfang rivestito di penne bianche chiazzate di nero ma allora un uomo si precipitò nelle acque del lago Malcolm e nuotò vigorosamente verso la barca era Jack Ryan gercava con ogni sforzo di raggiungere il pazzo prima che questi avesse compiuto la sua opera di distruzione Silfax lo vide arrivare spezzò il vetro della lampada e dopo averne strappato lo stoppino acceso presa ad agitarla nell'aria un silenzio di morte regnava fra tutti gli astanti terrorizzati James Tarr rassegnato si domandava con meraviglia perché l'inevitabile esplosione non avesse già distrutto la nuova barefoil Silfax con il volto contratto dall'ira comprese che il gas troppo leggero per mantenersi negli strati bassi si era ormai raccolto sotto la cupola ma allora l'arfang a un gesto di Silfax afferrando con la zampa lo stoppino acceso come faceva in altri tempi nelle gallerie della fossa d'Ockard cominciò a salire verso la cupola che il vecchio gli indicava con la mano tesa pochi secondi ancora e la nuova barefoil sarebbe stata distrutta in quell'istante Nell sfuggì dalle braccia di Harry serena e ispirata a un tempo corse verso la riva del lago fin sull'orlo dell'acqua arfang arfang vieni vieni da me l'uccello fedele sorpreso esitò un attimo ma a un tratto avendo riconosciuta la voce di Nell lasciò cadere lo stoppino acceso nelle acque del lago e andò a posarsi ai piedi della giovinetta tracciando un ampio cerchio nell'aria gli alti strati esplosivi dove il gas si era raccolto non erano stati raggiunti allora un grido terribile che già sotto la volta fu l'ultimo che gettasse il vecchio Silfax mentre Jack Ryan stava per mettere una mano sulla sponda della barca il vecchio vide sfuggire definitivamente la propria vendetta e si precipitò nel lago salvatelo vi prego salvatelo gridò Nell con voce straziata Harry la sentì e si gettò a nuoto per raggiungere Jack Ryan arrivato sulla barca si tuffò più volte ma i suoi sforzi furono inutili le acque del lago Malcolm non restituirono la loro preda si erano chiuse per sempre sul vecchio Silfax capitolo 22 la leggenda del vecchio Silfax sei mesi dopo questi avvenimenti il matrimonio di Harry Ford e di Nell interrotto in modo tanto strano veniva celebrato di nuovo nella cappella di St. Gilles quando il reverendo Hobson ebbe benedetto la loro unione i giovani sposi vestiti ancora di nero rientrarono al cottage James Starr e Simon Ford superate per sempre le loro inquietudini presiedevano allegramente alla festa che seguì la cerimonia e che si prolungò fino al giorno successivo in quell'occasione memorabile Jack Ryan con il suo costume di Piper dopo aver gonfiato d'aria l'otre della cornamusa ottenne il triplice risultato di suonare cantare danzare nello stesso tempo in mezzo agli applausi di tutta la compagnia e il giorno dopo i lavori dell'esterno e del fondo ricominciarono sotto la direzione dell'ingegner James Starr Harry e Nell ebbero da loro una vita felice questo si intende i due cuori tanto provati trovarono nella loro unione la serenità che meritavano Simon Ford Overman onorario della nuova Berfoil si augurava di vivere abbastanza da poter celebrare il cinquantesimo anniversario di matrimonio con la buona Madge che d'altra parte non chiedeva di meglio e dopo quello perché non aspettarsene un altro diceva Jack Ryan due cinquantesimi non sarebbero troppi per voi signor Simon hai ragione giovanotto che cosa ci sarebbe di straordinario se grazie al clima della nuova Berfoil in questo luogo dove non si conoscono intemperie si diventasse due volte centenari gli abitanti della nuova Berfoil avrebbero un giorno assistito a questa seconda cerimonia il futuro ce lo dirà in ogni caso un essere che sembrava dover raggiungere una longevità straordinaria era l'Arfang del vecchio Silfax l'uccello continuava ad abitare nel telebroso sottosuolo ma dopo la morte del vecchio a nulla valsero i tentativi di Nell per trattenerlo in capo a pochi giorni era fuggito via per sempre oltre ad avere in odio la compagnia degli uomini come il suo antico padrone sembrava che quest'uccello geloso servasse una specie di rancore particolare per Harry riconoscendo e detestando in lui il primo rapitore di Nell l'uomo al quale l'aveva contesa in vano mentre risalivano dall'abisso da allora Nell lo rivedeva solo a lunghi intervalli librarsi sul lago Malcolm forse veniva a rivedere la sua amica di un tempo oppure cercava di penetrare con lo sguardo Tito Silfax le due versioni erano sostenute con pari convinzione perché l'Arfang diventò un essere leggendario e ispirò a Jack Ryan più di una storiella fantastica e proprio grazie a questo allegro compagnone ancora oggi nelle veglie scozzesi si canta la leggenda del compagno del vecchio Silfax l'antico penitente della miniera di Aberfoyle fine la locanda della tormenta è stata lieta di presentare le indienere di Jules Verne grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto